Questo libro è stato scritto nelle lunghe ore che ho passato aspettando che mia moglie si vestisse per uscire. Se non si fosse vestito affatto, questo libro non sarebbe mai stato scritto. Prefazione, ovvero fatti chiari. Bel disegnino. So che il titolo di questo libro può trarre in inganno, ma esistono vari modi di piazzare un libro, come esistono vari modi per scuogliare un gatto. In realtà fra le due operazioni non c'è alcun nesso. C'era però una mia zia, la quale sosteneva e ripeteva che esistevano vari modi per scuogliare un gatto. Un giorno, durante un'ondata di caldo sull'East Side di New York, la zia cedette i suoi impulsi e alcune ore dopo arrivò un signore in camice bianco che la caricò su un furgone. La zia teneva ancora in mano la pelle del gatto. Beh, non era un bello spettacolo. D'altra parte, neanche la zia lo era. Chiunque allettato dal titolo, compri questo libro, si troverà leggerito di una discreta sommetta. Avrei voluto poter scrivere un vero libro erotico di quelli che finiscono in tribunale. Evidentemente nulla stimola l'interesse del pubblico per la letteratura più della notizia che l'autore è stato schiaffato in una galera federale per aver vellicato la libidine di milioni di americani. E adesso che abbiamo sistemato la questione del sesso, vediamo che altro c'è. Parte prima. L'amore più allegro. Capitolo 1. Viva la differenza. Altro bel disegnetto. Fino all'età di quattro anni ho ignorato la differenza fra i sessi. Stavo per dire fra i due sessi, ma oggi esistono tante varianti che se dite i due sessi è facile che i vostri amici vi guardino come un muffo anacronismo e si chiedano in quale caverna abbiate vissuto negli ultimi tre decenni. L'esistenza di un mondo più stuzzicante mi fu palese la prima volta il giorno in cui la mia unica zia, provvista di soldi e di modi raffinati, venne a fare visita mia madre. Era moglie di un noto attore di rivista e sebbene fosse ancora giovane era già stata a Chicago, a St. Louis e aveva perfino passato una notte a Denver. Aveva capelli rossi, tacchi alti e una figurina graziosa e snella, con tutte le curve nei punti giusti. So che la parola curve mi colloca in una certa epoca e mi dispiace solo che allora non ero abbastanza grande da collocare lei in un certo modo. Quando prevedo a noi tutto l'appartamento si riempì di un profumo esotico e seducente che solo dopo alcuni anni fu in grado di classificare come l'odore standard di un bordello. Naturalmente a quell'epoca non avevo la più pallida idea di ciò che stavo nelando. Per quanto ne sapevo avrebbe potuto essere un fluido balsamico, ma qualunque cosa fosse era eccitante e non somigliava nemmeno lontanamente agli odori che avevano usato fino ad allora. Nel nostro appartamento, rosecchiato dalle tarme, ero abituato al miscuglio di odori prodotto da quattro fratelli di solito non lavati, dalla zuppa di fagioli e da una fumosa stufa a cherosene. E ora eccomi lì, a respirare l'inebriante profumo che nei secoli aveva fatto fremere di desiderio gli uomini forti e gettato nella disperazione gli uomini deboli. Mia zia, che era eccezionalmente graziosa, mi guardò e mi sorrise con una sfumatura di ammirazione. Si voltò verso mia madre e disse «Sai, Ninni, Giulio sa i più deliziosi occhioni neri che io abbia mai visto!» Fino a quel momento non avevo dedicato ai miei occhi nemmeno un pensiero. Oh, sapevo di essere mio, ma non mi ero mai accorto di avere degli occhi fuori dall'ordinario. Ora, conscio di quella mia nuova attrattiva, sollevai le sopracciglia più che potrei e fissai la zia. Lei non mi guardò più, ma io continuai a fissarla. Sperando che se i miei occhi avessero continuato a schizzare fuori dalle orbite, alla fine lei mi avrebbe elargito un altro complimento. E invece niente. Era occupata solo a chiacchierare con mia madre e mi aveva completamente dimenticato. Continuai a camminare avanti e indietro sotto il suo naso, nella speranza che facesse qualche altro apprezzamento lusinghiero sui miei occhioni neri. Dopo un po' di tempo, i sullodati mi ridonevano per lo sforzo inconsueto e il profumo della zia cominciò a farmi girare la testa. E qui abbiamo un disegnetto della zia. Non ero ancora riuscito ad attirare su di me l'attenzione della deliziosa parente. Così, nel disperato tentativo di strapparle un altro elogio per le mie lanterne, cominciai a tossire. Non una tossettina delicata, ma una raffica costante di colpi cavernosi, tipo sanatorio, che facevano pensare vagamente a una lesbica nella parte di Margherita Gautier. A furia di tossire mi venne anche mal di testa, ma nonostante i miei caparbi tentativi di spremere dalla zia un altro complimento, lei non mi degnò più della sua attenzione. Alla fine mi resi conto che il mio caso era disperato e, barcollando sotto il peso dei miei malanni, mi allontanai dalla stanza, perplesso e febbricitante, ma felice per quel primo complimento che avevo ricevuto da una donna, anche se in fin dei conti non era che un'osservazione casuale da mia zia. Fu solo molto più tardi che, guardandomi in uno specchio, scoprì di avere gli occhi grigi. Capitolo 2. Quando i piccioni arrivano, l'amore se ne va. Molti anni fa, quando ero giovane scapolo, andavo matto per le ragazze. Non è una caratteristica insolita, specie per un giovanotto segnato dal destino come un potenziale maniaco sessuale. La verità è che se a un giovanotto non piacciono le ragazze, è più probabile che alla fine uno psiconalista gli dirà, naturalmente dopo 4 anni di sedute a 35 dollari l'una, che è innamorato della madre, o del padre, o del ragazzino della porta accanto. Direi che nessuna di queste tre alternative sia molto divertente per un giovane, o anche per uno non tanto giovane, e inoltre è noto che le deviazioni sessuali sono guardate con disapprovazione della società in generale. Perciò il mio consiglio a tutti i giovani è, cominciate a dar la caccia alle ragazze il giorno in cui cominciate a lasciarvi da soli le scarpe. E non mettetevi in testa stramberie che alla fine possono rovinarvi fisicamente e moralmente. E oggi, perfino politicamente. Per fortuna in questo settore io mi interessavo solo delle ragazze e di me stesso. Circostanza ancora più fortunata. A quel tempo portavamo in giro uno spettacolo di varietà lietato dalla presenza di otto pupe eccezionalmente ben portanti. Poiché eravamo solo quattro fratelli, otto ragazze in teoria significavano, se ve la cavate con i conti, due ragazze per ogni fratello. Ma la ragazza che volevo io sola. E questo lasciava sette ragazze per tre fratelli. Quando dico che volevo quella ragazza, non intendo dire che la volevo in maniera permanente. Tutto quello che volevo era portarmela in camera. Era un tipo di scozzesotta paffutella. E io avevo il pallino per la Scozia in quel periodo. Con i capelli rossi, un corpo delizioso e un eterno sorriso che di solito dedicava a me. Una sera dopo l'ultimo spettacolo eravamo seduti nel bar dell'albergo. Dissi Gloria, come se fosse un pensiero improvviso, mentre in realtà stavo architettando il mio piano da settimane. Se viene in camera mia possiamo sturare una bottiglia di spumante. È nazionale ma non si nota la differenza con un champagne francese. Spumante nazionale? Lo adoro. Non ci crederai ma giusto ieri ho letto nel Tribune di Minneapolis un articolo di non so quale intenditore di vini. Ecco, questo tipo sostiene fermamente che in molti casi lo spumante nazionale è superiore a quello importato. Ancora non avevo detto se avrebbe accettato il mio invito, ma il suo entusiasmo improvviso per lo spumante nazionale mi induceva a credere che molto presto quel bel corpicino si sarebbe venuto a rifugiare in camera mia. Me leccavo i bassi pregustando quel piacere. Lì per lì sembrava che la battaglia fosse già vinta. Purtroppo non era affatto così. La parte più difficile dell'impresa consisteva nel far arrivare Gloria in camera mia. Era facile superare il banco della ricezione. Molto più arduo era farla in barba ai detectives dell'albergo. Questi spioni erano continuamente in giro a ciondolare dal tramonto all'alba. Guardavano attraverso i buchi delle serrature e origliavano alle porte per scoprire se c'era qualcosa di sospetto. La gente di teatro era sempre sospetta e se un puliziotto d'albergo sentiva una voce femminile in una camera che doveva essere occupata da un uomo solo, poteva darsi che bussasse la porta gridando, se non vuole passare guai sarà meglio che faccia uscire quella donna. Avevo una bella camera con un balcone e due grandi finestre. Per non far nascere sospetti avevo detto a Gloria di prendere l'ascensore fino al nono piano dove lei aveva una stanza insieme con un'altra ragazza e poi di salire a piedi al decimo. Per far perdere le mie tracce salì per la scala posteriore e feci letteralmente di volare dieci piani, sospinto dall'immagine di Gloria, dei suoi capelli rossi e di quelle forme che, lasciate un pochino in libertà, avrebbero trasformato in soli cinque minuti la mia cella monastica in un campo di battaglia. Avevo dato a Gloria la mia seconda chiave e finalmente con il cuore palpitante, il mio almeno palpitava dopo quella corsa su per le scale, ci incontrammo nella mia camera. Che trionfo! Quali prospettive mi si schiudevano davanti! Mi sentivo come un Napoleone che attraversa le Alpi o come un MacArthur che cammina sulle acque. Era una notte terribilmente calda e dopo aver chiuso e sprangato ben bene la porta spalancai le finestre con uno stile degno di Rodolfo Valentino, se si eccetto al particolare che lui sembra vivesse sempre in una strada in mezzo alla sabbia. Le cose procedevano abbastanza bene. Lo sfumante era eccezionalmente buono, considerato il fatto che aveva appena due settimane di invecchiamento. Ce ne stavamo seduti a guardarci con occhi famerici, quando una coppia di piccioni volò nella stanza. Era un tocco piuttosto grazioso, pensai. Filavano. E anche noi filavamo. Tranne il fatto che io portavo le scarpe e fumavo un sigaro, non c'era poi una gran differenza fra noi. Quando Gloria e io ci facemmo più vicini, arrivò un'altra coppia di piccioni. Poi un'altra. Dapprima si appollaiarono sulla ringhiera del balcone, tubando. Da vecchio uccello amatore capivo, dai suoni che emettevano, che le loro intenzioni erano identiche alle mie. Dopo un po' la ringhiera era affollata e alcuni piccioni snob cominciarono a svolazzare per la stanza le ricerche di angolini più tranquilli. Come tutti sappiamo, fare all'amore può essere un'esperienza difficile nella migliore delle circostanze, ma con l'aumento dei pennuti era diventato addirittura impossibile. La camera da letto si era trasformata in una piccionaia e ormai l'imperativo categorico era... sopravvivere. Smisi di parlare con Gloria e cominciai a rivolgermi agli uccelli. Dapprima con tono piccionesco, basso e sua dente, ma questo non serviva molto e allora mi inizi a strillare. Penso che mi considerassero uno scemo che odia i piccioni, perché mi ignorarono completamente e continuarono a fare ciò che natura comanda. Mi resi conto che se non fossi riuscito a buttare fuori dal mio nido d'amore con gli spaventosi pennuti, ci avrei rimesso una bottiglia di spumante, per non parlare del resto. Mi rivolsi a Gloria, tesoro, ti dispiace andare un momento nel bagno? Lei parve sorpresa e risentita per questa proposta e con ragione. I nostri rapporti non erano ancora arrivati al punto in cui puoi ordinare l'amato bene di andare nel bagno. Senti, sono abbastanza grandina da sapere quando ci devo andare e in questo momento non ne ho bisogno. Se non vuoi farmi arrestare, devi andarsi. Spiegami un po', perché secondo te dovrei andare per forza nel bagno? Proprio in quel momento un piccione passò a volo rodente e mi beccò un orecchio. Agitai le braccia per abbatterlo, ma lo mancai. Piccola, ti amo, dissi disperato, ma ovviamente non possiamo andare avanti così. I piccioni hanno occupato la piazza e io devo mandare a chiamare i poliziotti dell'albergo. Sono sicuro che non è la prima volta che i piccioni invadano questa maledetta camera e sono altrettanto sicuro che la direzione dell'albergo deve avere già affrontato questo problema e deve sapere come risolverlo. Gloria arricciò al naso con sospetto, agguantò la bottiglia con lo spumante superstite e, dimenandosi con notevole dignità, andò a chiudersi in bagno. Cinque minuti dopo io introducevo in camera due muscolosi piedi piatti. Senza dire una parola si tolsero le giacche, chiusero le porte finestre, spalancarono la porta e cominciarono a sventrare le giacche addosso ai pennuti intrusi. Li guardavo mentre convogliavano i piccioni nel corridoio. Dello stessi i poliziotti sembravano due enormi e malvagi uccellacci da preda intenti a procacciarsi il cibo. Ancora non so come fecero uscire i volatili dall'albergo. Forse non li fecero uscire. Può darsi che li abbiano spinti verso la cucina per il pasto del giorno dopo. L'unica cosa che mi preneva era di buttar fuori dalla mia camera piccioni poliziotti e di far uscire Gloria dal bagno. Richiusi a chiave la porta e gridai Gloria dolcezza mia ti adoro puoi uscire adesso. Appena comparve annunciò. Mi sento male e me ne vado in camera mia. Questa è l'ultima volta che assaggio uno spumante nazionale. E questa fu l'ultima volta che riuscì a stare vicino a Gloria se non sul palcoscenico con altre sette ragazze e tre fratelli. Sick transit Gloria. Capitolo 3. Un appuntamento al buio può essere una scatola sorpresa. Ero a New York solo, bello e con un guardaroba che era uno schianto, del quale non mi curavo né punto né poco. Quello che desideravo e di cui avevo bisogno era una persona da amare. Ma ero stato assente da Manhattan per un po' di tempo e il libricino nero degli indirizzi che avevo conservato gelosamente per tanti anni era vuoto quasi quanto la mia testa. Fiducioso sfogliai le pagine spiegazzate in giallite e richiusi di chiamare qualche vecchio numero. Il primo apparteneva un grazioso bocconcino che rispondeva al nome di Madeleine. La ricordavo vagamente. 19 anni, misure 92-61-92 e una carnagione di latte e pesca. In realtà non so che specie di carnagione sia questa ma l'ho letto in tanti romanzi di Henry James che sono sicuro debba avere qualcosa a che fare con la campagna del salve. E se va bene per il buon vecchio Henry può andare bene anche per me. Col cuore che mi batteva ormai il numero. Speranzoso e impaziente di sentire il tintinio di quella voce che in altri tempi mi aveva sempre fatto pensare i campanellini di un tempio giapponese. Devo confessare che paragonavo la sua voce ai campanellini di un tempio giapponese solo perché ero da poco andato a vedere una ripresa del vecchio 30 secondi su Tokyo ma non pensiamo più alla guerra. È un argomento spiacevole sul quale è stato scritto con un'insistenza che ormai è diventata eccessiva. Mi risposero quasi subito ma fu una delusione. Non erano i campanellini di un antico tempio giapponese. Quella che mi rispose era una voce resa baritonale dall'abbondante uso di whisky di annata. Non so che aspetto avesse quell'uomo ma agli occhi della mia mente si presentò come un tarchiato gorilla dalle spalle larghe che forse guidava un enorme camion per il trasporto delle carni destinate a qualche stabilimento conserviero. In ogni modo ero troppo spaventato per chiedere dove fosse la bella Madeleine. Una cosa sapevo di sicuro. Non era Madeleine. E se putacaso fosse stata Madeleine non credo che mi sarebbe importato di passare la serata con lei. Provai altri quattro numeri. Due delle ragazze che chiamai, triste a dirsi, non erano più ragazze. Curioso ma erano cresciute. Avevano mariti, figli, carrozzine, pannolini bagnati e mutandine di gomma. Non erano loro a portare le mutandine di gomma. Mi riferivo ai marmocchi. Ne avevo eliminate tre e me ne rimanevano due. La prima a cui telefonai si chiamava Pradence ma ripensando a una memorabile corsa in taxi devo ammettere che il suo nome smentiva il suo comportamento. Mi rispose la madre che ciarlò per quindici minuti prima che riuscissi a dirle il mio nome. Mi disse che sua figlia si era data al teatro e che in quel momento stava facendo una tournée una sera per piazza con la compagnia numero tre di Bulli e Poupe. Dovrebbe vederla, disse. L'ho vista a Waterloo, Iowa e anche se sono sua madre devo dire che era un pugno in un occhio. Questa breve descrizione della figlia non era troppo allettante. In ogni modo se vuole mettersi in contatto con lei so a memoria il giro che fanno. Da Waterloo vanno a Dubuque, Sedarapis, Grand Forks, Fargo a Persandaski, Est Liverpool e poi tre giorni a San Diego. Fanno le cose in grande, disse Fiera. Hanno due autobus, uno per la compagnia e uno per gli attrezzi. Ricorda la scena in cui le balleride in persone delle ragazze dell'esercito della salvezza? Beh, come lei sa dovrebbero essere vergini. Davvero? Non sapevo che... Sì! Mi interruppe lei. Ci sono dodici ragazze in quella scena ma mia figlia Pradence, devo proprio dirlo, è l'unica che abbia l'aspetto di un'autentica vergine. Ricordai quella sera in taxi con Pradence e... Beh, se quella era una vergine allora Giovanna d'Arco era seconda base nella squadra degli Indians di Cleveland. Mentre la vecchia madre continuava a gracidare, riattaccai piano piano. Poi provai con Celia, l'ultimo numero del mio libricino nero. Avevo già investito cinquanta cents in telefonate. Ricordavo molto bene Celia. Era esile, con lenti a contatto, il sedere piatto e un seno soddisfacente agli effetti pratici. Era graziosa ma, disgraziatamente, era un intellettuale. Viveva nel Greenwich Village, non andava mai in nessun posto, nemmeno al bagno, senza stringere fra le mani un libretto sottile rilegato in pelle con le poesie di Emily Dickinson. Non feci questa telefonata con eccessivo entusiasmo ma, se vi è capitato di trovarvi soli in una camera d'albergo, con una pioggerella fitta, che picchia contro i vetri della finestra, mentre i clacson dei taxi che passano vi fanno pensare le coppie felici dirette verso le loro destinazioni, saprete che non ci vuole molto per convincersi che la cosa migliore è buttarsi giù dalle grattacielo Chrysler, oppure nelle braccia di Celia. Quest'ultima telefonata ebbe lo stesso esito di un petardo bagnato. Celia evidentemente non era a casa e, se c'era, stava facendo qualcosa che non riesce bene se viene interrotta. Sconsolato e solo, decisi di cenare al colore. Mi vestì rapidamente ma, nella fretta, calpestai gli occhiali. Per fortuna avevo quelli da sole, e, malgrado ci vedessi pochissimo dietro le lenti affumicate, al ristorante mi riconobbero, già che il maitre mi fece accomodare a un tavolo vicino alla cucina. Come in tutti i buoni ristoranti, alcoloni servono con lentezza e con tutto comodo, tanto che quando arrivò al consumé avevo già letto il menù 46 volte. Lo potrei ancora ripetere a memoria, parola per parola, specialmente i prezzi. Filetto di sogliola in salsa bianca, dollari 4,25. Accidenti! Si può comprare l'intera vasca di pesci rossi con il mangine per un anno a 1,75. Ero annoiato. Non mi ero mai reso conto di quanto fosse scocciante la mia compagnia fino a che non mi ero trovato seduto lì da solo. Avevo già sentito infinite volte tutto ciò che avevo da dire e non ero disposto ad ascoltarmi ancora. Mentre mangiavo il pesce, per distrarre la mia mente dai prezzi, mi misi a occhieggiare un'attraente ragazza seduta circa otto tavoli più in là. La fissai con le mie varie espressioni. Sardonica, aperta, gioviale, bramosa. Proprio nel bel mezzo del mio sorriso bramoso una piccola lisca mi andò di traverso. E ci vollero cinque minuti di pacche sulla schiena da parte di un giovane cameriere prima che la natura avesse pietà di me e facesse trovare alla lisca la strada giusta. Ho finito, dissi. Mi porti il conto. Sul punto di andarmene decisi di dare un'altra occhiata alla deliziosa creatura che aveva quasi provocato la mia immatura scomparsa. Passai con non curanza davanti al suo tavolo e, con viva contrarietà, mi accorsi che tutti i miei sorrisi erano stati sprecati. L'oggetto delle mie attenzioni si rivelò una vecchia baffuta signora. Non si dovrebbe mai portare occhiali scuri quando si vuole occhieggiare una donna. Malgrado una dose generosa di sonnifero, dormì malissimo. Non sogna i saloni marmorei, ma una ragazza della compagnia numero tre di Bugli e Poupe, che leggeva Emery Dickinson e un giovane cameriere del ristorante Colony, mentre una vecchia signora coi baffi neri ballava per le strade del Greenwich Village con un camionista che si chiamava Madeleine. La mattina dopo il fatto venne in mio soccorso. Un ex attore che aveva fatto un fiasco clamoroso in teatro, avendo letto nelle cronache mondane che ero in città, mi telefonò per darmi il benvenuto a New York, per comunicarmi che aveva fatto fortuna nell'industria dell'abbigliamento e per chiedermi se poteva fare qualcosa per me. Erano le parole più dolci che avessi sentito in questa parte del paradiso. Non vedevo quel tipo da anni, ma, se ricordavo bene, aveva un fiuto particolare per le donne. E adesso che era nell'industria dell'abbigliamento aveva di sicuro sotto mano le più desiderabili indossatrici di New York. Poteva fare qualcosa per me. Che domanda fantastica! Quelle parole rimarranno scolpite per sempre nella mia memoria. Mi chiese che cosa stavo facendo nella grande metropoli e io gli risposi con tutta sincerità. Niente. O mangiavo e dormivo, ma non ero andato a New York per dormire. Almeno non da solo. Questo avrei potuto farlo anche a Chilicot o Aio e forse anche meglio. Quello che andavo cercando era una compagna, una creatura bella e affascinante che pendesse dalla mia labbra e che si piegasse a tutte le mie voglie. L'istinto non lo tradì. In altre parole, vuoi una donna? Centrato! Il mio amico disse Coccobello. Questo è il modo di esprimersi nell'industria dell'abbigliamento. Ho in serbo qualcosa di cui non hai mai visto l'uguale. È una cannonata, una bellezza al cento per cento. Naturalmente non è un'aquila, ma se desideri fare conversazione ti posso mettere in contatto con un professore della Columbia. Un tipo molto simpatico sulla cinquantina. Senti, cervellone, dissi. Lascia perdere i sarcasmi di bassa lega, i preliminari e vieni al dunque. Come e dove potrò incontrare questa bellezza impareggiabile? Beh, di giorno lavora. Ti andrebbe di prelevarla nel salone del plaza alle sette di questa sera? Ottimamente! Ma non può darsi che ci siano altre ragazze nel salone. Come faccio a riconoscerla? Avrà una rosa sull'orecchio? Groucho, disse lui ridendo. Non ti preoccupare, la riconoscerai. Sarà la ragazza più favolosa di tutto il salone del plaza. Questo mi bastava. Dopo colazione uscì e andai a farmi aggiustare gli occhiali. Dopo pranzo mi feci massaggiare, sbarbare, tagliare i capelli. Affidai le mie mani a una manicure e mi sottoposi per un'ora ai raggi della lampada. Mi avevano avvertito di starci non più di quindici minuti, ma volevo essere sicuro di avere un aspetto atletico. Così rimasi stupidamente per un'ora sotto la lampada. Quando mi tirarono fuori, svenni. Telefonai un'agenzia e prenotai due poltrone in prima fila per morte di un commesso viaggiatore. Non avevo mai visto quel lavoro. Sapevo che non era molto allegro, ma mio padre aveva fatto senza successo il commesso viaggiatore ed ero curioso di vedere se il protagonista del dramma era sfortunato quanto lo era stato il mio vecchio. Quando arrivai al plaza, non essendo in possesso di alcun segno di identificazione, pensai che dovevo andare molto cauto negli abbordaggi. Vedi molte graziose ragazze che entravano e uscivano svolazzando attraverso le porte, ma la maggior parte purtroppo erano accompagnate. Alzai gli occhi verso la balconata e improvvisamente scorsi una squisita creatura che con gesti frenetici mi faceva segno di salire. Mentre mi avvicinavo, vidi che era in compagnia di un giovanotto basso, ben vestito, con pantaloni attiratissimi e carico di gioielli. Quel tipo portava più gioielli di quanti ne porti di solito la media delle donne. Mi è difficile descrivere l'abbigliamento di lei perché non sono molto bravo in questo genere di cose. Abito di lame dorato, sandali dorati senza calze, smalto rosso brillante sulle unghie. Le chiome rosso fiamma erano raccolte in cima alla testa e sostenute da un altro traliccio di fili dorati. Pensai fra me, se quest'antenna è provvista di elettricità posso sintonizzarmi su Mosca e dire a Khrushchev cosa penso di lui. Dopo un attento esame cominciai a pensare con un certo disagio a questa avventura a scatola chiusa. Inoltre quel piccolo e strano accompagnatore che si pavoneggiava al suo fianco mi lasciava un po' perplesso. Mi misi a fare delle congetture. Chi era quell'elfo? Suo padre? Sua madre? Suo fratello? E il suo amante? Mentre ero immerso in queste meditazioni lei risolse il problema. Le presento Cécile Dever, il mio partner di ballo. Feci un inchino garbato. E adesso? Dovevamo passare la serata insieme tutti e tre? Partner di ballo, ripetei. Lei notò l'espressione angustiata del mio viso. Scusi, dissi, ma lei è l'ingiostratrice con la quale secondo ciò che mi ha detto Sam Berni avrei dovuto passare la serata? La fanciulla ridacchiò, dette al suo compagno una spinta scherzosa e mi spiegò rapidamente. Cécile e io abbiamo partecipato a questo pomeriggio a una gara di ballo al Morocco. Abbiamo vinto il primo premio, un magnum di champagne. Questa era una simpatica notizia. Champagne per tutti. Dov'è? Chiesi. Oh, disse lei ridendo. L'ho venduto al capocameriere. Di solito ci incontriamo qui nella balconata per dividerci i quattrini. Vendiamo tutti i premi che vinciamo. La settimana scorsa ci siamo beccati un terrier yorkshire. Uno schianto con il twist. Scusi un momento, dissi. Vuol dire che il cane balla il twist. No sciocco, uggelò lei, dandomi una spinta così vigorosa che per poco non volavo giù dalla balconata. Noi abbiamo ballato il twist. Sa bene che un cane non può ballare il twist. L'avevo dimenticato, dissi. Liberati del figurino, le sussurrai e andiamo a cena. Cécile, disse lei rivolta al compagno. Ci vediamo domani al Morocco. Ciao. Lui fece un lieve inchino. Mi tese una mano molle e taglio la corda. Sai, andiamo a teatro, ti dissi. C'è un posto particolare in cui ti piacerebbe cenare? Tesoro, mi disse sorridendo. Sono nelle tue mani. Dissi fra me. Adesso no. Forse più tardi. Resi tanto di gusto per questa battuta inespressa che poco mancò che gli occhiali non partissero di nuovo. Fuori dal plaza chiamai un taxi. Ti porti alla Moors Chop House. Moors è un famoso ristorante nel cuore del quartiere teatrale e lo avevo scelto perché sapevo che di là potevamo raggiungere il teatro in pochi minuti. Ma avevo dimenticato che Morse è forse il locale più sfarzosamente illuminato di New York. La mia compagna era molto alta e con la sovrastruttura di quell'antenna dorata doveva arrivare circa al metro e ottantacinque. Io sono alto 1,71 e dovevamo apparire una coppia piuttosto bizzarra mentre ci avviavamo insieme verso la nostra tavola. Insomma, avevamo calamitato tutti gli sguardi. Quando entrammo, un silenzio di tomba calò nel ristorante. La gente smise di mangiare e di bere per fissare quell'incredibile duo. Avevo dimenticato quanto la mia accompagnatrice fosse sgargiante. Il suo abbigliamento sarebbe stato sensazionale in un grande spettacolo di rivista ma in un ristorante sfarzosamente illuminato, frequentato da libratori, giocatori d'azzardo e gente di teatro. Sembrava un po' fuori posto. Cominciai a desiderare di scivolare sotto il tavolo per consumare là sotto la mia cena. Ordinammo da bere e decisi di impegnarla nella conversazione. Forse in quel modo avrei potuto obbligare ciò che avevo davanti agli occhi. Sei mai stata al Polo Grounds? Azzardai. No, agitò l'antenna. Non le importava niente del Polo. Pare che fosse solita frequentare un tipo che giocava al Polo contro la squadra inglese a Meadowbrook, Long Island, ma c'era stata una rottura perché lui passava quasi tutto il suo tempo con i cavalli. Io lo avverti, disse lei. Un giorno gli feci. Foxal, se preferisci stare con un cavallo puzzolente piuttosto che con me puoi pure andare all'inferno. Penso che questo abbia urtato... E lei? Penso che questo abbia urtato la sua sensibilità perché non ho più sentito parlare di lui. O forse ha accettato il tuo consiglio e adesso è laggiù. In quel momento desideravo di essere laggiù con lui. Cercai di spiegarle in poche parole che ai Polo Grounds giocavano a baseball. Lei disse che non aveva mai visto una partita di baseball ma che aveva sempre avuto l'impressione che il baseball fosse stupido. Allora tentai un'altra strada. Dove abiti? A Seattle. È piuttosto lontano, no? Oh no, vado a casa per ogni fine settimana. Non è un taglio piuttosto forte sulla paga di un'indossatrice? Non per me. Ho un amico a Seattle che mi paga l'aereo. Adesso ero certo che Sam Bernin aveva fatto uno scherzo volgare. Chi mai fa il pendolare con Seattle? Per fortuna proprio in quel momento arrivò la prima portata che pose fino alla conversazione. Quando ci alziamo per andarci nel ristorante si fece di nuovo il silenzio. Come prima tutti si voltarono a guardare la gigantessa e il suo smilzo compagno che uscivano. Per un momento ebbi paura che scoppiassero un applauso. Entrammo in teatro circa cinque minuti prima che si alzasse il sipario. Mentre veleggiavamo lungo il corridoio verso le poltrone di prima fila il silenzio calò sulla platea. Le donne smisero di lasciar cadere i guanti. I loro accompagnatori smisero di raccoglierli e tutti gli occhi si puntarono su quella coppia male assortita che andava a prendere posto. Sono certo che nel corso dello spettacolo non ci sarebbero mai stati tanti occhi fissi sul palcoscenico quanti ce n'erano in quel momento fissi su di noi. Lei sembrava una barca con tutte le vere spiegate al vento. E dietro trotterellava, a testa china, una sbigottita nullità che cercava disperatamente di non pestarle il vestito. A causa della conciatura sembrava anche più alta quando stava seduta di quando stava in piedi. Ed ero convinto che nessuna nelle cinque file dietro di lei avrebbe visto molto dello spettacolo. Per coloro che non conoscono morte di un commesso viaggiatore dirò che si tratta di uno dei lavori più tragici dei nostri tempi. È la storia di un commesso viaggiatore, solo, vecchio, fallito, schiacciato dalla vita e dalle circostanze che pencola fra l'autodistruzione e l'omicidio. Col procedere dell'azione l'atmosfera in sala cambiò. L'allegria e il chiacchiericcio che precedono di solito all'inizio del primo atto erano scomparsi. Il pubblico era silenzioso e teso. Improvvisamente, con mio orrore, quella vuota, bella carcassa che sedeva al mio fianco scoppiò in una risata fragorosa attirando su di sé l'attenzione di tutti gli spettatori. Tentai di sprofondarmi ancora di più nella poltrona, ma ormai ero già arrivato quasi a terra. Un'altra quindicina di centimetri mi sarei ritrovato nella fossa dell'orchestra. Le affondai un gomito alle costole. Cara, mormorai con tutta la cattiveria di cui fui capace. Sta zitta. Questo è un dramma. Le tue risate disturbano il pubblico. Un dramma? Guai lei ad alta voce. Ma questa è una delle cose più divertenti che abbia mai visto. Beh, sarà divertente per te, ma disturbi tutti gli altri. Lei scoppiò a ridere. Groucho, tu scherzi sempre. Pensa pure che sono una stupida, ma io capisco subito quando è uno spettacolo divertente. Forse avrei potuto svignarmi dalla chetichella e piantarla lì, ma ce l'avevo portata io in teatro, quella pazza, e per rispetto verso gli altri spettatori mi ritenevo in dovere di trascinarla via. Tesoro, non mi sento bene. Ho mal di stomaco e sto per vomitare. Non ho mai vomitato in un teatro e poiché questo tappeto sembra nuovo di zecca, penso che mi convenga uscire. A questo punto arrivò correndo il capo maschera. Mi riconobbe e disse Mr. Marx, la sua amica si sente forse male? Sembra in preda un attacco isterico. Se crede posso accompagnarla in direzione e chiamare un medico. Oh no, non è niente di serio, lo rassicurai. È una cosa piuttosto intima, ma poiché lei è il capo maschera credo di potermi confidare. Vede, il reggiseno troppo stretto le dà un risentimento al nervo sciatico. Ogni volta che lo sente prendere lancia un grido che può sembrare una risata. Comunque la direzione mi manda a dire che disturba al pubblico. Allora le afferrai un braccio e le dissi, mi sento male, vieni, andiamo via, ti porterò a teatro un'altra sera. Si alzò contro voglia e la trascinai letteralmente lungo il corridoio. Sono sicuro che quando Colombo posò per la prima volta gli occhi sull'America, non fu più felice di quanto lo fui io, allorché, uscendo dal teatro, vidi un taxi vuoto vicino al marciapiede. Eureka! gridai. Che vuol dire Eureka? volle sapere lei. Niente. È il nome dell'autista del taxi. Mo Eureka, l'ho preso tante volte. Detto ciò, ficcai nella macchina la mia bella, che ora aveva l'antenna dorata un po' sbilenca a caso del tetto basso. Sbattei la portiera, diede all'autista dieci dollari e gli dissi, Eureka, porta la signora dovunque voglia andare. Dopotutto, la vuota camera d'albergo non mi appariva più tanto in ospitale. Lanciai un bacio al taxi che si allontanava rapidamente e scomparvi correndo nella direzione opposta. Nel limbo! Atmosfera Capitolo 4 Il mio migliore amico è un cane Un uomo nella mia posizione, orizzontale in questo momento, deve rassegnarsi a sentir circolare molte storie curiose sul suo conto. Per esempio, alcuni anni fa corse voce che mi fossi ubriacato bevendo champagne in una scarpina di Sophia Loren. È una calunnia bella e buona. Sono disposto ad ammettere che ho cercato di bere il liquido spumeggiante della sua scarpina, ma lei non volle saperne di sfilarsela. Così, approfittando di un momento in cui non mi guardava, lo bevi della sua borsetta. E mancò poco che morissi soffocato quando insieme con il vino mandai giù anche il rossetto. E adesso dicono che non amo i cani. Proprio così, che non amo i cani. Diamine, se ho un amico al mondo è la mia danese Zaza. Siamo stati compagni inseparabili per anni. L'unico motivo per cui non mi ha seguito quando sono venuto ultimamente a New York è perché non aveva il biglietto del pullman. Senza di lei New York è un posto molto malinconico. Tanto malinconico che quando vedo nella hall dell'albergo una bella ragazza con un cane, gli occhi mi si riempiono di lacrime e invito il cane al bar a prendere un drink. Negli otto anni che abbiamo passato insieme, Zaza e io non abbiamo mai litigato. Oh, qualche volta mi morde, ma io le restituisco subito al morso. Devo pure insegnarle chi è che comanda in casa. Per il guardaroba di Zaza non spendo più di quanto abbia mai speso per il guardaroba di qualsiasi donna. E lei non mi ha mai chiesto, nemmeno una volta, un collare nuovo solo perché il cane di fronte aveva un collare nuovo. Non è mai venuta in un nightclub con me e non si è mai lamentata del fatto che mentre Fred Astaire, pur non essendo un ragazzino, balla il twist, io non sono capace di buttare via la cicca e di scuotere le mie vecchie ossa. Vi garantisco che Zaza non ha mai detto caro, perché non prendi qualche lezione di ballo? Ormai nessuno balla più la mazzurca. Non mi fraintendete, non sto affermando che i cani debbano sostituire il gentil sesso di cui abbonda il nostro grande paese. Su questo punto ogni uomo deve decidere da sé. Personalmente non vedo perché un uomo non debba avere un cane e una donna, ma se potete permettervi solo l'uno o l'altra, scegliete il cane. Per esempio, se il vostro cane vi vede giocare con un altro cane, corre forse dall'avvocato per abbagliare che il vostro matrimonio è naufragato e che vuole 600 ossi al mese di alimenti, l'automobile buona e la casetta da 40 mila dollari sulla quale grava ancora un'ipoteca di 19 mila dollari? Solo una volta un cane mi ha deluso. Fu quando portai a casa dallo studio cinematografico il grosso San Bernardo Alonso. Lavorava in un film con una paga di 12 dollari al giorno e mi sembrava solo. Avrei portato a casa con slancio anche maggiore un cane che avesse guadagnato 1500 dollari la settimana. Lessi, per esempio. Ma quei tipi di cani li frequentano un ambiente molto più raffinato di quello che sono solito frequentare io. Ad ogni modo, Alonso era un animale molto intelligente e la sua abitudine di scolarsi il nostro brandy credo fosse tipica dei San Bernardo, anche se molti miei amici bipedi fanno la stessa cosa. Fui un po' seccato quando Alonso si rifiutò di mangiare a casa mia. Disse che preferiva prendere i pasti in una salumeria vicina. Non che a casa mia si mangi male, non vorrei che lo pensaste, anche se molti me l'hanno fatto notare. Una tizia una volta mi disse questa roba non la mangerebbe neanche un cane. Alonso era lì per caso e forse per questo da allora decise di mangiare fuori. Naturalmente mi urtavo quando Alonso usciva, ma tenevo il becco chiuso. Dopotutto guadagnava 12 dollari al giorno, cioè 8 dollari più di quanto riuscissi a mettermi ne io insieme a quel tempo. Dopo una settimana che Alonso viveva con me, ricevete il grande colpo della mia vita. Un sabato sera, mentre stavo insegnando il livello del liquore sulle bottiglie di brandy, un ometto tirò fuori la testa dalla pelle di Alonso e mi chiese la paga. 12 dollari al giorno. Certo, avrei dovuto sospettare che qualcosa non andava la volta in cui la mia amichetta entrò in salotto con il gatto. Invece di dare la caccia al gatto, come dovrebbe fare un cane, Alonso aveva dato la caccia alla ragazza. Forse è stato questo incidente a far nascere la maligna diceria che io non amo i cani. La gente smise di invitarmi a casa, la stessa gente che non mi invitava da anni. Le signore mi passavano accanto senza curarsi di farmi la riverenza e il mio barbiere arrivò perfino a tagliarmi la faccia. Fu questo che mi fece più male. Nonostante tutto a me bastava che il mio cane mi rimanesse fedele. Il mio prorompente amore per i cani non mi impedisce naturalmente di amare altri animali. Per tutta la vita ho avuto in casa bestie di ogni specie, magari un lontano parente o una puzzola e, credetemi, non c'è una grande differenza. Una volta quando ero bambino mi regalarono due porcellini d'India che con una certa difficoltà imparai ad amare come fratelli. Si è detto per inciso, imparare ad amare i miei fratelli fu molto più difficile. Dunque i porcellini d'India si installarono nella nostra cantina e un pomeriggio scoprì che il pavimento della cantina era letteralmente coperto di porcellini. A quel tempo il mio cuore era più piccolo di quanto non lo sia oggi e io riuscivo ad amare al massimo 30-40 porcellini d'India. Ero nell'imbarazzo. Avete mai passato un pomeriggio nell'imbarazzo con 96 porcellini d'India? Vendiamoli, suggerì il mio fratello Arpo. Se è tutto qui quello che hai da dire, risposi, farai meglio a non aprire più bocca. Fino a oggi Arpo non ha mai più parlato e non vi so dire quanto piacere mi abbia fatto. Un altro fratello, Gummo, scese in cantina e disse anche lui vendiamoli. Poiché nessuno dei miei fratelli provava il benché minimo entusiasmo per quei pelosi roditori, prese in considerazione il suggerimento e andai in un vicino negozio di animali per cercare di vendere i miei 96 porcellini d'India al misero prezzo di 20 dollari. Il negoziante si grattò la testa. Poi si mise a camminare su e giù, prendendo a calci due porcellini d'India che gli erano accapitati fra i piedi. «Sai cosa faccio?» disse. «Ti do cento porcellini d'India per niente. Ci aggiungo un kakatoa e in più tre dollari sonanti». Ma veniamo al nocciolo di questa storia. In fatto di bestiole non c'è niente che regga il confronto con una modesta ballerinetta senza pedigree. Come il gatto maltese, la ballerinetta si attacca a qualsiasi uomo che la mantenga. Ma sfortunatamente la somiglianza si ferma qui, perché mentre potete tenere il gatto maltese in cantina con una tazza di latte, la ballerinetta pretende di mangiare al pavillon o al 21, dove due persone possono fare un buon pranzo con circa 68 dollari. Naturalmente esclusa la mancia. La bestiola che può permettersi un povero uomo non è certo una ballerinetta, ma ciò nonostante spero di possederne una prima o poi. capitolo 5. Scavallandomi con gli ormoni. La moda in medicina cambia molto spesso, quasi quanto quella degli abiti femminili. Il tocca sana di oggi diventa lo spauracchio mortale di domani. Adesso la maggior parte degli specialisti in coronaria terrorizzano i loro pazienti con il colesterolo. Il grassone è oggi combattuto fra la ghiottoneria e la sopravvivenza. Viene avvertito che se non si libererà dell'ardo eccessivo si ritroverà con un piede nella fossa. Gli alimenti raccomandati oggi dagli igienisti sono invoglianti come una dieta di carta assorbente bagnata. Le uova sono veleno e i ricchi che una volta arricciavano il naso quando sentivano parlare di margarina, adesso se la pappano come se fosse un cibo prelibato. Ieri sera ho fatto una tipica cena esente da colesterolo. Cucuzza al forno, latte scremato e gelatina. Sono certo che questa dieta non mi farà vivere più a lungo, ma so che mi farà sembrare la vita molto più lunga. Ricordo quando era di moda togliere le tonsille a tutti i marmocchi i cui genitori fossero provvisti di grana. Conoscevo un ragazzino che aveva i piedi piatti. La madre lo portò dal dottore. Quell'emminente clinico, non disponendo di alcun rimedio per i piedi piatti, ma avendo urgente bisogno di un'entrata extra per pagarsi un altro anno di scuola di perfezionamento, gli levò le tonsille. La madre gli fu tanto grata per questa rimozione che gli permise di asportarle l'appendice. Alcuni mesi dopo il medico si portò via la madre. E lei lo pagò anche per questo, ma non divaghiamo. Parecchi anni fa il testosterone conquistò le prime pagine dei giornali. Era un siero magico proveniente da Vienna, un estratto da una certa parte del cavallo. Non starò a dire pubblicamente di quale parte si tratti. Posso solo precisare che se non fosse per quella parte oggi non ci sarebbero più pulidrini. Secondo la teoria corrente, con dodici iniezioni nell'arco di tre mesi si poteva riconquistare il vigore e la vitalità di uno stallone di quattro anni. Per un uomo con la pressione bassa e con periodiche tendenze suicide, era come trovare la scorciatoia per raggiungere la leggendaria fonte dell'eterna giovinezza con annessi e connessi. Un'ora dopo aver letto questo articolo, rivelatore, ero già nello studio di un medico a farmi praticare la prima iniezione. Ogni mattina, quando mi alzavo, andavo pieno di speranza a cercare nello specchio la mia svanita giovinezza. Vedevo molte cose in quello specchio. Vedevo una faccia decrepita sull'orlo del disfacimento, un mento cascante e una batteria di denti cariati, ma non riuscì mai a vedere qualcosa che assomigliasse a ciò che avevo sperato. Dopo la dodicesima punzecchiata dovetti concludere a malincuore che si era trattato ancora una volta di una trappola e di un inganno, che il dottore era uno sporco imbroglione e che le rose prospettive intraviste erano un miraggio sessuale assolutamente irraggiungibile, a meno che non ci fosse qualcosa di vero in quella panzana della reincarnazione. Alcuni mesi più tardi, mentre ero diretto all'ospizio dei poveri, mi imbattei in quel ciarlatano, diretto in banca, che aveva già pompato ben 240 dollari dalle mie tasche per introdurli nelle sue. «Groucio!» esclamò, retrocedendo di qualche passo per studiarmi. «No, non può essere, Groucio! Possibile che sia lo stesso uomo che venne a trovarmi tre mesi fa? Quel rottame umano!» «Caspita, ma lei non dimostra un giorno più di 30 anni! È sicuro di non essere Tony Curtis?» «Certo che sono sicuro», risposi asciutto. «Sono Groucio Marx e, se non è ancora convinto, vado a casa a prendere la patente». Mi rivolse un sorriso falso e continuò imperterrito. «Ritengo che le iniezioni di testosterone siano state efficaci, altrimenti sarebbe tornato da me. Sembra un uomo nuovo!» «Come si sente?» chiese, accarezzando la tasca che conteneva i miei tracquattrini. «Uno schifo», risposi. «Ehm...» biascicò, tirandosi pensieroso il lobo dell'orecchio sinistro. «Forse che le iniezioni non sono andate bene?» «Oh, le iniezioni sono andate benissimo, dottore, ma la medicina non vale un tubo». «Vi... vuol dirmi che il testosterone non le ha fatto niente?» «Beh, sì, ha fatto! Ieri sono stato all'ipodromo di Sant'Anita e ho corso il miglio in due minuti e dieci secondi». «Parte seconda». «Storia innaturale dell'amore». «Un bellissimo pterodattilo che insegue un cupido». «Senza aiuto, nessuno potrebbe scrivere un capitolo così monumentale come questo excursus sull'amore. Un contributo prezioso mi è venuto dal decano William Emish, prefetto della Lawford University, e dall'onorevole William Dobloom, Protector e Gamble, produttrice di un eccellente sapone, con il che sarà meglio tenere la faccenda sul pulito». «L'autore sarebbe un autentico verme se non riconoscesse il suo debito verso la vita e gli amori del colonnello Arpo Marx, scritto dal colonnello medesimo. La pubblicità della biancheria intima della J.C. Penney Company è Miss Phyllis Wilkowski, cameriera presso la Mansion House di Jacksonville, Florida. Devo ringraziare anche i redattori dell'Enciclopedia Britannica per il loro ammirevole volume, Ramo Sog, gli editori di La Vie Parisienne, la piccola elegante colonia di nudisti del New Hampshire e il propagandista del settimanale Life, giacché se non avesse insistito tanto non avrei mai comprato l'Enciclopedia. I miei ringraziamenti vadano anche a lineamenti di storia di H.G. Wells e alle comunicazioni mensili della Merrin Lynch, Pierce, Fenner e Smith. Ma la mia principale fonte di informazione sono state le cartoline pornografiche che ho scovato nelle stradine di Parigi. E adesso cominciamo. Milioni di anni fa l'amore era una manifestazione primordiale su questo nostro pazzo globo. Gli uomini erano schifose creature paragonabili a piedocchi o a quel tipo che vostra moglie stava per sposare. Si chiamavano Amebe, fino a che non fecero quattrini e presero il nome di The First National Bank. Per essere sinceri, e non crediate che io non voglia esserlo, non c'era niente di amabile nelle prime Amebe. Non si dedicavano alla conversazione brillante. A prima vista erano senza dubbio tanto poco attraenti quanto un qualsiasi bilancio finanziario ed erano sprovviste di tutto. In realtà non avevano né spina dorsale, né braccia, né denti, né occhi. Ma avevano l'amore. Naturalmente era una fortuna che l'ameba non ci vedesse, perché se avesse potuto dare un'occhiata alla sua compagna sarebbe andato a tutto a carte 48 e oggi la nostra terra sarebbe vuota come la testa di un adolescente. Con questo non voglio dire che l'ameba pensasse al futuro. Il suo cervellino non si preoccupava di altro che della compagna con la quale si sarebbe incontrata sotto una pietra per... sapete quanto me... sapete quanto me ciò che significano i puntini di sospensione. Perciò non arricciate il naso. Se la piantate per un momento di guardarmi di traverso e ricordate che questo è un trattato scientifico, potremmo ridurre il tempo di lettura di questa baggianata da 12 minuti a 9 e 3 quinti, che poi è il record delle 100 yardepiane. A proposito, non ho mai capito perché quando corrono le 100 yardepiane hanno tanta fretta di arrivare al filo del traguardo. Se rimanessero sulla linea di partenza non finirebbero sudanti e spompati dall'altra parte. Ma dopo tutto molte cose nella vita assomigliano alle 100 yardepiane. Mi sto perdendo in digressioni. Come dicevo, i primi uomini e le prime donne si incontravano sotto una pietra, cosa che indubbiamente spiega perché la loro epoca fu poi conosciuta come l'età della pietra. Adesso sbrigano tutta la faccenda più semplicemente, di solito con accompagnamento di bourbon o di scotch. Non dedicheremo molto spazio all'era amebolitica perché l'ameba non ha dato quasi alcun contributo allo sviluppo dell'amore. A meno che non vogliate prendere in considerazione la banale canzoncina, l'ameba sbaglia, ma io credo che tu sia magnifica. Solo con l'arrivo dell'ostrica, che venne immediatamente dopo l'ameba e subito prima della zuppa, fu apportato un tocco di raffinatezza al tenero rapporto fra i sessi. Il maschio dell'ostrica era dotato di una istintiva comprensione della natura femminile. Sapeva che se voleva portare in un posto qualsiasi la signora ostrica doveva farle dei regali. Così gli venne l'idea di fare le perle. E non fu solo questo il contributo geniale dell'ostrica, poiché anche oggi con le ostriche si fanno zuppe, cocktails e soufflé che eccellenti. Ma non mi fraintendete, l'ostrica di oggi non è l'ostrica di 15 milioni di anni fa. A meno che non vi capiti di mangiare al Jaws de l'Houx Grotto, specialità a frutti di mare quando sono a corto di ketchup. Comunque il sapore è lo stesso. L'antica ostrica, Homo Ostreoliticus, sebbene conducesse una vita piena e il controllo delle nascite fosse relativamente sconosciuto, si estinse milioni di anni fa. Perché? Perché la sciocca ostrica, oziando nel suo letto ostrichesco, era facile preda di esseri viventi molto più forti di lei. Non aveva una conchiglia per proteggersi o un'armatura per difendersi dal salmone, tanto per citare un solo nemico, che era un predatore molto astuto. Il salmone, come sapete, si nasconde nelle scatole di latta e viene fuori solo la domenica sera, quando inaspettatamente vi piovono in casa dei parenti per la cena. Inutile dire che il salmone in scatola è notoriamente assessuato e tuttavia è riuscito a sopravvivere. Si trova in tutti i tempi e in tutte le buone salumerie. E non è niente male con cipolle e pomodori affettati. Devo far rilevare che gli antropologhi trascurano di dirci come il primo uomo abbia imparato i misteri dell'amore. Secondo le mie deduzioni, l'ameba e l'ostrica fecero le loro scoperte, esattamente come... Passarono 52.000 anni. Un baleno in quell'incommensurabile cosa che si chiama eternità. Eternità. È difficile per la mente umana capire quanto sia sconfinata, ma credo di poterlo spiegare. Prendete per esempio la distanza fra il sole e la terra. O meglio ancora, prendete un numero qualsiasi da 1 a 10. Raddoppiatelo. Aggiungete 12. Sottraete il numero iniziale. Il risultato è 9? Volevo ben dire. Ora, se moltiplicate questo 9 per milioni di anni luce, avrete una vaga idea dell'importanza che l'amore ebbe più tardi per il brutto peroso Homo Cavus, seduto fuori dalla sua caverna su una roccia coperta di muschio a chiedersi se l'indice di borsa sarebbe mai risalito ai livelli di alcuni mesi prima. Adesso l'uomo aveva braccia, gambe, spina dorsale e occhi. Il mento aveva cominciato a ritirarsi insieme con l'attaccatura dei capelli, ma la faccia era coperta di barba e, insomma, aveva già tutti i requisiti per presentare la richiesta di ammissione al circolo del golf. Anche se il circolo non esisteva ancora, molti aspiranti soci stavano alla finestra, senza dubbio in attesa che l'edificio fosse costruito. Malgrado il barbone, l'antico cavernicolo aveva la mentalità di un bambino e riusciva a distinguere un sesso dall'altro più per istinto che per ragionamento. Riconosceva un uomo da una donna, ma non avrebbe saputo dire perché. Questa ignoranza primitiva era molto imbarazzante per l'Homo Cavus, ma un giorno un brutto piuttosto avanzato, Emigbeek, fece una scoperta. Mentre se ne stava davanti alla sua caverna a guardare landi rivieni della gente, ebbe l'improvvisa rivelazione. Quelle che portavano la sottana erano donne, quelli che portavano i pantaloni erano uomini, tranne che in Scozia. Da quel momento in poi la vita fu considerevolmente più semplice. L'uomo delle caverne smise di camminare a quattro zampe perché lo stesso Emigbeek fece rilevare che se si cammina solo con i piedi si avrà bisogno di un paio di scarpe anziché di due. Così il genio primitivo che scoprì la donna inventò anche l'economia. Una sequenza logica necessaria sia in quei tempi remoti sia ai giorni nostri. La vita era più semplice ma ancora piena di turbamenti, di rischi, di perplessità. Gli elementi della natura terrorizzavano il cavernicolo che tremava di paura alla vista di un lampo. Quando sentiva il brontolio del tuono ne dava la colpa agli dèi e avrebbe voluto poter inventare la scrittura per mandare una letterina a chi sapeva lui. Il primitivo uomo delle caverne, Porgi Amok, era cupo e pavido nei giorni di cattivo tempo. Quando pioveva se ne restava nella sua caverna invece di andar fuori ad ammazzare orsi, cervi e dinosauri. Certo era equipaggiato per uccidere ma il vento urlava, la pioggia scrosciava e l'uomo primitivo ne aveva paura. Nella sua caverna non trovava altro che noia. Non aveva ancora imparato a parlare con la sua compagna e l'amore, l'amore umano, era una cosa di cui non sapeva nulla. I bambini furono scoperti solo l'anno seguente. Così l'uomo delle caverne e la sua compagna si ringhiavano reciprocamente il loro malumore in attesa che la pioggia cessasse. aspettarono un giorno, due, tre, una settimana, ma il tempaccio continuava, sicché alla fine nella caverna non rimase più niente da mangiare. L'uomo primitivo era affamato e anche sua moglie che non diceva niente, soprattutto perché la parola non era ancora stata inventata. Il brutto rivolse alla moglie uno sguardo minaccioso. Se non la smetteva presto di piovere, sarebbe stato costretto a sgranocchiarsi la compagna. E lei lo sapeva. La femmina ringhiò. Era il suo modo di comunicare la speranza che lui trovasse qualche altra cosa per soddisfare la sua fame, ma la pioggia continuava a cadere. Era giunto il momento. Con un grugnito selvaggio, Porgy Amok balzò sulla moglie e cominciò a morderle una spalla, ma nello stesso tempo la sua mano toccò la carne della donna. Quel tocco gli diede una sensazione strana ed eccitante. La morse di nuovo, ma stavolta più teneramente. Le passò le mani nei capelli e la sua anima fremette. Poi mise istintivamente le braccia nodose scimmiesche intorno alle spalle morbide bianche della donna e sentì il proprio corpo fremere contro il suo. Anche lei lo sentì e fu stupita da questa nuova meravigliosa sensazione. I loro petti si sollevavano insanti, nell'estasi dell'amplesso e misero dei suoni che per voi sarebbero dei semplici grugniti gutturali, ma che per quelle creature primitive furono i primi dolcissimi sussurri d'amore. Potrei andare avanti su questo tono per pagine e pagine, oh mio avido lettore, ma anche io sono fatto di carne e sangue e devo tenere la testa a posto per continuare la mia opera. Alla fine la tempesta si placò e il brutto primitivo ne fu rattristato. Non aveva voglia di uscire. Mentre i suoi vicini vagavano per i campi in cerca di cibo, lui se ne stava sulla soglia della caverna a scrutare il cielo per scoprirvi il primo accenno di pioggia. Avrebbe voluto dire ai suoi amici come l'amore era entrato nella sua vita grazie al temporale, ma come ho detto il linguaggio non esisteva. Neanche una parola. Solo grugniti che volevano dire come stai, bene, tu, non mi lamento. Di un po', stai molto bene con i peli del petto tagliati a spazzola. Grazie per il complimento. Mia moglie pensa che assomiglia una brontosaura. Così, con silenziosa bramosia, Porgi aspettava la pioggia. L'amore era portata di mano. Un pomeriggio vide che sulla valle distante una quarantina di chilometri si stavano addensando nuvole foriere di pioggia. Corse in quella direzione con tutta la velocità che gli consentivano le sue gambe corte. La moglie credette che stesse andando a caccia. E in un certo senso aveva ragione. Al calar della sera, dopo una lunga corsa, Porgi giunse nella valle dove naturalmente stava piovendo. Il suo cuore esultò. Entrò in una caverna. Trovò una donna sola e... La scoperta dell'amore si diffuse con la rapidità del lampo. Porgi divenne noto come il grande amatore che aspettava la pioggia. Aspettò anche che venisse inventata la parola per poter raccontare agli amici le sue imprese amorose. Se ci fossero state le parole avrebbe potuto cantarle in poesia. Porgi il gaudente, ci puoi giurare, bacia le donne e le fa strillare. Ma non c'erano parole. E non c'era neanche la pioggia. Una volta, credendo che stesse per piovere, Porgi fece all'amore. E di nuovo l'amore fece di Porgi un profeta. Perché quella volta non piove. E il nostro Homo Cavus scoprì che la stagione dell'accoppiamento non è legata all'inclemenza del tempo. La stagione dell'accoppiamento iniziava, allora come oggi, il primo gennaio e finiva il 31 dicembre. Passò un anno. In un angolo della caverna di Porgi c'era adesso un piccolo bruto che si affilava una pietra sulle piante dei piedi. Si chiamava Faccia di Pietra e l'uomo delle caverne e la donna delle caverne grugnivano. Nella loro semplice maniera erano contenti. Non sapevano che la nuova civiltà stava nascendo nel lontano nord. Quanto all'era glaciale, fra i 45 e i 70 per gli uomini latini, non abbiamo bisogno di occuparci troppo a lungo di questo periodo. È stata definita un'era di frigidità tra i sessi, ma forse questa è una notizia inesatta. In complesso c'era ben poco che potesse interessare l'uomo glaceolitico. Intorno a lui c'era solo ghiaccio, che ovviamente non serviva niente senza acqua, minerale o gingerale. Inoltre, quando la sera tornava a casa, era facile che trovasse la sua compagna fredda come il ghiaccio. Anche le donne, quando tornavano a casa, trovavano i mariti gelidi. La fatica di riscaldarli era piuttosto noiosa. È tutt'altro che stimolante per l'amore. Il professor H.M.S. Wimble ci racconta di una donna glaceolitica la quale, entrata nell'iglù, trovò il suo compagno gelato fra le braccia di un'altra donna. Dopo averli scaldati fino a fargli riprendere coscienza, disse al marito, chi era quella signora con la quale ti ho disgelato? La risposta del marito non è riportata perché Joe Miller non era ancora nato. Comunque, in complesso, fu un'era molto sgradevole. Parecchie persone hanno scritto sull'amore senza mai essere venute in contatto con esso. Ma fino a che non avrete strofinato le labbra tremanti sulla guancia di una donna e fino a che non vi sarete spolverato le scarpe con l'asciugamano per gli ospiti appena comprato da vostra moglie, non saprete niente dell'amore o di vostra moglie. L'amore non è una cosa che si può imparare dai libri, perché l'amore è uno spiritello inafferrabile che salta da un cantuccio a un anfratto e ti tocca con la sua bacchetta magica e poi vola via come la prima rondine di primavera. Mica male quest'ultima, come immagine, ne ho letta di peggio in libri che costano 5 dollari. Anzi, è proprio uno di questi che l'ho trovata. Ma per tornare all'amore, Cardia Hortarium, mi preme assicurare ai lettori che questo trattato sull'amore è oro colato. È un'esposizione coraggiosa, senza peli sulla lingua. Come ho avuto occasione di scrivere al professor H.M. Thorndike della Società Antropologica e Trincologica di Boston, il quale adesso che ci penso non ha risposto la mia lettera, sono disposto a garantire la veridicità di ogni parola. Se qualcuno può provare che c'è una sola inesattezza in queste mie pagine, sarò lieto di allargire 5.000 dollari alla Fondazione Signora Groucho Marx per la cura e il miglioramento del signor Groucho Marx e per aggiunta 50 centesimi a ognuno dei bambini. Non mancate di scrivermi in maniera leggibile su una sola faccia del foglio, anche se si tratta di cartolina postale che dice che piove tutti i giorni e che zia Molly ha avuto un altro bambino. Non vi parlerò a lungo dei secoli bui, perché noi storici sappiamo ben poco di quel periodo. Sinceramente era un'epoca tanto scura che nessuno riusciva a vedere cosa succedesse e coloro che lo vedevano erano troppo educati o imbarazzati per riferirlo. In ogni modo sappiamo che molte cose sono successe nei secoli bui. Io so per esempio che cosa succedeva in casa nostra quando il salotto era al buio. Mio fratello Arpo, alla ricerca dei tasti del pianoforte, tastava spesso la cameriera per sbaglio. A lungo andare i vicini si lamentarono. E anche la cameriera, che era innamorata in modo dolce e infantile di mio padre. Era una devozione tenera e schietta. Voleva solo che mio padre vendesse i figli e scapasse con lei nel New Jersey, dove un suo fratello aveva una fattoria. E pare che questo fratello si dedicasse alla produzione di piccoli bifolchi e di ficozze, il tutto a spese della moglie. A sempiterno merito di mio padre, bisogna dire che lui non pensò mai seriamente, nemmeno per un momento, di vendere i figli e di scappare. Che diavolo potrebbero darmi per cinque ragazzini usati? Tonava la sua voce fra le mura della vecchia bicocca. Penso che rimarrò qui. Così era il vecchio Mars Marx laggiù nella piantagione. Ed è senza dubbio per questo che gli schiavi lo amavano per la sua gentilezza, per la sua comprensione e per il fatto che era l'unico proprietario terriero della regione che non avesse mai posseduto una frusta. Per dimostrare la loro gratitudine gli schiavi fecero una colletta e gli regalarono una frusta, con la quale lui, da quel mattacchione che era, si divertiva a spellargli la schiena. Come ho tentato di spiegare, nei secoli bui la vita era una faccenda alquanto confusa. La storia ci parla di un affamato uomo di Neandertal, il quale, non riuscendo a vederci chiaro, cominciò a mangiarsi una botte che si teneva nella sua caverna. Credeva che fosse lo spinaci, magari con più terra di quanta non ce ne sia di solito negli spinaci, al che la moglie gli disse, ricorda, non puoi avere la botte piena e la moglie ubriaca. Ma il povero uomo di Neandertal, non sapendo di che cavolo stesse parlando la moglie, continuò a ciancicare fino a che non si fu mangiato la botte e la moglie. Fu così che venne coniato quel proverbio. Infatti, poiché a quei tempi non avevano la moneta, l'unica cosa che potevano coniare erano i proverbi. La poliandria è il matrimonio di una donna con un gruppo di uomini. La poliandria, che era sconosciuta nell'età della pietra e nell'età del ferro e di cui si parlava vagamente nei secoli bui, fece la sua prima apparizione nell'età della valigia, in quei tristi anni in cui un uomo non poteva portarsi una donna in albergo a meno che non avesse una valigia o una donna. In ogni modo, non c'erano alberghi in quel tempo e ciò permetteva al viaggiatore di fermarsi nei casolari di campagna con un solo letto e un mucchio di scherzetti, sui quali non desidero soffermarmi in questa sede. Come ho detto, questo accadeva nell'età della valigia. Ciò mi ricorda che al tempo dei romani le donne venivano chiamate fardelli. Da allora in poi una ragazza viene spesso definita un grazioso fardello. In altre parole sto tentando di spiegare che la poliandria consente di ripartire la corresponsione degli alimenti invece di accollarne tutto il peso a un solo uomo, ma in fin dei conti il denaro non è tutto. L'amore non è mai stato troppo facile per l'uomo preistorico e non lo è nemmeno adesso. Il guaio dell'amore è che molte persone lo confondono con la gastrite. Curata la fase acuta della malattia scoprono di aver sposato una donna che non intendono portarsi dietro fino alla morte. Tra i sottoprodotti dell'amore dell'uomo si ricordano gli istituti di bellezza, il bicarbonato di soda e la famiglia. La famiglia, come forse saprete, è un'unità sociale basata sull'istinto di raggrupparsi comune a tutti gli animali. Vedi la madre di tua moglie, le due sorelle di tua moglie, che probabilmente resteranno zitelle, e il fratello di tua moglie che non lavora da otto anni. Noterete che del gruppo non fanno parte persone della vostra famiglia ma solo della famiglia di lei. Così erano i secoli bui e così è oggi. Se volete mandare 10 dollari a vostro padre dovete farlo di nascosto, altrimenti vostra moglie vi dirà che non avete sposato vostro padre. Un'affermazione assolutamente insensata perché vostro padre è già felicemente sposato ed è anche felice sempre che gli mandiate 10 dollari, cosa che probabilmente non farete perché i tempi sono quelli che sono e vostro padre è quello che è. E con questo la famiglia è sistemata. E magari lo fosse anche la mia. L'uomo delle caverne, che non aveva un linguaggio, poteva parlare solo con le mani. Quando voleva dire la sua compagna che l'amava, le dava un pugno sulla bocca. Quando voleva dire ho fame, le dava un pugno sulla bocca. A volte le dava un pugno sulla bocca solo per vedere se lo sopportava e tutto questo confondeva la piccola donna silenziosa che raramente rispondeva. Se lo faceva il marito le mollava un altro cazzotto sulla bocca. Questo tipo di conversazione divenne noto come abboccamento. Certo, la piccola donna poteva dire ben poche cose con la mimica, ma erano cose abbastanza noiose. Come lo sono oggi. Era ovvio che il mondo aveva bisogno di un linguaggio. E come la storia ci ha mostrato, il bisogno aguzza l'ingegno, così come l'ultimo ad arrivare fu gamba corta. Perciò, dopo poco tempo, appena un migliaio di anni a volo di cornacchia, o 500 se si tratta di un'aquila, si cominciò a sentire il primo rozzo linguaggio. Le parole erano poche, ma sufficienti alla necessità di quei popoli primitivi. Primo vocabolario dell'uomo. Unga, unga, foi. Glub, glub, buttami quelle pinne. Uscrei, hikui. Se ti pesco ancora a girare intorno a mia moglie, ti strappo il cuore. Contegno. A. Zun, zun, zun. Cara, ti si vede la sottoveste. Hug. Come sta tua moglie? Nug. Tu che ne pensi? Mug. Lo dicevo solo per cortesia. Lug. Impicciati degli affari tuoi. Bing. Crosby. John Cromwell. Un amico di famiglia appena tornato dall'India. L'uomo primitivo aveva finalmente un linguaggio che contribuì molto a rendere più sopportabili le lunghe sere invernali. Tenete presente che non poteva portare la moglie a teatro o al club, così se ne stavano a casa a far fugliare. L'uomo raccontava alla compagna che aveva ammazzato a mani nude una tigre e che il capo gli aveva detto, JB, da mesi non vedevo un lavoro così ben fatto. E la piccola donna gli diceva, c'erano momenti in cui il marito si ramaricava che avesse imparato a parlare, allora perché non ti paga di più? Joe Grant non ha ammazzato una tigre in tutta la stagione e guadagna il doppio di te. Mugolava l'uomo quando le appioppava un bacio sulla bocca oppure un pugno. In ogni modo l'inverno passava presto e veniva la primavera. E com'era bello essere vivi e giovani. Gli innamorati potevano fare i loro giochi all'aperto e i giochi erano molti, ma più di tutto si divertivano a giocare alle tortore sulle pietre. Quando riuscivano a trovare delle tortore? Di pietre naturalmente c'era una abbondanza. In realtà le pietre erano un articolo essenziale in tutte le case coi bambini. Di solito era con una pietra ben assestata che si metteva a nanna il bambino e la madre canticchiava «Fai la nanna, cocco di mamma!» mentre il piccolo perdeva i sensi. Così l'età neopietrolitica giunse al termine e nacque un nuovo mondo, un mondo infinitamente più complesso e meno soddisfacente. Mentre l'uomo dell'età della pietra aveva bisogno solo di una donna che gli tenesse compagnia durante le lunghi notti nelle caverne, il nuovo uomo, uomo sap, riempì la sua vita e la sua caverna con una numerosa compagnia. Ecco come la società prese il posto del sesso. E la parola «party» finì per significare cena alle otto e non più un giochetto a deux. Così sopravvenne l'età dell'uomo sociale e il vero amore se ne volò via. Proseguendo questo studio della storia innaturale dell'amore ci avviciniamo sempre più ai tempi moderni. Ciò crea l'illusione che si stia per raggiungere la conclusione. Il lettore tenga però ben presente che la storia si ripete e non si illuda che io non intenda ripetermi prima di aver finito. Beh, la storia può mettersi da una parte e prendersi una buona dose di bicarbonato di soda. Veniamo ora al Medioevo e vi assicuro che la vostra sorpresa non sarà inferiore alla mia. Il Medioevo fu un'epoca di lento progresso. Alla gente non importava niente di inventare o non inventare qualche cosa, ma questo non riguardava l'amore. L'amore era già stato inventato, cioè gli elementi base erano stati inventati. Rimanevano solo da chiarire alcuni punti controversi. Spesso la sera un gruppo di menestrelli si raccoglieva intorno al cammino nel salone di un castello per cercare di chiarire questi punti controversi, ma fra il calore del fuoco e i fumi delle libagioni dopo un posto si ritrovavano tutti impiastrati e dimenticavano il motivo per cui stavano lì. Era questo il guaio del Medioevo. La gente se la faceva sotto. Siamo giunti ora al Rinascimento, ma non mi chiedete come. In realtà pensavo di includere questo periodo in un capitolo precedente, ma ci ho messo un'intera settimana per capire come potevo inquadrarlo. Il Rinascimento non fu un movimento politico o religioso. Fu uno stato mentale. Forse stenterete a credere che una parola così bella non abbia niente a che fare con l'amore. Permettete che vi dica che è un'assurdità. Anche il reumatismo è una parola bella, eppure non ha niente a che fare con l'amore, ma non mettetevi in testa che le persone predisposte al reumatismo non siano suscettibili di amare. In molti casi è proprio così che si sono presi i reumatismi. Il guaio è per uno che ha reumatismi e che non può scorrazzare come un ragazzino, e quando sei innamorato devi essere in grado di coprire una vasta zona di territorio. Per fortuna io ho una vespa con un seggiolino posteriore. Dove eravamo rimasti? Ah sì, nel Rinascimento. Nel Rinascimento gli uomini osarono di nuovo essere felici, solo perché erano vivi. Non concentrarono più tutti i loro pensieri sull'esistenza beata che le aspettava in cielo. Cercarono di crearsi il loro paradiso sulla terra, e per dire la verità ci riuscirono in maniera piuttosto soddisfacente. L'amore andava a gonfie vele. Le donne cominciarono a riconquistare un po' di libertà. Non erano più costrette a nascondersi per farsi un vodka martini. Apertamente e senza vergognarsene, assunsero a poco a poco il loro vero ruolo di spose e compagni dell'uomo. La donna acquistava una sua coscienza. Fu allora che a qualcuno venne l'idea di aggiogare le donne con i buoi. Circa l'influenza che ciò può aver avuto sulla civiltà, le opinioni degli storici sono contrastanti. Alcuni pensano che fu un passo indietro, ma la maggior parte crede, come me, che questo fu decisamente un passo nella giusta direzione. Che che se ne pensi, fu certamente un grosso aiuto per i buoi. Gli ottusi animali, i buoi, sono grati a questa epoca. Tanto grati che ogni volta che non ha... che... son perso? Tanto grati che ogni qual volta vedono una donna si toccano le corna. Molti allevatori di bestiame sostengono che il bue è l'animale più cornuto che esista. A meno che non abbiano il cappello in testa. Forse uno squarcio della vita quotidiana di una tipica famiglia rinascimentale servirà meglio a dimostrare il progresso dell'amore e del sesso in quel tempo. I personaggi. Mr. Dingle Fingle e Mrs. Dingle Fingle. La scena. Il salotto della loro bicocca. L'ora. Le dieci della sera. La sera. Vigilia di Natale. Sta parlando Mr. Dingle Fingle. Mr. Dingle Fingle dice. Sai cara, l'amore è la cosa più bella del mondo. Mr. Dingle Fingle. E come? Finis. Questo in realtà non è il finale, signori miei, ma è tutto ciò che possiamo pubblicare. In effetti è solo l'inizio. Henry Miller, piglia su! Che giorni favolosi erano quelli. L'amore fece progressi tanto rapidi da soppiantare perfino l'agricoltura come attività principale dell'uomo. Chiunque abbia una certa esperienza tanto in amore quanto in agricoltura non si sorprenderà di questo cambiamento che non sorprese né i contadini né i nobili, anzi vi si adattarono quasi immediatamente. Fecero presto a capire che l'agricoltura era un'occupazione stagionale e un genere di attività che poteva essere praticata proficuamente solo in primavera e in estate. L'amore invece non conosceva stagioni. Poteva essere praticato non solo nei mesi tiepidi e caldi, ma anche, e forse con maggior profitto, nei lunghi giorni e nelle lunghe notti invernali. In ogni caso era molto più piacevole coltivare l'amichetta che coltivare i campi, con la sola differenza che qualche volta l'amichetta non c'era, mentre i campi erano sempre lì. Le fonti medievali sono concordi nell'ammettere che l'improvviso eccezionale aumento della popolazione durante quel periodo fu senza dubbio da attribuire la rinascita dell'amore. Oggi, se non è troppo tardi, vorrei ringraziare personalmente le donne del rinascimento per lo zelo entusiastico con cui parteciparono a questo movimento. Donne di questo tipo non esistono più. Si deve dunque attribuire all'amore una parte preponderante nell'incremento della popolazione, ma l'amore, per quanto forte sia, ha bisogno della collaborazione del sesso forte, e il sesso forte era occupatissimo in quel periodo a solcare i mari per scoprire nuove rotte commerciali. Al tempo del Rinascimento si mangiava una grande quantità di pesce, prima del colesterolo. Da questo potete farvi un'idea del tipo di gente che esisteva a quell'epoca. Se ve la siete fatta, mandatela al direttore del vostro giornale, il quale la inolterrà a un redattore che saprà come servirsene. Ma per tornare a questa faccena del pesce, era in sostanza un'altra cosa che teneva lontani gli uomini. C'è sempre stato qualcosa a tenerli lontani. Nel XII secolo furono le crociate, nel XIII secolo fu il richiamo del mare e nel XIV fu la pesca. I mariti passavano sette mesi all'anno a pescare e sette mesi a cercare vermi. Forse mi direte che sono in totale quattordici mesi. Me lo aspettavo. Beh, perché lo sappiate, a quei tempi l'anno aveva quattordici mesi. Questo vi insegnerà a non impicciarvi di certe cose. Come vedete, anche in questo caso era una bella seccatura per le mogli. I resoconti dei viaggi di Marco Polo, scopritore del polo nord e del polo sud, destarono non poco interesse per le lontane contrade, oltre i confini dell'Europa. Malgrado questo interesse, le esplorazioni procedettero molto a rilento, perché il mare era ancora impopolare. E per eccellenti ragioni. Le navi erano piccole e inadeguate. Difficilmente arrivavano alla grandezza di uno dei nostri ferry boats, ma sotto un certo punto di vista erano migliori. Non avevano a bordo suonatori di violino che chiedono i soldi con una mano e suonano la comparsita con l'altra. La bussola era uno strumento piuttosto nuovo, non ancora perfezionato. A quei tempi, se volevate andare a nord da nord-est via est, dovevate fare la rotta a sud via sud-est. Potete figurarvi che quale sforzo mentale dovesse sobarcarsi un tipo del rinascimento. Naturalmente tutto ciò creava una gran confusione, al punto che la gente non si curava più di sapere dove andava a finire. Ossia, a meno che non ci fosse di mezzo una rissa, perché allora andavano a finire gli uni sugli altri. Poteva capitare che un esploratore partisse dalla scoperta dell'India o dell'Arabia e terminasse il suo viaggio quattro miglia a nord di Sandy Hook con un tremendo raffreddore. E di qui cominciarono le polmoniti e i cataplasmi di senape. Vasco da Gama, esploratore di primo ordine a quei tempi, anche se oggi potrebbe forse essere considerato una scarpa, maledisse per tutta la vita l'invenzione della bussola. Una volta pensò di fare un viaggio nei tropici e decise di equipaggiare adeguatamente la ciurma. I suoi uomini passarono tre giorni nei grandi magazzini Abercrombie e Fitch e ne uscirono con abiti di flanella bianca, capelli di paglia, scarpe sportive, una valigia piena di bacardi, un libricino rosso pieno di numeri telefonici e un conto di 609 dollari. Dopo aver pilotato attentamente la sua nave con un occhio alla bussola e un altro su una ballerina che per avventura si trovava a passare di là, Vasco alzò gli occhi e con grande sgomento vide davanti a sé le sponde geride del Labrador. Potete immaginare il suo imbarazzo quando sbarcò con una ciurma equipaggiata per il clima della Florida. Stanno ancora ridendo di lui da quelle parti. Anch'io trovo che sia abbastanza divertente, ma non tanto divertente da riderne. In quel periodo si faceva un gran parlare a proposito della forma della Terra. Naturalmente, caro lettore, caro ascoltatore, non sono qualificato a esporre teorie personali e non vorrei che ciò che dico venisse propalato, ma secondo me non ci sono dubbi. La Terra è un triangolo perfetto. E se vuoi delle prove ne ho a bizzeffe. Perché i pesci nuotano sott'acqua? Perché la gente va in Florida d'inverno e a Quebec d'estate o viceversa? Perché il giocatore di bridge non vuole mai aprire in terza posizione vulnerabile a meno che non abbia tre prese e mezzo? Prova solo a rivolgere queste domande a quelli che pensano che la Terra è rotonda e guarda cosa ti rispondono. Non pretendo che comprendiate il significato di ciò che ho appena scritto senza averlo riletto un certo numero di volte. Personalmente vi riterei dei gonzi se lo faceste. Io l'ho letto sei volte e ancora non l'ho capito. Mentre ci balocchiamo con il quindicesimo secolo sarebbe assurdo trascurare una delle più grandi scoperte di tutti i tempi, la bella America. Il merito di questa scoperta deve essere attribuito a un certo Cristoforo Colombo, un marinaio genovese, il quale era fermamente convinto che la Terra fosse una sfera e riteneva che la sua unica missione nella vita fosse quella di provarlo a se stesso e al mondo. Disperato, sollecitò l'aiuto della Spagna e del Portogallo. Il Portogallo non rispose mai alla sua lettera. Più tardi si scoprì che Colombo a quel tempo era imbottito di sal nitro e che, suonato com'era, aveva dimenticato di infilare la lettera nella busta prima di spedirla. Comunque sia, la regina Isabella di Spagna, che andava pazza per i marinai barbuti, gli mise a disposizione tre navi e 88 uomini. Ciò significava 22 quartetti, se sapevano cantare tutti, o 29 trii in caso contrario. Dopo una cena fredda, a base di giuncata e noci di Betel, Colombo si imbarcò nell'anno 1497. E va bene, facciamo 1492, ma non un anno prima. Appena Colombo ebbe lasciato la Spagna, arrivarono all'orecchio della regina Isabella certe dicerie e lei cominciò a nutrire dei dubbi sullo scopo di quel viaggio. Più tardi si seppe che la vera ragione non era quella di dimostrare che la terra era rotonda. Era solo un'impostura. Lui sapeva che era quadrata. Il fatto è che in America doveva incontrare una certa signora con la quale si era messo in contatto per mezzo di una di quelle rubriche Cuori Solitari, di cui Isabella non sapeva niente. Erano anni che i due si scrivevano. Si erano perfino scambiati le foto. Lui gliene aveva mandato una di Rodolfo Valentino e lei ne aveva mandata a lui una di Mae West. Mica scema anche lei. Adesso forse mi direte che fra l'Europa e l'America non c'era un servizio postale a quei tempi. È senz'altro vero, ma è anche vero che l'amore trova sempre una strada. Che mi dite di Adamo e Eva, per esempio? Quando lo scandalo scoppiò, Colombo fortunatamente era a largo, in pieno oceano. La prima fermata la fece alle isole Canarie, ma non si trattenne a lungo perché scoprì che la popolazione era costituita da canarini che continuavano a volargli nella barba. Così diedero addio agli uccellini e riprese il mare. Navigò per 62 giorni e 60 notti. Perse due notti nelle azzorre per una partita di poker. E finalmente, una bella mattina, uno della ciurma avvistò un ramo di mirtilli che galleggiava sotto bordo. Questo voleva dire che nelle vicinanze c'era la terra. O un negozio di frutta. Quando Colombo ne ebbe notizia, strisciò fuori dal secchio di carbone nel quale si era nascosto per sfuggire alla ciurma e, indicando i frutti, disse «Signori, credo che abbiamo trovato qualcosa». I marirai sbarcarono a San Salvador affamati di cibo e di donne. Non dimenticate che avevano fatto un lungo viaggio. È vero che non vedevano cibo da 30 giorni, ma è anche vero che non vedevano donne da 60, perciò potete immaginare quale fosse il primo oggetto delle loro ricerche. Sapete che cosa succede quando viaggiate su un transatlantico di linea per 5 giorni, con la sola compagnia di tre uomini d'affari con l'ipermeabile langina e di quattro insegnanti afflitti dal mal di mare per tutto il viaggio? Beh, questo può darvi una pallida idea di come si sentissero i marinai quando scesero da quella zattera melmosa. La storia ci dice che nemmeno le sirene si salvarono. Quanto alle ragazze indiane è inutile parlarne. Sì, penso proprio che non ve ne parlerò. Tornerò sull'argomento a tempo e luogo. Facciamo mercoledì prossimo a casa vostra? Ma adesso lasciamo Colombo e la sua ciurma affamata di sesso per tornare un momento in Europa. Pago la metà del biglietto se voi mi pagate l'altra metà. Benché in Europa l'attenzione di tutti fosse concentrata sulla nuova terra promessa che si trovava al di là del vasto mare, non dobbiamo perdere d'occhio il fatto che grandi eventi si stavano verificando nella stessa Europa. Le città italiane cominciavano a raggiungere posizioni importanti. Ciò era dovuto a una precisa ragione storica, ma in un panorama dell'amore non si può cincischiare con le ragioni storiche precise o no. E qualora fossi in vena di cincischiare sarei pazzo se mi attaccassi alle ragioni storiche? Fra le città italiane Venezia era senza dubbio la più importante. Quelli di voi che hanno letto la storia della decadenza e della caduta dell'impero romano di Gibbon diranno forse che era Roma la più importante. Ma se questo fosse vero, perché sia Roma che Gibbon sono morti e sepolti? Avrete notato che Venezia non è morta e sepolta. In ogni modo piantatela di fare tante domande. Se non avete fiducia nell'autore potete smettere di leggere o di ascoltare fin da questo momento. C'è un mucchio di cose che preferirei fare invece di scrivere. Potrei andarmene a giocare a tennis esibendomi nei miei famosi rovesci se questa mattina Hans, il più lungo dei miei bassotti, non mi avesse rosicchiato la racchetta facendoci un bel buco. Sono sicuro che Spengler, Van Loom o Alcott non sarebbero mai diventati quello che sono oggi se avessero avuto a che fare con domande sciocche o con bassotti che sgranocchiavano le loro racchette da tennis. L'ascoltatore che è stato così pronto a dire che Roma era più grande di Venezia non è diverso da quel furbone che mi garantì che l'indice di borsa sarebbe salito a mille. E dov'è lui adesso? E dov'è l'indice di borsa tanto per dirne una? Ma torniamo a Venezia. Come senza dubbio saprete Venezia è stata costruita su un banco di melma. Non mi chiedete come. È stato così e basta. Io non ho imparato a diffidare di qualsiasi banco nel 1929 quando il mio fallì con tutti i miei quattrini dentro. So che questa sordida disertazione sul denaro non ha molto a che vedere col sesso ma provate solo a portare fuori una ragazza quando siete lasciuto e vedrete quanto andrete lontano. Io ci ho provato una sera e alle otto ero già a letto. Solo con l'unica divertente compagnia di una borsa per l'acqua calda fredda. Parte terza. Note sulla società compilate da un rifiuto della società. Capitolo 1 Il commiato dell'ospite Seduto davanti a una tavola di pietra in una caverna oscura il nostro eroe, cioè io, Groucho Marx, l'eremita di Hollywood, rosicchia un osso. Addio al vasellame prezioso, allo scerri a Montillado, ai lavadita. Addio alle cene alle otto, alle cene alle sette, a qualsiasi cena. Sono l'anfitrione di ieri. Non appena le mie ferite si saranno rimarginate uscirò dalla caverna e riprenderò la mia carriera sociale. Ma non come anfitrione. Oh no, non ci penso neanche. Lasciamo che certi ristoranti siano gli anfitrioni della nazione da una costa all'altra e lasciate che io sia ospite della nazione. Gli ospiti sono i dritti, gli anfitrioni sono i fessi. Ho dato il mio ultimo party e ora, prima di chiudere la bocca e la caverna per l'inverno, vorrei buttar giù alcuni ricordi caldi su certi ospiti che si sono pasciuti alla mia mensa. Per quanti fra i miei lettori e ascoltatori non hanno mai visto un ospite, non mi è difficile farne una descrizione. Possono essere di qualsiasi colore, alti o bassi o con i tacchi leggermente scalcagnati. Un ospite può inoltre essere definito come un tale che viene in casa vostra dietro invito. Quello che viene senza invito è una vedova nera o una parente. Esistono ospiti di ogni specie. C'è l'ospite a cena, il visitatore del fine settimana, l'ospite mensile e se non state attenti l'ospite permanente. Ma il più innocente, amichevole e relativamente innocuo fra tutti è l'ospite a cena. Una cena viene data di solito per un gruppo di 6, 8 o 10 persone. Naturalmente il numero dei convitati dipende in gran parte dalla capacità della sala da pranzo e in molti casi dalla capacità della cuoca. Una parola sulle cuoche. La maggior parte delle cuoche sono o appena sposate o appena divorziate. Ed è bene tenerlo presente quando si progetta una cena. Inutile dire che le probabilità di avere una cena soddisfacente sono più forti quando la cuoca è nel periodo degli amori di quando la stessa attraversa la fase di raffreddamento con il maschio in carica. In un gruppo di 6 o più persone che vengono a cena è ragionevole supporre che almeno 4 abbiano una spiccata antipatia non solo per voi ma anche per la vostra tavola. Comincerete ad accorgervene alla fine della minestra. Sentirete un costante tambureggiamento di coltelli e forchette sul piatto. È per farvi capire in codice morse che la vostra cuoca deve essere ubriaca. Il tambureggiamento si fa sempre più forte col progredire della cena e alla fine dopo il dessert arriva il segnale di chiusura della trasmissione con il quale i commensali vi informano sempre in codice che avrebbero cenato meglio se fossero rimasti a casa a mangiarsi la pappa del cane. Ora è privilegio dell'ospite non gradire il cibo. A me capita spesso di non gradire quello che si mangia in casa ad altri. Io però mi limito a impinzarmi silenziosamente di pane sperando che per dessert non ci sia pasticcio di pane. Una volta la mia invitata aspettò il momento in cui credeva che io non la guardassi per lanciare deliberatamente una bracciola d'agnello sul mio tappeto bianco nuovo. Io mi precipitai, spolverai la bracciola e con un inchino galante, un'imprecazione a denti stretti e la restituì. Lei mi ringraziò e dopo alcuni minuti la gettò di nuovo sul tappeto. Questo tappeto in realtà si trattava della pelle di un orso polare ancora parzialmente vivo, cominciò ad assumere l'aspetto di uno sfidante di Sonny Liston poco prima del Coupe de Grasse. Diedi alla mia ospite un'altra bracciola ma questa volta arrotolai prima la pelle dell'orso e la riposi nell'armadio. Ci sono ospiti che seguono una dieta e non possono mangiare determinate cose. Un tipo, un muscoloso villanzone con voce gracchiante da imbolitore di Luna Park, annunciò con parole impregnate di orgoglio e di saliva che era pieno di acidità e che non poteva mangiare cibi rossi. Quella sera avevamo roast beef, cavolo rosso, barbabietole e anguria. Se ne rimase seduto tutta la sera a guardare sdegnosamente gli altri commensali felici e soddisfatti che si abbuffavano di carne al sangue e di sostanze acide. Accompagnò le sue occhiate incandescenti con una descrizione particolareggiata della sua pressione arteriosa e del suo tasso di colesterolo che lo costringevano ad andare dal medico almeno due volte al giorno. Per fortuna svenne quando fu portata in tavola all'anguria. A quanto pare in aggiunta agli altri acciacchi era affetto anche dalla notevole miopia e vedendo l'anguria aveva creduto in un ritorno del roast beef. Poi ci sono coppie che non vengono mai sole. Telefonano sempre annunciando un ospite in più e lo fanno in maniera piuttosto abile. Il giorno della cena, cena per sei, il telefono suona circa un'ora prima di quella convenuta e alluogo la seguente conversazione. Sono Jane. Mi dispiace infinitamente ma non possiamo venire a cena stasera. Abbiamo un ospite, un ex compagno di scuola di mio marito. Jack non lo vedeva da 15 anni e non possiamo lasciarlo a casa. Più tardi scoprirete perché non possono lasciarlo a casa. Hanno una bella figlia a 15enne, una copia esatta di Brigitte Bardot e dato il comportamento della donzella negli ultimi tempi non vogliono correre rischi. Così siete incastrati e non vi rimane che rispondere beh portate anche lui, sperando che un autobus lo investa durante il tragitto. C'è sempre prosto per una persona in più. Questo è vero per lo Yankee Stadium ma non è affatto vero per la media delle camere da pranzo. Comunque sia, stringete le sedie per farcene stare una in più, togliete il servizio buono per sei e riapparecchiate la tavola con un miscuglio di cocci che nel corso degli anni avete rubato da alcuni dei migliori alberghi del paese. Tanto per cominciare bene la serata c'è sempre il lazzarone che arriva un'ora prima degli altri. Se dite cena alle sette potete star certi che lui si presenterà alle sei. Se dite alle nove arriverà alle otto. Non sapete come fa a introdursi in casa. È uno scassinatore o un folletto. Nessuno lo sente entrare. Nessuna porta sbatte. Nessun campanello suona. Supponiamo che la cena sia per le sette. Alle sei scendete in sala, senza aver fatto ancora il bagno e senza esservi rasato, con indosso solo un paio di scarpe da tennis di vostra moglie. L'illuminazione è scarsa. Non ve ne serve di più perché sapete il posto di tutte le cose e inoltre la bolletta della luce è già abbastanza salata. Togliete la cenere dal camino e siete intento nella delicata operazione di diluire il whisky con abbondante acqua. Quando sentite una voce d'oltre tomba che vi giunge dall'oscurità. Il vostro primo impulso è quello di correre di sopra a prendere il revolver. Poi vi ricordate all'improvviso che il revolver non vi servirebbe a molto perché avete nascosto le pallottole per impedire che i ragazzini si ammazzino l'un l'altro. Beh, potete anche morire difendendo la vostra casa in qualsiasi altro modo, così afferrate il punteruolo del ghiaccio. Ma il battito del vostro cuore rimbomba nella stanza e non avete dubbi che anche lui lo senta. Ti ho spaventato? Sono Swanson! Sono uscito presto stasera e invece di tornare a casa ho telefonato a Marta di raggiungermi qui. Perché metti l'acqua nel whisky? È una novità? Non dire sciocchezze! Ti sembro tipo da mettere l'acqua nel whisky? Stavo solo lavando le bottiglie prima di restituire i vuoti al mio fornitore. Siete stati colti in flagrante e non vi resta altro da fare che tirar fuori quell'eccellente whisky invecchiato che avevate messo da parte per festeggiare le nozze d'oro. Adesso scusami ma devo correre di sopra a vestirmi. Vengo con te! Ho bisogno di rinfrescarmi! Mi devo togliere di dosso la polvere dell'ufficio e non ho avuto ancora tempo di darmi una lavata. Se fosse venuto all'ora giusta avrebbe avuto tutto il tempo per farsi il bagno e anche un massaggio. C'è un bagno qui sotto. Puoi usare quello intanto che io vado di sopra. Se riuscite a farlo rimanere giù sperate di poter ancora schiacciare quel pisolino che avete sognato per tutto il pomeriggio. Sgattaiolate rapido su per le scale ma quella mignatta discendente da una lunga stirpe di mignatta extra veloci arriva in cima alle scale prima di voi. Un tempo era capitano della squadra di atletica a Leavenworth. Mi laverò con te poi faremo due chiacchiere prima di cena. Per un momento accarezzate l'idea di scaraventarlo nella vasca di tenergli la testa sott'acqua ma poi vi trovereste con gli ospiti spaiati a tavola. Perciò dite addio al pisolino e aggiungete un altro nome a lungo elenco di indesiderabili che sperate di non rivedere mai più. Poi c'è la coppia che a mezzanotte si alza per andarsene ma che arriva solo fino alla porta di casa. È praticamente impossibile buttarli fuori come gli avanti di una squadra di rugby che non riescono a fare gli ultimi tre metri. Verso le dodici il marito guarda l'orologio e con voce molto sorpresa esclama mezzanotte andiamo piccola domattina mi devo alzare presto a un appuntamento. Voi vi precipitate a tirar fuori i sopraviti dell'armadio per accelerare la partenza degli ospiti ma vi illudete. La porta pesante e muta non desidera altro che spalancarsi al suono di allegre risate di festosi arrivederci. Ma niente da fare. Questi due sono di quelli che godono stare sulla soglia. Durante il pranzo in salotto quasi non hanno aperto bocca ma all'ultimo momento scoprono di avere un mucchio di cose da raccontare. La moglie ha scovato un nuovo istituto di bellezza e descrive con vivaci particolari il metodo seguito da quel salone per fare la permanente. È un metodo rivoluzionario e sembra che faccia miracoli con i capelli lisci e questo monologo va avanti per circa dieci minuti. Ecco il momento buono. Strisciate di sghembo verso la porta e l'aprite. Allora buonanotte speriamo di rivederci presto. Non siate sciocchi. Li state vedendo in quel momento e continuerete a vederli per un'altra ora o giù di lì. Non hanno ancora dato inizio ai preliminari della partenza. Ora il marito chiude la porta e dice a proposito vi ho parlato della partita di pesca che stiamo per fare? Andremo su un nuovo lago dove pescano solo gli indiani e voi sapete che gli indiani sono pescatori di eccezione. Voi dite è strano che per gli indiani la pesca sia un'eccezione. Forse perché non vogliono bagnarsi i mocassini. È una frase senza senso ma distrae la loro attenzione e vi offre il destro di aprire astutamente la porta con il piede. Nel frattempo quei due si sono infilati i soprabiti e stanno a loro agio come due scarafaggi in un tappeto. In effetti la gelidaria della sera risulta piacevole per mister e missis Isaac Walton. Poi missis Walton attacca a parlarvi di una nuova ricetta di salmone in insalata che ha scovato mentre sventrava un divano di crine in soffitta. Per esaurire questo argomento ci vogliono 15 minuti. Ora l'ingresso si è riempito di un vasto assortimento di lepidotteri, coleotteri e altri insetti notturni attirati dalle luci accese. Verso le due i Walton cominciano a scaricarsi e dopo qualche altro giro di arrivederci riuscite finalmente a spingerli fuori della porta. E qui comincia realmente la vostra fatica. Vi occorrerà quasi un'ora e l'aiuto degli altri ospiti per sbarazzarvi della fauna notturna alata o strisciante che ronza nel vostro ingresso. Più tardi nel cuore della notte, quando la casa sarà immersa nel silenzio, sentirete intorno al letto il battito riposante delle ali dei pipistrelli. I suddetti ospiti restiela di partita fanno il paio col tipo che si alza ogni venti minuti come se fosse in procinto di andarsene. Ogni volta che si alza voi saltate su, speranzosi e puntate come un setter la porta dell'armadio a muro. Ma saltate in vano. Devono passare alcune ore prima che l'amico se ne vada. E' affetto da quella che viene definita calzonofobia. E' un disturbo che per secoli ha messo nei guai sarti e psicologi e che può essere curato solo nei primi stadi o, come sanno quelli del mestiere, nella stagione dei calzoncini corti. La malattia si manifesta con la completa incapacità di controllare il movimento delle gambe dei pantaloni che salgono, arricciandosi nel cavallo del paziente. Quello che il padrone di casa interpreta come un desiderio di congedarsi da parte dell'ospite è soltanto il frenetico sforzo di scuotere le gambe dei pantaloni perché scendano di nuovo verso le scarpe. Poi c'è la strega di mezza età, moglie dell'intruso che arriva sempre presto, la quale piomba in casa quando la cena è già in tavola e dopo un rapido batibecco con il marito che a quel punto è già mezzo sbronzo, dice agli ospiti affamati che stanno per precipitarsi in camera da pranzo, un momento gente! Dice sempre gente, senza distinzione di sesso, e ciò è facilmente comprensibile perché secondo me lei stessa deve essere incerta sul proprio sesso. Un momento! C'è niente da bere per me? Scotch o barbon? chiedete voi educatamente. Sai bene che non posso bere whisky? Dice lei facendo boccucce. Perché non mi ammansisci un bomber zain special? Voi le ammanireste volentieri una mazza da baseball in testa, ma poiché siete un padrone di casa perfetto e non riuscite a ricordare dove avete messo la mazza, ribattete pazientemente. Che ne diresti di una vodka o di un red high? Non mi dire che non hai mai sentito nominare il bomber zain special. E vi guarda con commiserazione. Beh, non hai viaggiato molto, vero? Cosa fai? Vivi sotto una pietra? In quel momento non ve ne importerebbe niente. Il bomber zain è l'unica cosa che beve la gente in. L'hai importato dall'argentina rubirosa. Beh, non ci crederai, ma è come bere latte. Ne ho bevuto tre ieri sera e ho fatto un sogno favoloso. Tutto pieno di Paul Anka. Mentre quella è sul punto di raccontare tutto il sogno, voi interloquite pazientemente e con un sorriso, tipo Monna Lisa. Se mi dici come si fa, sarò lietissimo di preparartelo. Dunque, una parte di whisky irlandese, un'oncia di rum, un terzo di granatina, uno spruzzo di angostura, un cucchiaio di melagrana e dieci spruzzetti di panna montata. E voi fate la controproposta. Ti andrebbero un po' di pasticche di seconda al ricoperte di cioccolato? Se è troppo disturbo, me lo preparo da me. E prima che possiate impedirglielo, la maledetta è già in cucina. Schizza dappertutto succo di melagrana e panna montata, sbatacchia di qua e di là i piatti di portata, frastorna la cuoca e contribuisce in modo determinante alla distruzione di 48 dollari di generi alimentari. Un altro bel esemplare è il roditore solitario. Viene solo, viene presto, va matto per le noccioline. Ammazza il tempo che lo separa dalla cena sgranocchiando un piatto pieno di arachidi, poi, mezzo abbuffato, veleggia verso la camera da pranzo. Non mangia molto, solo un po' di caviale e magari un paio di tartufi, tanto per gradire. Finita la cena, però, eccolo di nuovo all'assalto. E l'oggetto dei suoi assalti sono i pistacchi. E con quanta rapidità sa far sparire quei pistacchi da un dollaro e sessanta la libra. Dategli un bel piattone di pistacchi e una fuga di Buck e il mondo è suo. Ha una tecnica tutta particolare. Non si limita a mettersi in bocca le noccioline o i pistacchi come fanno tutti i bipedi suoi simili. Sa che se lo facesse sarebbe espulso dal sindacato roditori. Li mangia nel modo giusto. E il modo giusto è quello di schiacciarli rumorosamente fra i denti. Poi, con la mano una ventina di centimetri dalla bocca, si ributta nel gozzo con un movimento regolare, come un fuochista che alimenti la caldaia di un treno merci in salita. Non sbaglia un colpo. Ha una mira fantastica. Quando tutti i pistacchi disponibili sono scomparsi, lui salta su di scatto e se ne va a grande velocità. Forse va a passare la notte su un albero. I metodi più semplici sono di solito i più efficaci per sbarazzarsi degli ospiti di fine settimana. Qualche larvata osservazione durante la cena raggiunge generalmente l'effetto sperato. Per esempio, quando arriva l'arrosto potete lamentarvi così. La carne è diventata talmente cara. Non è facile mandare avanti una famiglia di questi tempi. Per non parlare degli ospiti. Quando arrivate all'ultima parte di questo discorsetto, date un'occhiata all'ospite. Se ha un po' di orgoglio, e ben pochi ne hanno, se ne andrà immediatamente in camera sua a fare le valigie. Se però è l'ospite di fine settimana del tipo comune, le utilizie di questo genere sono una inutile perdita di tempo e bisognerà prevedere metodi più energici, non esclusa la forza. Non è mai saggio fare uso della violenza. A meno che l'ospite non sia una donna o un ometto di piccola taglia. Quando si fanno degli inviti, è opportuno tenerlo sempre presente. Procuratevi sempre gli ospiti più mingherlini di cui potete disporre. In ogni modo, se vi siete impegolati con una persona di taglia normale, ci sono molti piccoli espedienti ai quali potrete ricorrere. Di solito otterrete buoni risultati interrompendo l'erogazione dell'acqua o tagliando i fili del telefono. Può essere anche utile bruciare le sue lettere, soprattutto se sono del genere di quelle che ricevo io. Molte persone sono allergiche ai cracker dentro il letto, specie a quelli salati, e alzandosi la mattina impanati come cottolette di vitello, non vedono l'ora di andarsene. Una volta però ho avuto un ospite che fu entusiasta di questo trattamento. Tutte le sere, prima di andare a letto, si mangiava i cracker. E dopo una settimana disfece i bagagli e cominciò a gridare attraverso il buco della serratura che gli portassero del formaggio. Se qualcuno dei miei amici si riconoscerà leggendo questo saggio, tenga presente che sto scherzando. E se vogliono che li inviti a cena, andrebbe bene domani sera al Joe's Coffee Pot all'angolo tra la quinta e la Main Street alle sei in punto? Capitolo 2 Come ho successo in società Non racconto storie. Ci fu un tempo in cui le cene ufficiali, con 4-5 forchette di varie misure schierate accanto al piatto, mi mettevano in serio imbarazzo. Ma questo succedeva molto tempo prima che entrasse a far parte della Elite e che diventassi noto come la Elsa Maxwell di Hollywood. Gli amici che una volta ridevano quando mi sedevo a tavola adesso mi si affollano intorno per avere consigli sul modo di comportarsi. Le padrone di casa si precipitano a telefonarmi per sapere che vino bisogna servire con i wustel o come comportarsi con l'ospite d'onore che si è appena messo in tasca tre cucchiai. Ma il più bel complimento mi è stato fatto niente meno che da Amy Vanderbilt. Vedendomi all'opera durante una cena elegante, dovete ammettere che al mio confronto lei ignorava tutto sull'etichetta. Se ricordo bene le sue esatte parole furono Se quel Mr. Marks ha qualche vaga nozione di etichetta allora io sono una scimmia maestrata. Tuttavia anche i consensi e l'adulazione possono venire a noia. Diventa fastidioso avere intorno in ogni momento delle persone che ti chiedono che cosa hai fatto per essere baciato dal successo. Soprattutto se ve lo chiedono nel momento in cui state baciando la mano a una duchessa russa bianca. Sono sicuro che era una duchessa russa bianca perché non ho mai conosciuto duchesse russe di colore. E questo è il disegno. Potrei naturalmente suggerire ai postulanti di consultare i testi fondamentali sull'etichetta che però temo siano di ben scarsa utilità per chi come me non ha un cameriere. Tre qualità di vini, a cena e caviale a colazione. Se ho raggiunto il successo è stato semplicemente perché ho osservato alcune regole elementari e ho conservato la mia buona reputazione. È documentato che nel 1959 ho presenziato a 336 cene ma più di una dozzina delle quali ero stato invitato. Naturalmente anche voi dovete invitare la gente a casa vostra ma non dedicherò molto spazio a questo argomento perché con un po' di oculatezza potrete fare in modo che gli inviti arrivino quando i destinatari degli inviti stessi sono fuori città. Ma come ho detto ci vuole un po' di oculatezza. Una volta quando ero a New York invitai a cena 12 amici che, stando ai giornali, dovevano partecipare a un congresso a Minneapolis. Ebbene, i giornali si erano sbagliati. Solo 4 dei miei invitati andarono a Minneapolis. Gli altri 8 vennero a casa mia e vi prego di credermi la loro indignazione per le inesattezze dei giornali di oggigiorno fu anche superiore alla mia. In casa non c'era altro che del cibo per gatti e io non avevo nemmeno un gatto. In casa non c'era nemmeno io quella sera perché ero a Brooklyn dove partecipavano a cena a quale ospite inatteso. Ne parlo perché mi dà il destro di mettere sul tappeto un argomento che è stato sempre trascurato da tutte le altre autorità in materia di etichetta. Intendo accennare all'ospite non invitato o, come si dice volgarmente, allo scroccone. Io la penso così. Se il padrone di casa, per una ragione o per l'altra, non vi ha invitati alla cena alla quale vi presentate, non mettetelo nell'imbarazzo richiamando la sua attenzione su questo fatto. Solo una persona molto meschina entrerebbe non invitata in una casa e direbbe «Belle cose! Dare una cena senza invitarmi! Avevo una mezza idea di non venire!» In simili circostanze, un gentiluomo entra nella casa in questione, come se niente fosse, dalla porta principale anziché da una finestra del piano superiore, che, secondo me, è la forma peggiore di arrampicamento sociale. Il gentiluomo di cui sopra non si precipita subito al bar, non soltanto perché questo sarebbe un modo di comportarsi troppo volgare, ma anche perché al bar vengono serviti i liquori per gli ospiti, di solito a gradazione alcolica molto bassa. «Ho scoperto che se rifili al cameriere un paio di dollari, ti darà il liquore che beve lui, e naturalmente anche il padrone di casa. Poiché l'abito fa l'uomo, la donna dovrebbe prestare tutta la sua attenzione all'abbigliamento. Il padrone di casa dovrà comunicarle, se è richiesto, l'abito da sera, e farà bene a essere molto preciso. Infatti, conosco il rampollo di una delle prime famiglie di New York, la prima salendo per la Decima Avenue, che scrisse sul suo invito «Senza toilette». Sfortunatamente, un ospite, una signora incantevole e attraente, prese queste parole un po' troppo alla lettera. «Perché ho scritto sfortunatamente?» Come regola generale, la donna non sbaglia mai quando si mette un semplice abito del pomeriggio di pomeriggio e un abito di sera alla sera. Per gli uomini, il vestito è un problema ancora più trascurabile. La cravatta nera va sempre bene, ammesso che abbiate il colletto. Le code, a parer mio, stanno bene solo ai cani. L'uomo esperto in questo genere di cene di solito procura di essere il primo a sedersi a tavola, perché così, se capita vicino a una carampana, può scambiare i cartoncini segnaposti. Se viene scoperto mentre compie questa operazione, il gentiluomo, naturalmente, non farà spiacevoli osservazioni sul conto della carampana. Invece, adotterà un atteggiamento disinvolto e butterà là una frase come «E' solo che desidero star vicino alla contessa Rittenhouse. Gli amici del club mi dicono che è divertente da morire quando la fai bere qualche birra». «E' estremamente scorretto accompagnare questa affermazione con un malizioso «Eh, contessa?» «Adesso parliamo del cibo». Ed era ora. «La prima cosa da ricordare è che l'insalata deve stare a sinistra e che, a meno che non si tratti di asparagi, non deve essere presa con le dita. Il piatto alla vostra destra, contessa Rittenhouse, non deve essere toccato. Quando un gentiluomo cena fuori e non trova il cibo di suo gradimento, non si mette a mugugnare che avrebbe mangiato meglio a casa sua senza bisogno di aspettare fino alle otto e tre quarti e non farà certo affermazioni minacciose come «Signora, se questa cottoletta mi provocherà la dissenteria, domani mattina riceverà i miei legali». Se poi gli viene da dissenteria, cercherà di giungere a un componimento amichevole. Ma tutto ciò si può evitare dicendo con un sorriso alla padrona di casa «Ella, cara, ho superato la minestra e l'insalata, ma questo intruglio mi ha messo a terra. Ti dispiacerebbe farmi due uova al tegamino?» Fra tutte le cose belle della vita, la più diffusa è il pomiciare. Se qualche adolescente legge queste righe, lo prego di sostituire il verbo con quello di moda. Il vero gentiluomo non indulge in questa pratica indiscriminatamente. Non bacerà mai la sua dama in una sala da ballo fino a che questa non sarà affollata e non tenterà mai di baciare una giovane signora che ha appena lanciato uno strillo per richiamare l'attenzione di un poliziotto. Ovviamente un uomo in uniforme esercita un fascino romantico molto superiore a quello di noi uomini in borghese. Molte giovani non gradiscono gli approcci casuali. O è così, oppure sono io che ho avuto una iella nera. In società devono imparare a tenere a bada un gentiluomo con le zampe lunghe senza offenderlo. Per questo raccomando l'adulazione. Qualche apprezzamento personale come «Nessuno le ha mai detto che lei somiglia a una donnola?» E adesso vediamo se siete stati attenti. Quando si mette su una bistecca su un occhio nero, bisogna guarnirla con aglio e prezzemolo? È opportuno usare un soprannome, per esempio Puzzone, sul biglietto da visita, supponendo che mai nessuno vi chiami Rodrik. Se invitate una giovane per un giro di danza e lei vi dice che le fanno male i piedi e se poi dopo 30 secondi la vedete ballare è un valzer scatenato con un giovanotto che ha più brillantina di voi sui capelli e anche più capelli, le chiedete l'indirizzo del suo pedicure o vi ecclissate? Quando la signora paga il conto al ristorante, deve passare i soldi furtivamente sotto il tavolo al signore o porgerli direttamente al cameriere? Quando si lascia un nightclub nel quale ha fatto eruzione la polizia, chi sale per primo sul furgone? La signora o il signore? Durante una festa, come fate ad allontanare un autore di canzoni dal pianoforte senza urlare? Se siete in grado di rispondere a sette dei su esposti quesiti in maniera inesatta e avete mangiato i coperchi di quattro scatole di fiocchi d'avena, vi meritate i galloni di uomo del mondo. E, a proposito, quando posso venire a cena a casa vostra? Capitolo 3 Il paria di Hollywood sono io La scala sociale di Hollywood è lunga e vertiginosa e proprio sotto il piuolo più basso, se guardate attentamente, vi capiterà di trovare... ma ascoltate quello che viene dopo. Sono le 11 di sera e me ne sto seduto nel letto con le opere di Sir Walter Scott e un bicchiere di latte caldo. Non pensate che sia stato a letto tutta la sera? In realtà sono appena tornato da una cena. Eravamo in sei, compresi la padrona di casa e suo marito. Ognuno di noi ha ricevuto la sua dose di sherry prima di cena e di cordiale dopo cena, il tutto accompagnato da due ore di conversazione. Gli uomini hanno parlato di politica, di problemi del traffico e di donne. Le donne hanno parlato di acconciature, di comitati scolastici e di uomini. Alle dieci e mezzo gli sbadigli erano diventati quasi epidemici e alle undici ero a letto. Dopo trent'anni passati a Hollywood, piano piano e a malincuore, sono giunto alla conclusione che dal punto di vista sociale sono una frana. Mi sono finalmente convinto di avere la maggior parte di quegli acciacchi che, stando ai caroselli televisivi, si possono guarire in ventiquattro ore. Solo così riesco a spiegare l'esistenza ritirata che ho condotto in una città che è famosa per le sue follie e per la sua spensieratezza. Credo di non essere mai riuscito a conquistarmi un posto nelle colonne mondane dei giornali. Oh, il mio nome appare frequentemente in alcuni articoli, ma di solito ciò accade quando viene annunciato un spettacolo televisivo al quale prenderò parte o quando si parla di qualche mio progetto teatrale. Le cronache cinematografiche non hanno mai citato il mio nome in occasione di feste come la seguente. Mr. e Mrs. Basil Metabolism hanno offerto a 360 coppie un garden party per festeggiare il ritorno di Steve Gwendolyn dal Peru. Un tendone di raso copriva tutta la superficie del giardino e a ogni coppia venivano offerti una piscina in miniatura e un barilotto di champagne. I fotografi di Life cui era stata concessa l'esclusiva dell'avvenimento tenevano gli obiettivi puntati di preferenza sulle stelline che indossavano i bichini più microscopici. Alle 11 è stata organizzata la divertente vendita all'asta e la figlia della padrona di casa è stata venduta a un commerciante di auto usate il quale ha dichiarato scherzosamente di volerla scambiare con una Rolls Royce nuova. Verso l'una Kim e Frankie sono venuti a rallegrare la festa affascinando i presenti con le aree di Burl Hives. Verso le tre alcuni cannoni hanno sparato ragazze nude fra le braccia di quei fortunati che erano senza compagna. L'orgia ebbe finalmente termine quando i primi raggi di sole apparvero dietro le colline. Come i lupi si muovono in branchi così questa città è organizzata in congreghe e se non fate parte di una di queste congreghe vi ritroverete soli a casa vostra alle 11 di sera a riparare la lavabiancheria il televisore o a cercare di infilare un veliero nel collo di una bottiglietta. Per esempio c'è la cricca dei giocatori. Partono tutti i giorni a mezzogiorno per un ipodromo equipaggiati con i binocoli programmi delle corse e uno stuolo di bionde. Non saprebbero dirvi i nomi di tutti i 50 stati ma possono snocciolarvi quelli dei cavalli che corrono quel giorno sui campi più importanti. Questi tipi approfittano di ogni ora disponibile. Giocano a ramino durante il viaggio di andata e giocano a ramino durante il viaggio di ritorno. Dopo cena giocano a ramino fino al momento di tornare di nuovo all'ippodromo. L'inverno se sono abbastanza fortunati ad avere un divorzio in corso vanno a Las Vegas o a Reno. Là possono scaricare una moglie vecchia o un marito vecchio sposare un'altra o un altro e contemporaneamente continuare a giocare a ramino. Sono sempre in movimento o tornano in aereo da città del Messico o volano verso la Giamaica. Quando sono stanchi del ramino si rifugiano nei night club o in altri locali di divertimento. Questi ritrovi sono famosi per le risse e in molti di essi sono di rigore il frac e il pugno di ferro. In media una volta alla settimana si possono leggere notizie di agenzia del seguente tenore. Il cantante Devereaux Barrett protagonista di Death Valley Days la notte scorsa al copacadero si è preso una bottigliata in testa. Questa mattina si è presentato davanti al giudice ostentando un occhio nero e ha dichiarato che è stato tutto un errore. Ha detto che era scivolato sotto il tavolo per cercare di infilare un fiammifero acceso nella scarpa della fidanzata ma che essendo il locale molto affollato non si è accorto che l'oggetto del suo scherzo era invece la moglie di un eminente ingegnere minerario che era svenuta al tavolo vicino. Così è vita amore risate e che faccio io mentre accade tutto questo? Sto a casa a seccare noccioli di ciliegie per fare un sonaglino al nipote della mia cuoca. Sono un po' troppo vecchio per le cricche degli sportivi ma anche nei miei giorni migliori quando le arterie erano elastiche come la testa non credo che avrei potuto resistere a questi tipi. loro non mi hanno mai invitato ma è lo stesso si alzano all'alba galoppano per sentieri ruscelli di montagna dopo una colazione frettolosa mentre sono ancora in sella frustano la criniera fumante del loro destriero per riportarlo nella stalla poi si tuffano nella piscina di qualcuno a loro non importa di chi sia la piscina si immergono e riemergono e lo fanno così rapidamente che nessuno si accorge di loro. dopo di ciò cinque set di tennis una corsa al mare per un rapido bagno e poi un po' di palla a mano prima di cena dopo cena di solito giocano a ping pong fino al momento di balzare di nuovo in sella mentre questi superuomini galoppano per valli e vallette io cerco a tastoni nella stanza da bagno una piloletta bianca purché sia che mi spedisca nel regno dei sogni perfino la congrega intellettuale non vuol saperne di me fisicamente sembro uno di loro ho le tempie brizzolate e l'andatura un po' claudicante e porto spessi occhiali ma mi hanno provato e mi hanno giudicato carente per un errore che non è mai stato spiegato per un errore che non è mai stato spiegato fu invitato una volta a una loro cena quando ricevetti l'invito mi precipitai in biblioteca mi buttai su una dozzina di testi diversi mi diedi da fare un po' con Platone annusai Spinoza e mi lessi la veglia di Finnegan di Joyce dal principio alla fine e dalla fine al principio mi rimase più chiara leggendola dalla fine al principio arrivata la sera della cena ero sicuro di saperne abbastanza da potermela cavare alla meno peggio ma adesso non la penserei più così era una cricca di scrittori la maggior parte delle donne avevano capelli corti e calzini la maggior parte degli uomini avevano l'ulcera e niente calzini fino a che le luci non vennero accese per dare inizio al trattenimento era difficile distinguere i due sessi mi stavo ancora asciugando le macchie di Macedonia di frutta sul panciotto quando la padrona di casa ci convogliò tutti in salotto e ci fornì di carta e matita poi gli invitati presero posto e si bombardarono reciprocamente con domande che avrebbero fulminato i cervelli di Bertrand Russell Nathan Posey e Arthur Schlesinger senior e junior messi insieme dopo alcune schermaglie intellettuali preliminari mi lasciarono andare e io me la squagliai in cucina per continuare il lavoro di ripulitura del mio panciotto ci sono molti altri gruppi e conventicole a Hollywood differiscono fra loro sotto molti aspetti ma hanno una cosa in comune mi evitano sono un navigatore solitario nel mare sociale della città devo ammettere che sono scoraggiato ma ho deciso che un giorno l'altro sfonderò nella società di Hollywood e se tutti i miei tentativi dovessero fallire stazionerò con la mia macchina sul Sunset Boulevard e per una modica tariffa mostrerò ai turisti l'esterno di tutte le case nelle quali non sono mai stato invitato capitolo capitolo 4 le avventure di un uomo extra alcuni anni fa Claire Bootluse era il nostro ambasciatore in Italia e io ero un attore cinematografico la conobbi in occasione di una cena elegante il padrone di casa mi aveva invitato solo perché mi doveva da molto tempo 300 dollari persi ai dadi e poiché sapevo che non avrei mai visto quei soldi avevo deciso di ripagarmi quanto più potevo con pasti gratis Mrs. Luce era venuta sola come me abitava a Bel Air ospite di certi amici che quella sera l'avevano lasciata libera verso l'una del mattino gli invitati cominciarono ad andarsene e il padrone di casa mi chiese se mi dispiaceva accompagnare a casa Mrs. Luce con una certa cautela chiesi dove abita? dalle parti di Bel Air rispose lui con molto piacere è un bel posto Bel Air il padrone di casa disse ma c'è una discreta nebbia stanotte spero che tu non perda la strada io perdere la strada non ti preoccupare conosco la zona come le mie tasche non dimenticare non dimenticare che praticamente è come se fossi nato in California non so perché dissi questo forse perché in fondo in fondo sono uno sbruffone e non perdo mai l'occasione di darmi delle arie non avevo mai ospitato nella mia macchina un ambasciatore né maschio né femmina perciò rivolgendomi a Mrs. Luce con la innata galanteria che sin dall'infanzia mi ha distinto dalla Canel dissi sarò onorato di accompagnare una personalità così eminente mi parve che Mrs. Luce trasalisse leggermente a questa sciocca dichiarazione ma forse era solo frutto della mia immaginazione vivo in California dal 1930 o per dirla in altri termini scappai da New York subito dopo il tracollo della borsa devo aggiungere che mi era rimasto il denaro appena sufficiente per il viaggio in autobus ciò nonostante benché viva in California da una trentina d'anni in certi quartieri della città mi sento un pesce fuor d'acqua mi basta passare cinque minuti in quel labirinto che chiamano Bel Air per avere la sensazione di essermi sperduto nel cuore delle isole Salomone forse perché porto lenti bifocali o perché non ho più cambiato gli occhiali dal tempo in cui Coolidge che era il presidente degli Stati Uniti dal 1923 al 1929 nota del traduttore era in carica il mio senso di orientamento è un po' meno che scarso se Daniel Boone colonizzatore ed esploratore americano fosse ancora vivo si farebbe un sacco di risate a vedere con quanta difficoltà cerco di orientarmi in un quartiere sconosciuto per esempio la settimana scorsa ero a cena in un albergo alla moda a un certo momento ho varcato una porta che secondo me doveva portarmi alla toilette dei signori e ho dovuto constatare che se gli esseri che fuggivano di là in preda al panico erano uomini erano vestiti in modo piuttosto curioso sono convinto che Belair sia stato progettato da un sadico diabolico che abbia deliberatamente deciso di non servirsi di bussole e di topografi ormai è andato a raggiungere il grande cartografo in cielo ma con gli occhi della fantasia lo vedo seduto in cima a una torre da dove contempla l'opera sua e ride istericamente mentre guarda col binocolo le sue vittime che si incontrano e si scontrano senza speranza lungo le strade che conducono al limbo tanto per fare un esempio se prendete due dozzine di tagliolini cotti e li buttate alla rinfusa su un piatto incrinato e poi buttate il tutto dalla finestra avrete un'idea abbastanza esatta di come sono state progettate quelle strade ad aumentare lo smarrimento del misero automobilista verso le dieci di sera sulla zona cala una nebbia proveniente dal pacifico che ricopre con una fitta coltre quel delizioso campestre esempio di quartiere residenziale dunque ci avviamo coraggiosamente e dopo cinque minuti ci eravamo persi come se fossimo stati sull'alto nilo passò un'ora di inutili giravolte durante quell'ora parlamo del nostro ospite accennamo la politica passiamo in rassegna il panorama mondiale settore per settore mrs. Luce è una conversatrice brillante e poiché il mio dialogo diventava sempre più incoerente mi rendevo conto che lei non vedeva l'ora di liberarsi di me come la maggior parte delle donne che erano raggiunto il successo è dotata di intuito e di senso pratico mentre cercavo di spiegarle perché i quadri di Rembrandt non sarebbero mai stati vivi mi interruppe dicendomi mister marx non voglio criticare la sua guida al suo senso di orientamento e la prego di scusare la mia schiettezza ma credo che lei non abbia la più pallida idea di dove ci troviamo non crede che ah scusate non crede che faremmo meglio a fermarci al prossimo angolo per dare un'occhiata alle targhe stradali dal punto di vista scenografico Belair è indubbiamente una delle più raffinate città giardino del mondo perfino i lampioni con le targhe stradali sono circondati da una siepe abbastanza alta da nascondere la volgare circostanza che i suddetti lampioni non fluttano nell'aria ma sono piantati nel terreno come lampioni che so io di Dabaku o di Wicoc la nebbia era diventata sempre più fitta e la visibilità era scesa a circa tre metri accettai il suggerimento e fermai la macchina al primo angolo scendemo tutti e due e incitato dalla mia compagna mi arrampicai sul lampione come se non avessi mai fatto altro in vita mia gli anni passati in marina mi erano serviti a qualche cosa lessi il nome della strada Mrs. Luce le gridai non ha più motivo di preoccuparsi adesso so esattamente dove ci troviamo e poi vorrei approfittare dell'occasione mentre sono quassù per scusarmi di aver perso la strada il fatto è che ero talmente assorbito dai suoi acuti giudizi sulla situazione mondiale che devo confessarlo mi sono un po' distratto alla guida scesi elegantemente dall'ampione e mentre ci trovavamo ancora fra i cespugli umidi dalla nebbia emersa c'è una figura riconobbi quel viso apparteneva a Charles Brackett produttore e sceneggiatore della 20th Century Fox Mr. Brackett residente a Bel Air e afflitto da insonnia parziale ogni mattina alle due compie il rito di portare a spasso per le colline il suo bastardo che chissà perché lui si ostina a chiamare barboncino questo vi dà un'idea della vita affascinante che conduce la media dei produttori cinematografici in quel quartiere appartato Mr. Brackett è un uomo molto dignitoso la cui compostezza viene raramente scossa ma devo dire che fu un po' stupito per non dire allarmato nel vedere quei due fantasmi fra le siepi intrise ed umidità ci osservò per un momento incapace di credere i suoi occhi poi si rivolse al suo cane Spiros gli disse fino a questo momento credevo di aver visto tutto ma se qualcuno mi avesse detto che avrei incontrato l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia e Groucho Marx in un cespuglio di Belera le due del mattino non ci avrei creduto poi si tolse il cappello per salutare Mrs. Luce e pazientemente ci indicò la via per uscire da quel labirinto che se fosse stato più piccolo avrebbe potuto servire per addestrare i topi infine Mr. Brackett ci voltò le spalle e scomparve nella nebbia Mrs. Luce disse allegramente beh Mr. Marx con queste indicazioni dovremmo essere a casa in cinque minuti ma la mia compagna non sapeva che io non ho alcuna capacità di concentrazione e che avevo già dimenticato tutto ciò che Brackett mi aveva appena detto nel frattempo gli amici presso i quali Mrs. Luce abitava preoccupati della sua assenza prolungata avevano telefonato al nostro ospite di quella sera e gli disse che ce ne eravamo andati all'una e che avremmo dovuto essere a destinazione all'una e un quarto impensieriti gli amici di Mrs. Luce telefonarono alla polizia che mandò subito due autopattuglia per lustrare la zona ci trovarono alle 4 e 40 Mrs. Luce in piedi in mezzo a un cespuglio bagnato e io come al solito appollaiato su un ennesimo lampione spero che sia stata solo una coincidenza ma il giorno dopo Mrs. Luce partì per l'Italia e io tornai alla MGM in tutti questi anni per una ragione o per l'altra Mrs. Luce non mi ha mai più chiesto di accompagnarla a casa capitolo 5 una serata spiritica in casa fatta forse eccezione per i vestiti i saloni di bellezza e Frank Sinatra ci sono pochi argomenti sui quali le donne si trovano d'accordo uno dei temi che sembra esercitare su tutte un indiscusso fascino pagano è la magia le sfere di cristallo le zingare che predicono la sorte le foglie di tè le chiromanti le sedute spiritiche e perfino i messaggi contenuti nei pasticcini cinesi sono tutte cose che riescono a soggiogarle ciò prova che la femmina ha lasciato la giungla da appena 15 anni eppure anche questo fa parte del suo fascino come i tacchi alti le calze di nylon un seno prosperoso e magari i denti bianchi le ho viste sedute per ore febbrili e con gli occhi spiritati intorno a un pezzo di legno irregolare chiamato tavola guiglia se osavi dire che erano loro stesse a farlo muovere dimostravano i denti perlace ingiungendoti di chiudere il becco e di levarti dai piedi i primi tempi in cui vivevo a hollywood abitavo in una casa vecchia e triste sulle colline a quell'epoca non c'era la televisione che ti venisse in aiuto per rovinarti la serata e bisognava trovare altri mezzi per far passare le lunghe sere tediose in cui non avevi inviti a cena il sesso era stato scoperto e abbandonato dalla maggior parte dei miei conoscenti una sera le mogli di quattro miei amici erano sedute davanti all'enorme camino in salotto erano normali i bambole di mezz'età con figli grandi e capelli tinti cosa stavano facendo erano intente a spingere un piccolo getto di legno che assomigliava a un rognone traforato intorno alla tavola uia era una serata calda e nel camino c'erano solo dei vecchi giornali spiegazzati rimasti lì dall'inverno precedente insieme con alcuni ciocchi semi bruciati e quelle mentecatte se ne stavano sedute a spingere avanti e indietro di qua e di là quello strano coso avevano gli occhi stranunati per l'eccitazione nemmeno un terremoto avrebbe potuto distrarle alla fine mi avvicinai e chiesi con voce cordiale perché erano tanto elettrizzate una mi disse di star zitto un'altra più arguta mi disse crepa la terza si limitò a mormorare vattene pagliaccio la quarta mi spiegò a denti stretti se proprio vuoi saperlo stupido stiamo ricevendo dei segnali dallo spirito di george washington george washington se avessero detto george raft avrei anche potuto capire ma washington era morto circa 200 anni prima e probabilmente era più indaffrato ora di quanto non lo fosse mai stato in vita ma quelle casalinghe minorate psichiche tentavano febribilmente di mettersi in contatto con lui avrei ancora capito se avessero cercato martha washington ma george cosa poteva avere in comune con loro intorno al tavolo le ex vergini continuavano a spingere il pezzo di legno finalmente una disse george stiamo cercando di metterci in contatto con te ricevi i nostri segnali ci senti non so se george le sentì ma in quel momento un topo di media taglia schizzò fuori improvvisamente dal camino le quattro signore corsero strellando da pollaiarsi sul pianoforte non riuscì mai a convincerle che quel topo non era il padre della nostra patria per quanto dal modo in cui vanno le cose oggi forse lo era capitolo 6 una serata in città con una medium straordinaria anni fa quando abitavo nel south side di Chicago quel quartiere era diventato piuttosto miserabile la maggior parte degli indigeni più facoltosi avevano levato le tende già da un pezzo per trasferirsi ancora più a sud o in una di quelle strade del north side che se non ci stai attento ti portano dritto a miluocchi le grandi cadenti di more signorini o lezzanti di muffa venivano via via occupate da sarti per uomo idraulici sarte per signora mediatori di immobili donne di facili costumi e altri simili attivi imprenditori uno di questi sgangherati edifici in mattoni rossi ospitavano spiritista i suoi volantini venivano disseminati in tutto il south side i prati ne erano inondati non ricordo esattamente il testo ma aveva un tono molto consolante in grandi lettere rosse si leggeva volete comunicare con i vostri cari anche se non sono più di questo mondo ricordate i vostri cari estinti sentono la vostra mancanza consentiteci di aiutarvi a comunicare con loro non vi sono domande riguardanti il futuro alle quali non si possa rispondere tutte le sere dalle 8 e 30 alle 11 alla Mystic Hall seguiva l'indirizzo e la firma Madame Ali Ben Mecca la più famosa esperta di scienze occulte dell'Arabia a causa delle passate esperienze e dei molti anni di guerriglia domestica sapevo che era solo questione di tempo alla fine avrei dovuto assistere per forza a una di queste sedute sarei stato più furbo se avessi acconsentito al primo accenno mi sarei risparmiato settimane di alterchi di recriminazioni di punzecchiature verbali quando arrivammo la sala ampia e oscura era già quasi piena sull'altare l'incenso bruciava in due grandi urne era uno degli odori più strani che avessi mai sentito data la mia lunga consuetudine con gli spettacoli di varietà potei rapidamente classificare quel fetore come uno strano miscuglio di oppio cavolfiore escrementi di cane e acqua di toilette fui sul punto di svenire tuttavia la mia compagna veterana di lunghi anni di compromessi e guerre micidiali mi trascinò subito verso una panchetta e cominciò a sventagliarmi ebbe una certa difficoltà a farmi tornare in me ma alla fine risolse il problema dandomi ripetuti calci negli stinchi dopo essermi scosso come un terranova appena emerso dall'acqua vidi impalato vicino all'altare un mammalucco bardato con una uniforme da generale russo sulla quale troneggiava un alto copricapo di seta invitò i presenti ad avere pazienza con voce argentina ci spiegò che madame prima di fare la sua apparizione doveva sintonizzare il suo ectoplasma con il mondo dello spirito andò avanti a chiacchierare per un bel pezzo mentre le esalazioni semi letali continuavano a uscire dalle urne con l'evidente scopo di farmi addormentare la piccola signora al mio fianco una ex moglie era a sua volta decisa a mantenermi sveglio diventò una gara ogni volta che respiravo troppo a fondo una zaffata di quel lezzo profumato la testa mi ciondolava lei se ne accorgeva e mi appioppava all'istante un calcione negli stinchi andando avanti di questo passo dopo un po' non solo ero drogato ma avevo anche le caviglie che cominciavano ad assumere il colore di una vecchia pipa di schiuma a un tratto sentì un gran frastuono di cembali e madame d'arabia fece il suo ingresso con tutta l'imponenza dei suoi centoquaranta chili indossava un abito di afano con un lungo strascico scorretto da due valletti dalla pelle olivastra madame poteva anche venire dalla rabbia come diceva ma gli agli occhi di un uomo che per molti anni aveva viaggiato da un capo all'altro del sud madame aveva una somiglianza impressionante con zia gemima tutto quello che le mancava per completare il quadro era un barattolo di farina per frittelle fra le mani il suo ingresso il suo ingresso mi procurò una potente gomitata nelle costole da parte della mia nemica e prima che me ne rendessi conto avevo lasciato accadere tre dollari nel vaso di terracotta che uno degli schiavi sussidiari stava facendo girare per la stanza quando la grassa vergente araba si fu seduta con tutto il cerimoniale che si addiceva al suo rango elevato l'imbonitore ci annunciò che i tre dollari che tutti avevamo lasciato accadere nel vaso non ci davano alcun diritto di ottenere comunicazioni astrali ci spiegò solennemente che quella era solo la tariffa d'ingresso ma aggiunse che con un ulteriore sborso di cinque dollari madame si sarebbe messa in contatto con tutti quegli amici o parenti che erano stati tanto fortunati da scomparire nel regno dei più ormai incurante di ogni cautela e bramoso di mettere le grinfie sui cinque dollari supplementari disse se non avete cari istinti madame risponderà ogni domanda su qualsiasi argomento l'andamento della borsa i risultati sportivi la durata della vostra vita insomma vi darà tutte le informazioni che chiederete perché la regina vede tutto e sa tutto quando sentì parlare di altri cinque dollari pure inebetito come ero cercai istintivamente di guadagnare a testoni la via ad uscita la mia bella compagna sempre all'altezza della situazione mi afferrò per i fondelli dei calzoni e mi spinse di nuovo verso il panchetto della mungitura sul quale ero rimasto accovacciato per più di un'ora dove vorresti andare anche all'inferno ma fuori di qui oh no proprio no sediti lì e tira fuori gli altri cinque dollari spilorcio senti pazienza per i tre dollari ma perché dovrei tirarne fuori altri cinque quella tipa lì non ha niente da dirmi che io abbia voglia di ascoltare avevo scoperto che non respirando affatto riuscivo ad avere le idee più chiare tu non avrai niente da chiederle ma io sì sono venuta qui per mettermi in contatto con il marito di mia zia era il mio zio prediletto ed è morto otto anni fa continuo a inviarmi i messaggi e certe notti vibriamo insieme a quei tempi ero considerato una persona molto spiritosa quindi le dissi perché non gli scrivi una lettera scrivila su un foglio di amianto dato il posto in cui si trova molto divertente faresti furore in un head club di quart'ordine tira fuori cinque dollari nel frattempo zia gemina era scivolata nel regno dei sogni con voce bassa e sua dente l'imbonitore annunciò allora che sebbene il corpo materiale di madame fosse ancora seduto sul trono imperiale il suo corpo astrale stava leggendo nel regno del nulla aggiunse che quando fosse tornata dal suo lungo viaggio tutti coloro che avevano deposto cinque dollari nel vaso avrebbero potuto interrogarla sull'aldilà sulla vita presente o su quella futura appena lui ebbe finito questo discorsetto gli occhi di madame mecca cominciarono ad aprirsi i valletti cominciarono a far vento sulle due urne d'incenso e il fumo profumato raggiunse quel grado di pericolosità che oggi a los angeles fa scattare dispositivi di sicurezza la prima gonza che fece una domanda fu una peripatetica in carta pecorita con una faccia che sembrava un mascherone disse che suo marito non era morto ma era scomparso quando sarebbe tornato beh signori miei non c'è bisogno di essere un veggente per rispondere a una simile domanda basta guardare la donna per sapere che l'uomo non tornerà mai più come avevo fatto a trovarlo questo era il vero mistero madame si consultò allora con l'imbonitore e dopo alcuni minuti di soffocati abracadabra predisse che il marito della cariatide sarebbe sicuramente tornato entro i prossimi dieci anni poiché la donna che aveva fatto la domanda era intorno alla sessantina non so quale vantaggio avrebbe potuto ricavare da questo ritorno in quel punto la mia compagna alzò una mano per segnalare che aveva una domanda da fare ma benché fossi intontito fui più svelto di lei e alzai la mano per primo lei dice che la sua regina può rispondere a qualsiasi domanda le venga rivolta chiesi esattamente rispose l'imbonitore anche se non riguarda i morti madame mecca non ha mai dato risposte sbagliate benissimo allora qual è la capitale del nord dacota madame e il suo accolito erano sbalorditi costernati sconcertati che razza di domanda da fare una persona che era appena tornata da un altro mondo la donna rimase seduta rigida poi si voltò verso il principe il quale evidentemente aveva già dovuto affrontare in passato problemi del genere il mondo era pieno di scettici ma lui aveva pronta la soluzione fece un cenno alle due comparse indaffarate a soffiare sull'incenso poi si chinò e sussurrò alcuni ordini frettolosi non so che cosa disse ma mi parve che li rendesse molto felici quello che so è che vennero ad agguantarmi per i gomiti mi sollevarono di peso e mi buttarono fuori io continuai a gridare reclamando nell'ordine la restituzione dei miei 5 dollari e l'intervento della polizia ma penso che quella sera la polizia fosse impegnata a rapinare un paio di banche ad ogni modo nessuno venne il mio soccorso le due comparse mi buttarono fuori dalla porta e poi me la chiusero alle spalle mi sedetti sui gradini di pietra e respirai sollevato l'aria relativamente pulita del Southside di Chicago un'ora dopo la mia compagna uscì con gli occhi scintillanti e con una voce isterica in falsetto mi annunciò trionfante che grazie alla medium aveva parlato con lo zio defunto mi ha detto che è felice come una Pasqua lo credo bene sua moglie è ancora di questo mondo parte quarta è capitato ad altri otto tipi capitolo uno cicatrici senza ferite l'atteggiamento del governo nei confronti della professione teatrale è sempre stato piuttosto curioso l'attore non ha altro che il suo corpo il suo talento e il suo magnetismo personale e quando questi si logorano egli rimane un semplice ricordo che viene presto dimenticato ciò vale anche per i pugili per i giocatori di baseball e per gli atleti in generale se un tizio che possiede una drogheria o una macelleria si ammala può stipendiare qualcuno perché lo sostituisca se si ammala un attore i suoi guadagni cessano immediatamente perciò siate dritti non entrate nel mondo dello spettacolo comprate un pozzo petrolifero o alcune centinaia di acri di bosco non comprate niente che il governo non sia disposto a sussidiare o che possa essere deprezzato per anni i sindacati dello spettacolo hanno chiesto al governo di consentire che gli attori potessero costituire un fondo di previdenza per la naturale usura delle loro carcasse ma evidentemente le pressioni dei sindacati non sono state sufficienti perché i politicanti di Washington si decidessero a prendere qualche provvedimento in tempo di guerra nessuna categoria di lavoratori è più pronta a offrire volontariamente i suoi servigi i fabbricanti di automobili i costruttori di aeroplani e tutte le altre categorie di industriali si ingrassano con i profitti bellici l'attore tira fuori le spese dieci o undici miserabili dollari al giorno e quando la guerra è finita gli consegnano una patacca adesso che mi sono levato a questo peso dallo stomaco insieme con molti peli ricciuti mi spiegherò meglio una stella giovane affascinante rifiutò un paio di contratti con i fiocchi perché era una patriota e voleva contribuire per la sua parte allo sforzo bellico come molte donne graziose era per dirla in termini blandi una civetta suo marito uno scrittore alto cadaverico incline alle calvizie era geloso fradicio sia della sua bellezza sia dei suoi milioni di ammiratori un giorno lei tornò a casa e gli disse che aveva sentito la voce del dovere aveva deciso di fare una tournée per le forze armate mancò poco che questa bella notizia facesse venire un coccolone al marito quando lei vide la tragica espressione del suo viso cercò di attenuare il colpo non ti preoccupare tesoro anche se sarò terribilmente occupata ti prometto che ti manderò una cartolina tutti i giorni o quasi una cartolina pensò lui non era certo un granché in sostituzione di una delle donne più desiderabili del mondo se qualche volta avete ricevuto una cartolina saprete che è assessuata corta e piatta sua moglie invece era alta voluttuosa squisita e affascinante la guardò con occhi pieni di amore e di veleno credi forse che me ne andrò a letto tutte le sere contento e soddisfatto di poter guardare una schifosa cartolina arrivata da qualche base militare se avessi voluto amare una cartolina me ne sarei sposata una era una frase che non aveva senso ma lei non si arrabbiò si rese conto che la notizia l'aveva mandato fuori dai gangheri poiché era una donna naturalmente raccontenta che il marito l'amasse tanto e la desiderasse con tanta passione lui però era convinto che se sua moglie andava in giro con 15 o 16 attori e si esibiva ogni sera davanti a tutti quegli ufficiali belli e affamati di sesso c'erano molte probabilità che tornasse a casa con un figlio o peggio ancora che non tornasse affatto non che lei non lo amasse solo che amava tutti gli uomini e gli uomini la trovavano tanto irresistibile quanto lei trovava irresistibili loro il marito tentò per diversi giorni di dissuaderla da questa avventura ma lei non era solo animata da patriottismo era fondamentalmente una ninfomane non si curò troppo delle suppliche e delle lacrime lui l'amava pazzamente e come molti mariti di bei bocconcini non si fidava affatto della moglie tutte le sue implorazioni non servivano a niente lei si limitava a ripetere amo il mio paese e farò tutto quello che posso per sollevare il morale di quei poveri ragazzi che stanno dando tutto alla patria quest'ultima dichiarazione spaventò oltre ogni dire il marito il quale però avendo capito che non si approdava a niente decise di tentare un'altra strada cara si informò contatto pensi di cantare e ballare durante questa tournée no tesoro ricordi quel giallo che abbiamo visto a broadway alcuni anni fa era intitolato mister e mrs north ricordi che nel secondo atto c'è una scena madre in cui un personaggio apre un armadio ci trova dentro un cadavere che cade a faccia in giù avanti sul palcoscenico ecco e questo è il lavoro che rappresenteremo ai ragazzi piacerà molto mentre lei spiegava la trama un'idea fantastica cominciò a prendere forma nella mente astuta del marito a proposito di quel cadavere cara tutto ciò che l'attore deve fare in questa commedia è di cadere dall'armadio sul pavimento pressa poco dice qualche battuta nel primo atto ma è una parte che può fare chiunque benissimo ecco qua tesoro io sono uno scrittore e uno scrittore può lavorare dovunque posso scrivere in una base dell'esercito o della marina altrettanto bene che hollywood dunque mi è venuta un'idea meravigliosa io farò il cadavere così potremo stare sempre insieme notte e giorno appena sentì queste parole lei capì di aver fatto una gaff mostruosa se avesse tenuto la bocca chiusa secondo me quando due persone si amano come noi ci amiamo non dovrebbe mai separarsi conosci il vecchio detto lontano dagli occhi lontano dal cuore rise di gusto ma rise da solo era incastrata per quanto abile fosse non riusciva a trovare un espediente per sbrogliarsi dalla rete che lui le aveva astutamente intessuto attorno per amore di giustizia nei confronti della giovane signora non voglio affermare che avesse deciso di andare a intrattenere le truppe solo per allontanarsi del marito ma dal momento che doveva sobbarcarsi a un sacrificio del genere per i combattenti di terra e di mare non vedeva perché non avrebbe dovuto ricavarne un po' di divertimento alcuni giorni dopo cominciarono le prove la prima volta che provarono tutto il lavoro di seguito il marito cadde fuori dall'armadio con la tecnica perfetta di un giovane Barrymore nessun cadavere vero o finto avrebbe potuto farlo più realisticamente il regista era in brodo di giugiole e lo ricoprì di elogi arrivò perfino a consigliarli di abbandonare la carriera dello scrittore per quella dell'attore tuttavia dato che il nostro scrittore non era abituato a cadere dagli armadi questo ruolo lo scombussolava un poco il terzo giorno abbordò il regista e gli disse senta amico poiché dovremo provare questa roba ancora due settimane che ne direbbe di mettere un materasso davanti all'armadio non mi va troppo l'idea di rompermi le ossa senza motivo va bene disse il regista ma solo per le prove capirà che quando lo faremo davanti al pubblico dovrà essere realistico due settimane dopo andarono in scena in una base navale a Oakland California tutto andò bene e quando l'anta dell'armadio si aprì e il cadavere cadde gli spettatori gridarono terrorizzati il successo fu strepitoso il pubblico era entusiasta degli attori e della commedia il marito era così felice di essere vicino la sua diletta che quando si spogliò quella sera quasi non si accorse del dolore alla schiena la sera dopo quando l'armadio si aprì fece una bella caduta e di nuovo gli spettatori urlarono vedendo quel morto che cadeva sotto i loro occhi quella sera quando si ritirò il marito aveva un vistoso bernoccolo sulla fronte e il dolore alla schiena era ancora più forte la terza sera quando cadde fuori dall'armadio si fracassò il ginocchio sinistro al termine della quarta rappresentazione fu portato d'urgenza all'ospedale della base il medico della marina dopo averlo visitato disse che aveva la spina dorsale eslogata e che bisognava metterlo in trazione aggiunse che non avrebbe potuto dimetterlo prima di alcuni mesi ora marito e moglie sono di nuovo insieme lui zoppica un po' e si appoggia un bastone dice a tutti che è stato un regalo della guerra ma non è vero in realtà è stato un regalo dell'amore capitolo 2 apertura a donne adesso è un uomo di mezza età ma fra i 20 e i 30 anni è stato un gaudente playboy gli piacevano le donne ma il suo grande amore era il poker col passare degli anni la maggior parte dei suoi compagni di gioco si sono sposati e hanno trovato altri modi per divertirsi e se siete stati sposati anche voi saprete che di solito quando arriva l'amore la libertà vola via dalla finestra Alex non era di quelli che si sposano soleva dire che non aveva mai conosciuto una ragazza che potesse dargli tanto piacere quanto gliene dava una buona mano a poker però gli era sempre più difficile mettere insieme i giocatori sufficienti per imbastire una di quelle meravigliose serate in una stanzetta accogliente satura di puzzo di sigari sigarette pipa birra e whisky anche se il tanfo è asfissiante la stanza riservata alla partita dei maschi sembra abbia il potere di tirar fuori l'uomo dall'uomo medio credo che sia perché è uno di pochi rifugi rimasti per salvarsi dalla conversazione delle donne medie nessuna donna che Alex aveva carezzato aveva mai suscitato in lui il brivido e l'emozione che gli procurava il contatto con un mazzo di carte era un giocatore affascinante quando perdeva lo faceva nello stesso modo in cui vinceva con il sorriso sulle labbra naturalmente preferiva vincere ma questa non era la cosa più importante quello che gli piaceva era la compagnia degli altri giocatori e il poker in sé e per sé era una piovosa sera di dicembre e Alex non giocava a poker da diverse settimane solo soletto vicino al telefono cominciò a chiamare gli amici scapoli ma non era una sera fortunata per la maggior parte avevano degli appuntamenti in disperato Alex chiamò gli amici coniugati ma avevano tutti delle mogli una di esse andò al telefono a dire Alex Gio verrebbe volentieri ma abbiamo promesso alla mamma di passare da lei stasera faremo mahong con i fiammiferi non giochiamo mai quattrini sai mia madre è un avventista del settimo giorno e a quelli della sua setta non è permesso giocare se non senza soldi era una situazione abbastanza deprimente ma lo aspettava di peggio un altro marito doveva fare il babysitter mentre la moglie partecipava a un torneo di bridge una terza moglie spiegò Fred sarebbe felicissimo di giocare ma non ci crederai Alex in questo momento è in cucina ad asciugare i piatti è una cosa che non ho mai rivelato a nessuno prima d'ora disse ridacchiando e se Fred sapesse che te la dico mi ammazzerebbe ma il fatto è che quando mi chiese di sposarlo promise che se avessi detto di sì mi avrebbe sempre aiutato a rigovernare naturalmente non ha una grande importanza che mi asciughi i piatti ma credo che questo sia il suo modo di dimostrarmi quanto mi ama Alex non sapeva se riappendere o se vomitare alla fine scelse il compromesso e fece entrambe le cose adesso si trovava proprio di fronte a un dilemma non gli piaceva affatto giocare a carte con le donne ma a mari estremi estremi rimedi così afferrò il telefono e chiamò un'amica che aveva sempre sotto mano più ragazze di quante voi ne potreste addomesticare non è a questo uso che di solito venivano a dibite le ragazze ma non importa questa amica era la maîtresse del più lussuoso bordello di Hollywood del quale Alex era cliente assiduo già da diversi anni salve Eden sono Alex come vanno gli affari che vuoi Alex con la pioggia le tasse è una schifezza benissimo allora non ci sono problemi puoi mandarmi subito tre ragazze è un caso di emergenza tre ragazze diamine Alex non dirmi che hai fatto una di quelle nuove cure ormonali non fare la spiritosa Eden mandamele o mi rivolgerò altrove mezz'ora dopo le tre puttanelle arrivarono pronte per mettersi al lavoro quando Alex le fece entrare rimasero piuttosto perplesse vedendo che era solo guardandosi intorno una disse dove sono gli altri due amici non c'è nessun altro disse Alex con un'espressione enigmatica sul volto ci sono solo io e va bene dov'è il trucco non ci sono trucchi rispose Alex sorridendo beh allora cosa hai in mente di fare con tre ragazze che non potresti fare con una o due lo guardò più da vicino meglio con una non farò niente con nessuna di voi basta che vi sediate intorno a quel tavolo che vi leviate le scarpe e vi mettiate comode solo le scarpe ragazzo questa sì che è un'orgia un'altra cinguettò che succede Alex se ma proprio da buttare via niente affatto ragazze le rassicurò lui siete fantastiche dite piuttosto sapete giocare a poker alquanto perplessa la prima ragazza disse oh certo giochiamo sempre quando il lavoro va rilento Alex tirò fuori due bottiglie di whisky due mazzi di carte e diversi pacchetti di sigarette per le prime cinque ore giocarono a poker e Alex perse deliberatamente ogni mano voleva che le ragazze vincessero e loro vinsero inoltre pagò a ciascuna la normale tariffa per una notte d'amore alle tre del mattino Alex depose le carte si appoggiò allo schienale della sedia e disse adesso basta ragazze sono stanco e me ne vado a letto le donne sono strane creature dal punto di vista finanziario avevano avuto una serata più che soddisfacente ma tutte e tre erano piuttosto seccate perché Alex non aveva chiesto altro che giocare a poker adesso Alex ha 53 anni è sposato e ha due figli grandi ogni sera circuisce i figli per farli rimanere a casa e così tutti e quattro giocano a poker i soldi rimangono in famiglia l'aria è pulita e anche le barzellette per quanto sia divertente non lo è come i vecchi tempi ma ha 53 anni che cosa è divertente capitolo 3 il conto in banca di Cico di tutti i fratelli Marx Cico era il giocatore più accanito non gli importava niente dei soldi ma sapeva che senza soldi non poteva giocare e se non poteva giocare la vita per lui valeva quanto un sacco di segatura era un grande giocatore di carte forse uno dei più grandi certo se pensiamo a ciò che hanno fatto Einstein, Beethoven e Salk devo ammettere che il suo non era un merito eccezionale ma dopo tutto si fa quel che si può andò avanti a puntare contro gli Yankees per 15 anni voglio dire non durante la guerra civile ma durante il campionato di baseball una volta disse non c'è gusto a puntare sugli Yankees tanto è quasi certo che vincono sempre io ho bisogno di emozioni forti così alla fine di ogni stagione le finanze di Chico erano pressa poco come all'inizio solo un po' più di sé state una carta da scoprire una roulette che gira un ronzino che galoppa lo esaltavano se proprio non c'era niente di meglio da fare era capace di giocarsi dei dollari e sotto muro con i nichelini e magari se era la disperazione si giocava addirittura dei nichelini a sotto muro con i dollari una volta qualcuno gli chiese quanto denaro aveva perso nella sua vita lui rispose scopri quanto ne ha arpo è quello che ho perso io questa continua lotta per far soldi in modo facile lo costringeva a lavorare anche nei periodi di riposo mentre tutti noi ci tiravamo fuori dal truogolo Chico vi si immergeva fino al collo doveva continuare a lavorare per tenere a bada ai creditori e sebbene questo genere di vita fosse emozionante era anche molto duro un'estate pieno di debiti Chico stipulò un contratto per un ciclo di spettacoli nei nightclub di diverse grandi città del sud non dirò il nome della prima città e nemmeno quello del suo sindaco per quanto ne so può darsi che quel sindaco amministri ancora la città venuto nel nostro paese dall'Italia quando era bambino lavorando a sodo e con qualche intrallazzo non aveva ancora 40 anni quando era diventato il capoccia di una delle città più vivaci del sud sebbene ricevesse uno stipendio di appena 15.000 dollari l'anno era enormemente ricco non era facile diventare ricchi con la modesta cifra che il comune gli passava tolte le tasse e tutto il resto ma lui aveva un'abilità particolare nell'investire i soldi nei posti giusti Chico interpretava sempre la parte di un immigrante e la sua caratterizzazione era così fedele che molta gente non riusciva a capire come potesse essere mio fratello molto spesso mi sono sentito fare questa domanda come può Chico essere suo fratello se lui è italiano e lei è ebreo alla fine mi stufai di rispondere a questo indovinello e dissi ai miei interlocutori che se la cosa li turbava tanto potevano rivolgersi a mia madre e a mio padre a me risultava che Chico fosse mio fratello e l'unico motivo per cui aveva scelto il personaggio dell'immigrato italiano era perché questo tipo si adiceva in modo particolare al suo talento comico quando qualcuno non rimaneva soddisfatto da questa spiegazione gli dicevo di rivolgersi al dipartimento dell'immigrazione e qualora non fosse stato ancora soddisfatto di provare con il dipartimento dell'agricoltura questo sindaco di cui parlavo era un gaudente gli piaceva la vita notturna e poiché quella prosperosa metropoli era anche la città in cui lui viveva era naturalmente una città piena di animazione la prima sera in cui Chico lavorò nel night club il sindaco se ne stava comodamente seduto a un tavolo di prima fila ammirava l'abilità di Chico al pianoforte ma soprattutto era affascinato dal suo modo di parlare che faceva rinascere in lui il ricordo della natia a Napoli gli sembrava quasi di sentire i mandolini che suonavano nei negozi di barbiere e l'odore delle teste d'aglio che oscillavano al vento conferendo al medesimo un pungente aroma era fiero di Chico era fiero di se stesso ed era fiero di tutti i quattrini che riusciva a rubare la gente era fiero che Chico un comico famoso fosse italiano un simpatico paesano nato nella sua stessa terra appena finito lo spettacolo il sindaco corse in palcoscenico gettò le braccia al collo di Chico e lo baciò sulle guance nelle due settimane successive andò al night tutte le sere lui e Chico divennero amiconi e il sindaco voleva bene a Chico e Chico era entusiasta del sindaco erano insieme tutto il giorno di notte dopo lo spettacolo andavano in giro per la città ma Chico non disse mai al sindaco che era nato a Yorkville New York City un quartiere che non solo non era italiano ma che era quasi al cento per cento tedesco l'ultima sera in cui Chico si esibiva in quel locale il sindaco come al solito andò a trovarlo in camerino e con grande disappunto vide che il suo amico stava facendo le valigie Chico esclamò che succede perché riponi la tua roba non ti piace stare qui perché vuoi andartene Chico spiegò che la sera dopo doveva debutare a Birmingham Alabama Birmingham è uno schifo di città dichiarò il sindaco perché non rimani qui questa è la migliore città di tutto il sud senti disse Chico tu mi piaci molto e anche la città mi piace molto ma non posso rimanere io sono un artista è così che mi guadagno la vita e domani devo debutare a Birmingham il sindaco gli gettò le braccia al collo Chico tu sei italiano io sono italiano non ho figli nemmeno un piccirillo omise di dire che non si era mai sposato nel suo dolore tornò alla lingua materna e diede libero sfogo a un fiume di parole italiane pronunciate con enfasi strionica Chico lo ascoltava immobile sperando di riuscire a capire almeno una parola ma finì per perdere la testa e cominciò a rispondere in tedesco Chico ragazzo mio continuò il sindaco tornando per fortuna all'inglese rimani qui lascia il teatro rimani qui con me ti sistemerò bene come? chiese Chico il sindaco gli fece un ganascino senti sono proprietario di 20 casini in questa città e tutti da 10 dollari rimani qui con me e sai cosa faccio? ti do 5 di questi casini tutti per te non dovrai più lavorare nemmeno se dovessi campare fino a 100 anni Chico mi raccontò in seguito che la tentazione fu forte e che lui fu sul punto di dire facciamo 8 casini e rimango ma disse il richiamo del teatro fu più forte del richiamo del sindaco e di tutte le sue pischerle mentre continuava a girovagare per il paese come la va la va in un angolino del suo cervello c'era sempre il pensiero che se le cose si fossero messe troppo male avrebbe potuto ritirarsi nel sud nelle magioni del suo vecchio amico dove una luce rossa e una finestra era sempre accesa per lui capitolo 4 notte di fuoco nella città gelata c'era una volta un americano di nome Larry Blank attore comico di grande talento che non era mai riuscito a farsi strada nel suo paese così non essendo uno sciocco decise di fare fagotto e di andare a cercare pascoli più verdi e questi verdi pascoli li trovò a Londra per una ragione o per l'altra gli inglesi scoprirono che Larry era il comico più divertente da Enrico VIII e quasi dalla sera alla mattina il nostro divenne una celebrità guadagnava molto facendo divertire la gente ma la sua più cospicua fonte di introiti era il gioco non c'era quasi nulla che non sapesse fare con un mazzo di carte e non c'era quasi nulla che non facesse le sue specialità erano il poker e il pinnacolo incanto e per essere certo che nessuno potesse intascarsi i suoi soldi aveva ideato una soluzione molto semplice segnava le carte e lo faceva con tanta abilità che per poter vedere le tacche ai suoi avversari avrebbero dovuto munirsi di una lente di ingrandimento molto potente per sua fortuna pochissimi giocatori vanno in giro con un equipaggiamento del genere fra i proventi teatrali e quelli del gioco era forse il più ricco attore d'Inghilterra ma era anche un miserabile taccagno e abitava in uno squallido appartamento di Soho in quel tempo recitavamo anche noi a Londra e Cico e Arpo entrambi piuttosto abili con le carte in realtà erano due dei migliori giocatori degli Stati Uniti cominciarono a giocare a poker con Mr. Blanc la destrezza con cui Mr. Blanc manipolava le carte era ben nota nessuno lo accusava di essere disonesto per contro nessuno lo accusava di essere onesto il suo sparuto gruppetto di amici la maggior parte dei quali erano stati sue vittime al tappeto verde era concorde nell'ammettere che non solo c'era del marcio in Danimarca ma che a Soho succedevano cose piuttosto equivoche solo dopo aver perso in una settimana due settimane di paga Arpo e Cico arrivarono alla conclusione che il successo di Mr. Blanc al poker non poteva essere attribuito esclusivamente alla fortuna vinceva troppo regolarmente e anche in modo troppo strano Cico e Arpo si resero infine conto che si erano fatti incastrare e conclusero che se non volevano tornare negli Stati Uniti come clandestini avrebbero fatto meglio cercare di pelare l'amico a loro volta un giorno dissero come per caso al campione sei troppo fortunato a poker la prossima volta giochiamo a pinnacolo in canto Mr. Blanc che non si scompose le carte segnate sono sempre carte segnate fino a che aveva un vantaggio era dispostissimo a giocare qualsiasi gioco dalla briscola all'omo nero la dichiarazione del pinnacolo in canto è simile a quella del bridge e i miei fratelli stabilirono senza difficoltà una serie di segnali per comunicarsi reciprocamente che carte avevano e quale doveva essere la dichiarazione di ognuno la sera seguente quando si accinsero a giocare Mr. Blanc tirò fuori due mazzi di carte e disse cominciamo Cico disse se non ti dispiace Larry abbiamo portato due mazzi di carte nuove di zecca ancora sigillati sai in oriente mi sono beccato un'allergia che mi fa starnutire appena sento l'odore delle carte vecchie Mr. Blanc si rese conto che questo gli rompeva le uova nel paniere ma confidava molto che il suo senso delle carte gli avrebbe consentito di mettere nel sacco quei due pivelli anche senza i mazzi segnati bene disse in tono piuttosto sbrigativo mi duele per la tua allergia ho recitato una volta Hong Kong e so cosa sia dopo questa breve disquisizione sui viaggi disse allora forza cominciamo la stanza di Mr. Blanc era l'ultimo grido in fatto di scomodità c'erano quattro sedie un tavolo e un minuscolo caminetto in fondo al quale bruciacchiavano quattro ciocchi in miniatura se sapete cosa sia un appartamento gelato a Soho non avrete difficoltà a capire perché l'impero britannico ha subito con gli anni un costante declino dalla mezzanotte alle tre del mattino Mr. Blanc non fece altro che perdere e per una strana coincidenza Chico e Arpo non fecero altro che vincere in tre ore avevano messo insieme un bel gruzzolo a spese di Mr. Blanc ed erano in procinto di andarsene ma Mr. Blanc non abituato a perdere era disperato e li pregò di continuare loro dissero che l'avrebbero fatto volentieri ma gli fecero osservare che sebbene la temperatura in casa fosse eccellente per pattinare non era molto adatta ai giochi indoor finalmente accondiscesero a proseguire ma a una condizione Mr. Blanc avrebbe dovuto tirar fuori degli altri ciocchi per il camino Mr. Blanc disse sono le tre del mattino non posso procurarmele a quest'ora i ragazzi che non vedevano l'ora di andarsene si avviarono verso la porta dicendo peccato in questo caso il gioco è finito sentite amici disse Mr. Blanc i mobili di questa stanza sono tutta robaccia di seconda mano li comprai anni fa quasi per niente siete disposti a continuare se rompo una di queste sedie per fare fuoco? era un discorso molto commovente Cico e Arpo due cuori d'oro avevano quasi le lacrime agli occhi va bene risposero sapevano di averlo intrappolato e sapevano anche che quanto più giocavano tanto più i quattrini di Mr. Blanc avrebbero cambiato di mano fu una vampata famelica divoratrice in men che non si dica la sedia era consumata e la stanza era tornata fredda allora una seconda sedia fu gettata tra le fiamme i ragazzi continuavano a vincere ristorati dall'insolito calore e dalla cospicua somma che avevano sottratto il patrimonio di Mr. Blanc erano estremamente euforici alla fine però anche l'ultima sedia andò a finire nel camino ora giocavano in ginocchio se qualcuno fosse entrato in quel momento nella stanza e non avesse visto le carte avrebbe potuto credere di trovarsi davanti a tre maomettani di stretta osservanza che pregavano rivolti verso la Mecca quando il fuoco si spense la temperatura tornò a scendere verso il polo sud il nostro scaltro amico era disperato non riusciva a capire perché perdeva di continuo non gli era mai successo avevano forse fatto qualcosa alle carte che nemmeno lui riusciva a scoprire no non poteva essere avevano tolto i sigilli e due mazzi sotto i suoi occhi se avesse potuto trattenerli ancora un po' era sicuro che la fortuna avrebbe girato facendogli rivincere tutti quei soldi implorò i ragazzi in tono quasi patetico non volete giocare un'altra oretta ancora? e ci piacerebbe Larry disse Arpo ma guarda le mie dita sono violace e intirizzite non ce la faccio nemmeno a reggere le carte Chico disse l'altro giorno ho letto nei giornali che la temuta era glaciale prevista da secoli arriverà molto presto io credo che sia arrivata stanotte Mr. Blanc rivolse loro un debole sorriso e disse so che può sembrare una pazzia ma se spacco il tavolo e butto i pezzi nel camino sareste disposti a sedervi per terra e a continuare a giocare sul tappeto? è un tavolo da pochi soldi e non si è mai intonato con il resto del mobilio poiché il resto del mobilio era già ridotto in cenere questo particolare non aveva molta importanza ma secondo me arrivato a quel punto Mr. Blanc cominciava a non connettere più a causa di quell'inaspettato colpo alle sue fortune e la sua mente era quasi sconvolta i ragazzi che continuavano a vincere dissero va bene a dire la verità preferiamo giocare per terra un pezzo dopo l'altro il tavolo fu divorato dal fuoco quando anche la sua carcassa fu sacrificata alle fiamme il freddo tornò come un parente povero alla vigilia di Natale Arpo cominciò a sternutire e Cico a battere i denti alla fine Cico disse beh Larry sono le sette siamo gelati e affamati torniamo in albergo a disgelarci e a mettere qualcosa sotto i denti Mr. Blanc si ha detto per inciso oltre a essere un imbruglione non godeva fama di essere il padrone di casa più ospitale di Londra i ragazzi erano stati là sette ore e l'unico nutrimento che lui aveva offerto era stata una tazza di bovril con qualche cracker alle sette di quel freddo piovoso nebbioso mattino Mr. Blanc aveva perso 6.000 dollari e tutti i mobili e i ragazzi avevano vinto 6.000 dollari e galoppavano verso la polmonite e la denutrizione il gioco doveva finire si trattava delle loro vite contro i suoi quattrini non c'era più niente da buttare nel camino Mr. Blanc stralunato con la schiena appoggiata alla parete alla fine cominciò a vagheggiare l'idea di buttare se stesso nel camino ma dopo averci pensato bene ci rinunciò come avrebbe potuto giocare a pinnacolo se si fosse buttato nel fuoco così Mr. Blanc per la prima volta nella sua lunga carriera di imbroglione fu costretto ad ammettere la sua sconfitta prima di andarsene Cico e Arpo diedero a Mr. Blanc 20 dollari suggerendoli di comprare una catasta di legna nel caso che loro fossero tornati a giocare era un imbroglione ma non uno sciocco prese i 20 dollari e disse non credo che giocheremo di nuovo ho giocato abbastanza e credo di essere stato giocato abbastanza sul pianerottolo Arpo e Cico si strinsero la mano allegramente scesero incespicando la scala umida e buia fermarono un taxi e dissero all'autista di condurli al più presto possibile nel ristorante più caldo di Londra l'autista rimase perplesso scusate disse non volete un buon ristorante non ce ne importa niente che sia buono o no disse Arpo portaci solo dove c'è caldo quando il nostro sangue avrà ricominciato a circolare decideremo dove mangiare capitolo 5 topi in casa delle micine non starò a dire il nome della città né dell'attore l'attore era un attore di prosa che scritturato per un lavoro miseramente caduto si era ritrovato a spasso così si era degnato di partecipare a un programma di varietà con i miei fratelli e con me era alto bello e si vestiva e appariva per quello che era un grosso gigione stupido e presuntuoso era stato invitato insieme con noi in una delle case di piacere più eleganti della città sebbene non fossimo entusiasti della sua compagnia non facciamo alcuna obiezione come la maggior parte degli egocentrici era del tutto privo del senso dello humor in compenso era estremamente offensivo eravamo seduti da poco nel salotto quando lui cominciò a bersagliare le ragazze e madame con un fuoco di fila di oscenità per nulla divertenti in queste case se piaci sei amato ma se non piaci la miglior cosa che puoi fare è prendere il largo prima di passare dei grossi guai ti può capitare accidentalmente una bottiglia di birra in testa o di trovarti senza portafoglio e se passi troppo il segno madame può chiamare il buttafuori che è un esperto nelle spelle degli ospiti indesiderati con un calcio nel derriere arrivamo alle undici e mezzo cantamo qualche canzone e ci offrirono birra e sandwich verso luna cominciavamo ad accomiatarci quando madame si rivolse al nostro amico l'attore di prosa e lo invitò nella forma più cortese a passare la notte lì con il suo solito tatto egli chiese immediatamente quanto gli sarebbe venuto a costare madame con voce dolcissima disse nemmeno un centesimo tesoro tutte le mie micine fanno follie per lei e tutta la sera che parlano di lei mi hanno pregata di invitarla a passare la notte da noi come ospite il giorno dopo prima che cominciasse la mattinè shakespeare entrò nel nostro camerino con la faccia più bianca di molti lenzuoli sui quali ho dormito e ci raccontò cosa gli era capitato la notte prima dopo che ce ne eravamo andati ci raccontò la più bella figliola della casa gli si avvicinò e gli disse che madame aveva estratto a sorte fra tutte le micine quella che avrebbe avuto il piacere di tenere compagnia al grande attore per il resto della notte lei era stata la fortunata tesoro gli sussurrò vai di sopra nell'ultima camera in fondo al corridoio e spogliati sarò da te fra pochi minuti tesoro tesoro elvezzeggiativo standard di quei posti trovai la cameriera in fondo al corridoio continuò lui apersi la porta entrai e fui un po' sorpreso non vedendo traccia di mobili a eccezione di una logura branda militare in un angolo la stanza era completamente vuota niente tappeto niente sedie niente toilette a un tratto sentii una chiave che girava nella serratura corsi subito alla porta e girai la maniglia ma la porta era chiusa a chiave sarà uno scherzo dissi fra me ma io non ci casco so che quella bambola è pazza di me me lo ha detto lei sono sicuro che fra pochi minuti aprirà e forse mi introdurrà in una bella camera da letto la stanza era piuttosto buia c'era solo una debole lampadina che pendeva dal soffitto beh pensai è inutile che me ne stia qui dritto imparato mi spoglierò come mi ha detto lei e mi sdraglierò su quella branda poiché nella stanza non c'era un armadio piegai con cura i vestiti e li posai sul pavimento poi rimasi lì a fissare la porta sperando che si aprisse da un momento all'altro a un certo punto sentii uno strano squittio che veniva dall'angolo più lontano della camera nella semi oscurità vidi uscire dallo zoccolo battiscopa un topo enorme mi precipitai alla porta cominciai a picchiare poi a gridare fatemi uscire aprite la porta ma nessuno mi rispose tornai indietro e mi sedetti sull'orlo della veranda devo ammettere che tremavo un po' lo squittio continuava allora presi una scarpa e la tirai in direzione del topo il quale con mio grande sollievo scomparve feci per sdraiarmi di nuovo e di nuovo sentii lo squittio questa volta presi la mira con cura e tirai l'altra scarpa nel giro di quindici minuti avevo buttato tutti i miei indumenti in quell'angolo e a questo punto i topi cominciarono a fare capolino da una mezza dozzina di posti diversi rabbrividi ormai ero in preda al panico i topi mi hanno sempre terrorizzato credo che preferirei affrontare un leone piuttosto che un topo corsi alla porta e cominciai a gridare fatemi uscire fatemi uscire mi sentite fatemi uscire di qui poi girai la maniglia e con mia sorpresa mi accorsi che la porta era aperta evidentemente mentre io gridavo qualcuno era sgattaglionato di sopra e aveva girato la chiave allora mi mise a gridare per impaurire i topi e farli scappare poi corsi nell'angolo e raccolsi in gran furia i vestiti e le scarpe montai in piedi sul letto e mi vesti più in fretta che potei finalmente mi precipitai alla porta e poi giù per le scale e fuori dal portone giunto sul marciapiede ancora tremante senti delle risate guardai in alto e a una finestra aperta del secondo piano scorsi madame con le sue sei micine che ridevano come tante isteriche feci tutta la strada di corsa fino al mio albergo salì di volata in camera chiuse a chiave la porta e trangugiai cinque pillole di sonnifero e infine riuscì ad assopirmi anche se non c'era simpatico devo ammettere che ci dispiacque per lui quando concluse il suo macabro racconto raramente ho visto un uomo così scosso dopo pochi minuti si riprese uscì dal nostro camerino e andò a comunicare all'impresario che nelle sue attuali condizioni gli era impossibile interpretare il numero shakespeariano per i bifolchi del luogo la sera stessa prese un treno che lo riportò a New York non so come avessero fatto madame le sue micine ma dovette convenire che è una trovata formidabile mettere insieme tanti topi in una casa dei micine capitolo 6 amante con pagamento anticipato c'era una volta il capo di una grossa agenzia pubblicitaria di New York era un tipo della Pennsylvania di origine olandese alto privo di senso dell'umorismo con un numero di mogli e di figli non superiore alla media e con i soliti uffici eleganti sulla Madison Avenue e a Hollywood ogni due mesi o giù di lì prendeva l'aereo e si recava nella sede dell'agenzia sulla costa occidentale il nostro tipo aspettava ansiosamente questi viaggetti perché sebbene amasse la moglie si considerava un perfetto Don Giovanni e la California per lui era un magnifico terreno di caccia poiché era una potenza nel campo della televisione lo invitavano a tutte le feste più importanti ma lui non si divertiva infatti la maggior parte delle donne erano sposate o desiderose di trovare marito a volte portava fuori qualche impiegata dell'ufficio ma era un uomo di 60 anni e per giunta niente affatto divertente ben presto le ragazze cominciarono a schivare i suoi inviti perché si era sparsa la voce che alla cena per la verità all'auta seguiva invariabilmente un invito ad accompagnarlo nel suo appartamento d'albergo un certo attore televisivo che lavorava per quell'agenzia non era matematicamente certo di ottenere il rinnovo del contratto per un altro anno sapeva però che sarebbe bastata una parola del nostro onnipotente amico mister Fred Schulz per dargli la sicurezza della riconferma perché non sia possibile identificarlo chiameremo l'attore Joe Cool così un bel giorno questo Joe telefonò a mister Schulz Freddy ragazzo mio cominciò parla al tuo vecchio amico Joe Cool ho sentito dal mio agente che sei appena arrivato in città e so quanto ti senti solo lontano da casa beh a farla breve ti ho trovato una ragazza mister Schulz rispose Joe sto per dirti una cosa che non ho mai detto a nessuno e che spero tu non ripeterai a nessuno specialmente a mia moglie rise di cuore per questa battuta per un severo uomo d'affari era un'uscita spassosissima almeno così la pensava lui Joe Cool che pensava al rinnovo del contratto si unì alla sua risata Fred hai delle uscite formidabili se ti mettessi a fare l'attore saresti una cannonata come comico Joe sarò franco con te e ti dirò le cose come stanno è vero che ho portato fuori un mucchio di ragazze in questa città ma mi vergogno a dirlo non sono mai riuscito a combinare niente per dirla senza mezzi termini non ho mai fatto centro naturalmente a cena con me ci vengono o al cinema o a un'anteprima ma quando si arriva al dunque sai cosa intendo dire è la solita solfa non questa sera ho un terribile mal di testa mi devo alzare presto domani mattina ora so di non essere una done mi rendo conto che ho 60 anni suonati e un po' di pancetta ma ho ancora tutti i denti e sono forte come un toro eppure tutto quello che riesco a ottenere è un bacetto in punta di labbra e un grazie Mr. Schultz per la bella serata l'unica con la quale riesco ad andare a letto è mia moglie e dopo 30 anni di matrimonio è una cosa eccitante come vedere per la terza volta un vecchio film Freddy ragazzo mio i tuoi problemi sono risolti ho qualcosa per le mani che ti manderà in visibilio gli sembrava quasi di vedere il sorriso di Mr. Schultz all'altro capo del telefono Joe sei un tesoro muggì Schultz con una voce dalla quale la malinconia era scomparsa era ringalluzzito come se avesse appena ingoiato due pasticche di benzedrina ti va di conoscere una bionda ventiduenne con certe curve come ma che serve parlarne ha il fisico di Jane Mansfield ed è libera fa alle bere tre martini e si arrampicherà sulle pareti della camera e non credere che sia una prostituta è una ragazza molto a posto ma è sola Mr. Schultz era tanto eccitato da questa breve descrizione che cominciava a diventare incoerente e non si curava più della conversazione chi è? chiese palpitante dov'è? e quando potrò vederla? Fred ho combinato tutto busserà la tua porta in albergo questa sera alle 7 e 30 e non preoccuparti se non hai l'aspetto del giovane fusto a lei piacciono gli uomini maturi in quel momento erano le 5 Schultz si precipitò in albergo dalla sua stanza telefonò per ordinare un quarto di vodka gin, barbon, scotch brandy, whisky irlandese cordiali assortiti white rock ginger ale seven up e ghiaccio non voleva correre rischi quando arrivarono i beveraggi Mr. Schultz aveva ancora un'ora di attesa davanti a sé perciò telefonò alla moglie in Pennsylvania per dirle quanto sentiva la sua mancanza cara non so dirti quanto sono infelice lontano da te menti quando era a casa non parlava mai in questo modo a volte non rivolgeva nemmeno la parola ma ora la coscienza lo tormentava e la moglie fu tanto contenta della telefonata che diede ai figli una razione supplementare di ciccioli alle 7 e 30 si udì una bussatina discreta alla porta quando la ragazza entrò Mr. Schultz fece un inchino profondo tanto profondo da provocarsi uno strappo nella regione sacroiliaca ciò nonostante si raddrizzò e salutò la ragazza con calore anzi le baciò addirittura la mano tanto era felice di ricevere in camera sua una signora che sembrava facesse proprio al caso suo cominciava già a sentirsi come Charles Boyer mentre bevevano Mr. Schultz contemplava avidamente le fattezze opulente della giovane come un cobra d'occhio a una gallina ben pasciuta o come un bambino guarda incantato una vetrina di dolciumi ordinò la cena per due una volta finito il pasto e spariti piatti e camerieri la conversazione andò avanti per un po' sconnessa e frammentaria infine scegliendo con cura le parole Mr. Schultz propose timidamente di andare a letto meno di un minuto dopo la ragazza era in piedi davanti a lui col solo costume che le aveva fatto mamma evidentemente non aveva molto addosso quando era arrivata ma dalla velocità con cui si spogliò Mr. Schultz dedusse in seguito che se fosse nata maschio avrebbe potuto diventare un pompiere formidabile a borro le oscenità e le volgarità perciò risparmierò al lettore i sordi di particolari ci basti dire così si esprime sempre il mio legale che quella fanciulla delicata e pudica nel corso di una notte meravigliosa gli mostrò certi giochetti che lui non avrebbe mai nemmeno lontanamente immaginato la mattina dopo fecero colazione poi lui le disse che doveva andare in ufficio e che sperava di rivederla prima di salutarla Mr. Schultz non senza qualche esitazione accennò alla questione denaro Mr. Schultz protestò la fanciulla non ho passato la notte con lei per denaro io non sono una di quelle sa avevo tanto sentito parlare di lei e desideravo conoscerla perché sapevo che mi sarebbe piaciuto moltissimo sono sempre andata pazza per gli uomini d'affari felice per questo complimento Mr. Schultz la baciò appassionatamente anche se la spettacolare prestazione della giovane durante la notte lo aveva alquanto spossato ma Mr. Schultz era un uomo pieno di orgoglio quando arrivò in ufficio raccontò al presidente del consiglio di amministrazione e ad alcuni vicepresidenti la sua avventura e non mancò di sottolineare con un certo compiacimento le sue capacità amatoria sapete negli ultimi anni mi ero messo in mente che una bella ragazza non potesse sentirsi attratta da me ma la notte scorsa mi sono reso conto che sono ancora un uomo in gamba naturalmente Mr. Schultz ignorava che l'innocente e delicata creatura era una prostituta piuttosto nota in città e che Joe Cool l'aveva invitata a passare la notte con Mr. Schultz per un compenso netto di 100 dollari non vale la pena di ripetere i particolari ma da l'ora in poi ogni volta che Mr. Schultz andava a Hollywood Joe Cool aveva pronta per lui un'altra pischerla ciò probabilmente gli costò nel giro di qualche anno diverse migliaia di dollari è vero che non potete trarre queste cifre dalla denuncia dei redditi d'altra parte bisogna dire che il suo contratto fu regolarmente prorogato a ogni scadenza fu un eccellente accomodamento per tutte le parti interessate compresa la moglie in Pennsylvania anche lei fu felice perché le piaceva tanto fare i ciccioli per i figli capitolo 7 in questa città c'è un produttore che guadagna all'incirca 7 mila dollari alla settimana e se avete una certa dimestichezza con i conti capirete che ciò lo pone nella categoria dei contribuenti che pagano un'aliquota del 90% ha sposato una ragazza che lavorava in un grande magazzino a prezzo unico con questo non voglio dire che la ragazza volesse poco in realtà era una figliola molto carina si sistemarono in una bella casa con due auto costose con due figli costosi e con tutti i lussi che il denaro può comprare durante i primi due anni lei fu una casalinga felice non doveva strofinare i pavimenti o lavare i pannolini sedeva con grazie a capotavola e quando c'erano ospiti ascoltava attentamente le loro conversazioni che riguardavano sempre il mondo del teatro ora bisogna dire che nessuna attività può essere paragonata a quella dello spettacolo è difficile trovare sulla faccia della terra un uomo o una donna che non ambisca mettersi in mostra sul palcoscenico sullo schermo o su un pulpito il mondo è pieno di esibizionisti credo che la maggior parte di coloro che abbracciano la carriera politica lo facciano per poter salire su una pedana e farsi guardare per questo le trasmissioni di quiz hanno avuto tanto successo migliaia di persone scrivevano alle compagnie radio televisive per avere l'opportunità di partecipare a questi programmi nella maggior parte dei casi a quelle persone non importava niente del denaro volevano solo apparire davanti a un pubblico come disse molto a proposito uno scuro poeta di nome Shakespeare tutto il mondo è un palcoscenico e pare che tutti vogliono mettercisi in mostra al centro e in primo piano ebbene la moglie di questo produttore non era un'eccezione come succede a tutte le donne le venne luzzolo un giorno informò il marito che voleva diventare attrice egli le fece osservare che a Hollywood c'erano 18.000 ragazze giovani attraenti che volevano sfondare nel mondo dello spettacolo ma che non trovavano lavoro può darsi convenne lei ma non sono sposate con te non dimenticare che sei una persona importante nell'industria del cinema e sono certa che puoi aprirmi molte porte non so a quale porte ti riferisca disse lui ma perché vuoi fare l'attrice perché non ti dedichi alla pittura o la musica o magari non studi un paio di lingue straniere un po' di cultura non ti farebbe male ah quella roba mi scoccia io so che sono destinata a diventare una grande attrice e né tu né altri potrete fermarmi non si era comportata affatto così quando lui l'aveva tirata fuori dal grande magazzino ma il matrimonio e il pensiero degli alimenti fanno uno strano effetto alle donne trovami una parte qualsiasi non importa che sia corta appena mi avranno vista in un film scommetto l'assegno del mese prossimo che si ha detto per inciso aveva già speso che riceverò un diluvio di proposte il produttore aveva moltissimi amici e un giorno rientrando a casa disse alla moglie che le aveva quasi trovato una parte in un film era solo di due battute ma disgraziatamente volevano un'attrice che sapesse dirla in francese che parte è? assomiglia a quella di Elizabeth Taylor in la gatta sul tetto che scotta? beh non esattamente la scena rappresenta un'assemblea delle Nazioni Unite alla quale partecipano i delegati uomini e donne di tutto il mondo lei era in estasi e se imparassi le due battute in francese potrei avere la parte? penso di sì ma te l'ho detto è solo di due battute sebbene non avesse bisogno di denaro la domanda successiva della moglie fu quanto mi daranno? poiché devi dire delle battute sono 200 dollari apposa fantastico la faccio e schizzò al telefono per comunicare la notizia a tutte le amiche il giorno dopo andò alla Berlitz e si iscrisse a un corso di 100 lezioni di francese per l'importo di 1000 dollari fatto questo passò da un negozio di dischi dove comprò una dozzina di registrazioni in francese e poi in una libreria dove le scaricarono addosso nell'ordine le opere di Sartre di Anatole Franz e di Balzac tutte nel testo originale la lavorazione del film sarebbe cominciata di lì a due mesi e in questo lasso di tempo lei fece tali progressi da essere in grado di ordinare un pasto completo in un ristorante francese finalmente arrivò il giorno del grande esordio lei snoccerò le due battute in francese col tono autorevole che doveva avere avuto De Gaulle quando disse agli algerini di non rompere le scatole quando ricevete la paga trovò che fra trattenute varie fondo disoccupazione e assicurazione invalidità che a sua mutua lavoratore del cinema rimanevano in tutto 142 dollari il marito che come ho avuto occasione di dire rientrava nella fascia dei contribuenti con aliquota del 90% dovette pagare la tassa sul reddito calcolata sulla montare lordo di 200 dollari più i 1000 dollari per le lezioni di francese quanto a lei dopo aver pagato i libri e i dischi le rimasero 20 dollari netti lui per contro ce ne aveva rimessi 1200 quando il film andò in visione privata ci si accorse che superava di 40 minuti la lunghezza prevista e si decise di tagliare la scena delle Nazioni Unite adesso la signora si dedica allo yoga morale quando dovete comprare qualcosa andate in un negozio elegante non in un grande magazzino a prezzo unico un acquisto di 10 centesimi può rivelarsi terribilmente dispendioso capitolo 8 uno per tutti ora che siamo giunti quasi al termine di questa parte della mia opera monumentale non dite grazie a dio perché ce n'ho ancora per un po' siate pazienti ricordate che tutto questo lascia più confuso me che voi nessuno è mai riuscito a mettere il dito una volta per tutte sul sesso è una cosa intangibile che ha disorientato e frustrato tutti gli scienziati i filosofi e gli urologhi fin dal tempo in cui Afrodite ancora in pannolini sgambettava nei boschi per inciso vale la pena di ricordare che ci furono Afrodite di tutti i generi sparpagliate negli imperi greco e romano per esempio quella di Sicilia era mezza donna e mezzo uomo a volte nelle giornate di noia quando non riusciva a trovare né maschi né femmine con cui divertirsi quella Afrodite finiva per dare la caccia a se stessa per riassumere Enrico VIII ricordato anche come il vecchio trippone non distingueva evidentemente il suo stomaco dalle regioni più basse perché una volta lo sentirono dire che la strada per arrivare al cuore dell'uomo passa per lo stomaco può darsi che ciò fosse vero al tempo in cui l'Inghilterra dominava i mari e Enrico VIII si faceva fuori a colazione una coscia di cinghiale e magari anche una moglie ma oggi lo avrete notato nessuno che sia qualcuno va a sposarsi in salumeria non nego che uno stomaco ben nutrito normale non affetto da ulcera possa contribuire alla riuscita dell'amore ma forse è meglio che cominci dal principio molti anni fa quando facevamo i guitti con i nostri numeri di varietà prendemmo alloggio nella locanda di un paese che si chiamava Orange Texas oltre ai quattro fratelli Marx abitavano in quel meschino rifugio sei manovali delle ferrovie messicani una fitta camere messicana e la di lei figlia messicana la narrativa ci ha sempre indotti a credere che la figlia di un fattore o di una fitta camere deve essere per forza di una bellezza irresistibile ebbene disgraziatamente questa figlia che si chiamava Pepita era orribile il suo aspetto esteriore comprendeva una chiostra di denti storti un seno cascante e un naso che sembrava un plastico della catena andina va bene che eravamo molto giovani sempre a caccia e non troppo schizzinosi ma Pepita era una sfida che nessun uomo sano si sentiva di raccogliere quando ci eravamo insediati nella locanda non avevamo pensato che la cucina potesse essere quella della trasponda del rio grande perciò restamo leggermente perplessi quando la prima mattina ci vediamo presentare per colazione solo dei tamales scaldi con caffè messicano i tamales sono in voltini di foglie di gran turco contenenti gran turco e carne macinata e insaporiti con peperoncino immersi nell'olio e cotti a vapore nota del traduttore se non avete mai trangugiato questa mistura di caffè posso descrivervela in poche parole cicoria con uno spruzzo di fango assolutamente non bevibile bisognava masticarla energicamente prima che la smettesse di rigurgitare e si decidesse a scendere giù per il gargarozzo i tamales a colazione erano un sostituto abbastanza inconsueto delle uova e non eravamo certo abituati a mangiare fagioli a pranzo ma quella sera quando la padrona di casa servì il suo piatto forte chili bollente con carne ci rendemmo conto che sebbene non fossimo in Messico i nostri stomachi erano pieni in Messico pieni di Messico i tre pastici si piazzarono sullo stomaco e passamo gran parte della notte a gemere a dimenarci e a rigirarci il menù di martedì e mercoledì fu uguale a quello del lunedì non variava di un solo peperoncino arrivati a mercoledì sera avevamo ingurgitato una tale quantità di roba piccante che passavamo la maggior parte del tempo fra un pasto e l'altro a trangugiare sorsate d'acqua nel vano tentativo di spegnere il fuoco che ci bruciava dentro dopo nove pasti messicani in tre giorni ci rendemmo conto che dei normali quantitativi di acqua non avrebbero risolto il problema solo un fiume copioso avrebbe fatto al caso nostro forse sarebbe andata anche bene una pompa antincendio ma disgraziatamente non ce n'erano nemmeno al comando dei pompieri i manovali messicani mangiavano con avidità quella roba come se fosse comestibile e chiedevano il bis noi lo odiavamo non la volevamo ma l'unica alternativa avrebbe potuto essere un pacco CARE Cooperative for American Remittance Everywhere organizzazione sorta dopo la seconda guerra mondiale per l'invio nei paesi bisognosi di aiuto di pacchi contenenti cibi e indumenti nota del traduttore a quei tempi però i pacchi CARE non erano ancora stati inventati quella sera mentre andavamo in camera Arpo illudendosi che con un po' di salti avrebbe potuto sbarazzarsi di quel fuoco che lo divorava si esibì in una sua interpretazione della cucaraccia la nostra camera conteneva due letti un catino una brocca e un minuscolo asciugamano per ciascuna vittima poiché l'acqua corrente non era ancora penetrata in questa parte del Texas il contenuto della brocca scomparve rapidamente sebbene fossimo nel cuore dell'inverno la stanza non aveva bisogno di riscaldamento i nostri quattro stomachi carichi di peperoncino di tabasco e di fagioli rossi emanavano un calore sufficiente a riscaldare non solo la nostra camera ma addirittura tutta la locanda secondo me noi quattro insieme avremmo potuto riscaldare il Madison Square Garden nella sera più fredda dell'anno mercoledì notte l'effetto cumulativo di questa dieta latina fece sentire le sue conseguenze dormimmo malissimo in mezzo a un concerto di brontolì gorgoglì imprecazioni inconsuete e altri rumori animaleschi giovedì mattina ci alzamo contro voglia sconvolti dal pensiero che dovevamo affrontare un altro giorno di foraggio messicano avremmo potuto mangiare a una tavola calda ma non avevamo soldi a quei tempi gli attori erano guardati con sospetto specie dagli albergatori e dovevano pagare in anticipo non c'erano altre alternative o mangiare ancora per tre giorni quella roba o morire di fame quella mattina quattro disperati giovanotti tennero un consiglio di guerra poiché ero l'unico coi baffi presi la parola ragazzi esordì mi pare si possa concordamente ammettere che siamo quattro tipi allegri amanti della vita giusto? i ragazzi assentirono all'unanimità orbene mi è venuta un'idea tanto luminosa che sembra perfino impossibile che sia venuta a me se funziona i nostri ultimi tre giorni se qui non saranno i nostri ultimi tre giorni se capite cosa voglio dire ascoltatemi attentamente tutti noi abbiamo visto ed evitato pepita la repellente figlia della padrona di casa orbene come attori e come fratelli di marx non è nostra abitudine ignorare una ragazza a meno che non sia del genere subumano ma se vogliamo rimanere vivi uno di noi dovrà compiere il sacrificio supremo per dirla brutalmente uno di noi dovrà passare una notte con pepita il prescelto dovrà dirle che è innamorato pazzo di lei e che l'unica cosa che li divide è questa cucina straniera sarà il suo compito persuadere pepita a farci dare dalla madre dei pasti americani per il resto della settimana vezseggiandola dolcemente le sussurrerà in una di quelle sue orecchie smisurate che non può vivere senza di lei ma che le vetovaglie ammanite dalla madre stanno suscitando l'inferno nei visceri suoi e dei suoi fratelli stringendola fra le braccia le prometterà che se lei riuscirà a fare questo per noi lui in cambio farà per lei cosa che nessun uomo mai fatto per una donna dai tempi dell'Eden nauseati come eravamo dal cibo il pensiero di un idillio con pepita non faceva che aumentare la nostra nausea a questo punto Arpo sempre illudendosi che degli scossoni violenti avrebbero alleviato il fuoco che gli ardeva nel tubo digerente si abbandonò a un'altra cucaraccia ed ora signori o fratelli se preferite sapete che per tradizione sotto le armi quando c'è da compiere una missione particolarmente rischiosa si richiedono dei volontari poiché noi per fortuna non siamo sotto le armi anche se staremo certo meglio che in questa fogna e poiché conosciamo pepita è ovvio che nessuno si offrirà volontario ho visto forse qualcuno che ha alzato la mano mi pare di no perciò poiché siamo tutti uomini d'onore propongo di tirare a sorte con i fiammiferi il fortunato permettetemi a questo punto una grassa risata avrà il piacere di trascorrere un'intera notte con quel giovane mostro facendo cose assolutamente innaturali vi chiedo cosa si può desiderare di più questa domanda suscitò un coro di risposte oscene che tralascerò di ripetere in questa sede non voglio l'ho già detto che questo libro vada a finire in tribunale per dirla in poche parole continuai il fortunato amante di questa notte non solo salverà i suoi fratelli e incidentalmente anche se stesso da un'intossicazione intestinale ma passerà una notte d'amore che scommetto ricorderà per il resto dei suoi giorni non appena le proteste furono cessate tirai fuori quattro fiammiferi e ci affidammo alla sorte ognuno in cuor suo pregava di essere risparmiato sono troppo gentile per dire il nome del disgraziato fratello sul cui capo si abbatte la punizione del fato i sopravvissuti deliranti di gioia per essere sfuggiti al contatto fisico con la bella pepita furono subito pronti a offrire consigli e incoraggiamenti il condannato versò qualche lacrima ma non gli fu di alcun sollievo perché sapeva che non aveva via d'uscita se avesse cercato di ritirarsi gli altri tre fratelli più fortunati lo avrebbero ridotto una polpetta giovedì mattina a colazione mentre lottavamo con la nausea davanti a un grande piatto di tamales quello del fiammifero più corto che chiameremo fratello X cominciò la sua campagna di occhiate da pesce e marcio e di sguardi assassini all'indirizzo della fanciulla messicana dire che l'interessata ne fu sorpresa e lusingata sarebbe dare una pallidissima idea della situazione in una casa piena di dieci uomini appassionati era la prima volta che un maschio la guardava con un'espressione che non fosse di ribrezzo poiché era una donna abboccò subito cominciò a mangiarselo con gli occhietti porcini e a sorriderli con tutti i denti accidentati lo scambio di muti messaggi amorosi continuò per tutto il pranzo dopo l'inevitabile cili della sera pepita era sua schiava al momento di uscire per andare a teatro il fratello X le chiese rabbrividendo di vederla dopo lo spettacolo più tardi mentre erano seduti sull'altalena in cortile lei gli disse che se desiderava qualcosa non doveva fare altro che dirlo ma prima di tutto mio bel signor desidero che mi vedano fra le tue brazza per quanto questa richiesta lo lasciasse a sgomento il fratello X non era un vigliacco senti oh mia rosa messicana le disse questa notte ti darò tutto me stesso trascurò di dire che dopo quattro giorni di intrugli messicani era rimasto ben poco di lui ma prima devo dirti qualcosa come sai i miei fratelli e io adoriamo i messicani siamo entusiasti delle vostre maniere delle vostre usanze e abbiamo sempre ammirato gli sforzi del vostro paese per conquistare l'indipendenza ma la cucina di tua madre anche se non sfigurerebbe di fronte quella di certi grandi ristoranti dell'est disgraziatamente non è quella cui siamo abituati e compromette quasi in modo irreparabile i nostri stomachi e la nostra libido amor mio disse lei facendo le fusa mi dispiace molto che la nostra cucina non sia di vostro gradimento questo fu l'euffemismo più incredibile della settimana ma qualunque cosa vogliate mangiare la mia mamma ve la preparerà baciami corazon ti amo quando gli si avvicinò lui istintivamente si tirò indietro mia cara pepita disse con un piede fuori dell'altalena tutto ciò che vogliamo della tua deliziosa mamma la quale già che ci troviamo a parlarne è affascinante quasi quanto te sono uova pollo fritto un paio di cotolette e gli alimenti base del nostro paese e così gentile lettore gentile ascoltatore tiriamo il sipario su quella che promette di essere la lotta più impari della storia da quando Davide affrontò Golia per citare John Milton la castità fratello mio la castità colei che la possiede è vestita di acciaio beh dovrete sicuramente dire anche voi così a proposito di pepita l'alba del venerdì mattina si presentò radiosa in cielo non c'era nemmeno una nuovola un leggero ponentino ossiorava l'orizzonte e udite udite portava in camera da pranzo un delizioso aroma di uova al prosciutto continuo ad astenermi dal dirvi il nome del fratello che passò buona parte della notte precedente col brutto natroccolo ma deve avere usato argomenti molto persuasivi a pranzo ci fu servito pollo fritto con gallette calde la cena di quella sera fu aglietata dalla presenza di enormi bistecche patate al forno e anguria il tutto completato da grandi coppe di gelato gli altri tre fratelli interrogarono in varo il martire sugli avvenimenti della notte precedente gli lanciarono i soliti frizzi banali quel tipo di battute volgari e stantie che vengono rivolte al disgraziato sposo durante l'ultima cena da scapolo ma il fratello X come tutti i grandi uomini che hanno fatto sacrificio di se stessi si rifiutava di parlare si limitava a sorridere debolmente Pepita invece era piena di esuberanze di Pepe e continuò a flertare spudoratamente col suo amante per tutti e tre i pasti ogni volta che lo guardava lui voltava la faccia dall'altra parte quando portava i piatti si strofinava contro la tavola nella vana speranza di riprovare il brivido che gli dava il suo corpo ma il fratello X non era pazzo quanto più lei si avvicinava tanto più lui allontanava la sedia dal tavolo pronto se necessario a ficcarcisi sotto o a scappar via appena deglutito l'ultimo cucchiaio di gelato il fratello X ignorando gli sguardi invitanti e gli aggressivi incitamenti di Pepita fuggì dalla sala da pranzo e andò difilato in teatro in camerino i suoi fratelli lo subissarono di lodi i ragazzi con gli stomachi liberati da quattro giorni di intrugli messicani fecero uno spettacolo magnifico per tutta la sera continuarono a dare pacche sulle spalle del loro eroe e a felicitarsi con lui devo dire che ciò disorientava il pubblico ma noi disorientavamo comunque quel pubblico quando recitavamo perciò la cosa non ci riguardava dopo lo spettacolo torniamo alla locanda e là c'era Pepita che attendeva Famelica un'altra notte di estasi seduta vicino alla porta annusava una rosa e aspettava il suo amante il nostro eroe stava in guardia quando vide da lontano la sua cariatide personale sulla porta scivolò sul retro della casa saltò attraverso una finestra aperta corse su in camera e si chiuse dentro a chiave sudammo sette camice per convincerlo che non eravamo Pepita dormimmo bene e tranquilli quella notte spuntò l'alba del sabato mattina come succede sempre dopo il venerdì era l'ultimo giorno della nostra permanenza in quel paese ci leccavamo i baffi pregustando i tre pasti deliziosi che ci aspettavano dopo esserci vestiti in fretta ci precipitammo in camera da pranzo l'idea che non c'è diavolo più infuriato di una donna disprezzata non ci sfiorò fino a che non apparve Pepita e sbatté sulla tavola un piatto enorme di tamales a pranzo ci servì fagioli e a cena avete indovinato chili con carne e caffè messicano vedete dunque che malgrado ciò che ne pensava Enrico VIII la strada che porta al cuore dell'uomo non passa necessariamente per lo stomaco in questo caso la strada che portava ai nostri stomachi passava per il cuore del fratello X e dovrei saperlo bene perché il fratello X ero io parte quinta filosofia marxista secondo Groucho capitolo 1 di che cosa ha bisogno questo paese desidero precisare innanzitutto che non sono candidato a niente la campagna per Marx alla vicepresidenza non ha mai avuto il mio appoggio né è andata mai molto lontano è stata lanciata da uno scuro californiano privo di qualsiasi esperienza politica che in quel momento bisogna dirlo era molto sbronzo tutta la faccenda fu assolutamente spontanea l'altra sera a un insopportabile banchetto si stava parlando della situazione mondiale quando quel tipo disse all'improvviso proponiamo Groucho Marx per la vicepresidenza naturalmente fui commosso chiesi perché si voleva fare questo onore proprio a me perché i miei amici mi volevano come vicepresidente perché farfugliò il mio sostenitore il vicepresidente di solito tiene la bocca chiusa dovrebbe essere un'esperienza interessante per lei capirete dunque che la campagna non ebbe un buon avvio il che va benissimo poiché come ho detto non sono candidato ad alcuna carica ma non mi fraintendete non si tratta di falsa modestia se qualcuno intende lanciare un'altra campagna la vicepresidenza mi calzerebbe come un guanto sebbene debba ammettere che mi ci vorrebbe un po' di tempo prima di abituarmi ad assistere le sedute del senato tutti i giorni ricordo che circa 40 anni fa un vicepresidente si rese famoso con la semplice affermazione che la necessità più impellente del paese era un buon sigaro da 5 centesimi in realtà ciò che serve al nostro paese è un buon nichelino da 5 centesimi escluso questo una buona tassa del 5 per cento sul reddito in realtà ho buttato giù alcuni appunti sulle cose di cui il paese ha bisogno e lasciando da parte la politica eccole qua per prima cosa la nazione ha bisogno di un buon sandwich al prosciutto mi riferisco al semplice vecchio oggi pressoché introvabile sandwich al prosciutto che fu un'istituzione nazionale fino a quando i proprietari di drugstores con la loro passione per mescolare le cose non ce lo rovinarono i drugstores sono negozi di farmacia e drogheria bevande gelati e generi alimentari vari nota del traduttore per fare un esperimento l'altro giorno sono entrato in un drugstore e ho ordinato un sandwich al prosciutto prosciutto con che mi ha chiesto il commesso con caffè ho risposto io voglio dire vuole prosciutto e tonno prosciutto sardine e pomodoro prosciutto beccone e broccoli e lo vuole con insalata di cavoli o di patate è solo prosciutto pregai un semplice sandwich al prosciutto senza nemmeno pomodoro o lattuga il giovanotto mi guardò sconcertato poi andò al banco a consultarsi con il farmacista che in quel momento era occupato a preparare manciate di pillole di secondal per alcuni clienti che avevano subito rovesci finanziari mi diede un'occhiata sospettosa e io scappai ecco le battaglie che deve combattere il paese un'altra cosa di cui ci sentiamo spaventosamente la mancanza è una giacca per portare il tabacco in modo da non essere costretti a tirarsi dietro una borsa voluminosa ingombrante è stata anche lanciata l'idea che i sarti facciano i vestiti di tabacco di modo che quando vi venisse la voglia di fumare la vostra pipa favorita non dovreste far altro che strappare un pezzetto di vestito e riempire il fornello ma non è un'idea geniale perché un vestito del quale fossero stati fumati dei brandelli sarebbe veramente poco pratico dove si potrebbero mettere il nastrino delle campagne e il dente di alce io proporrei invece di fare solo il panciotto di tabacco perché il panciotto è per suo conto un altro indumento inutile non è ornamentale non tiene molto caldo io credo che un bel panciotto di trinciato borli dolce guarnito di tabacco turco aumenterebbe di molto il comfort del maschio americano creando questo abbigliamento qualche sarto intraprendente potrebbe anche andare incontro a un'altra necessità un paio di pantaloni che si nascondano automaticamente di notte in modo che tua moglie non possa scoprire dove è nascosto il portafoglio l'idea di far scomparire i pantaloni può sembrare un tantino visionaria ma io ho fatto abbastanza progressi in questa direzione intanto sono già riuscito a rimetterci la camicia semplicemente sedendomi a un tavolo di bridge con mia moglie conosco un tipo che dichiarò due cuori avendo in mano solo tre punti e mezzo e sua moglie scomparve questo naturalmente risolse i suoi problemi da allora poter lasciare i suoi pantaloni fuori di notte ma questa soluzione non può essere raccomandata in linea generale perché io sono convinto che le mogli abbiano un posto ben definito in casa sono impagabili come madri e anche come informatrici infatti vi sapranno sempre dire quando la signora della casa accanto riceve l'automobile nuova la stola di pelliccia nuova o quando il marito la porta fuori a ballare le mogli sono persone che ritengono di non ballare mai abbastanza fatele contente e non dovrete più far sparire i pantaloni di notte perché nelle tasche non ci sarà più niente da nascondere un'altra necessità nazionale sono le lavanderie che vi mandino le camicie con gli spilli ben infilati in una cartina a parte invece di costringervi a togliere gli spilli a uno a uno dal colletto o se non li vedete in tempo dal collo fra il mio lavandaio e me c'è un'intesa ogni volta che lui mi colpisce con uno spillo io colpisco lui con un assegno fasullo le sue grida di dolore sono udibili da Calver City fino alla mia banca in Beverly Hills abbiamo bisogno anche di un aspirapolvere che non sibili come un Jet B707 quando cerchiamo di schiacciare un pisolino di 4 ore nel pomeriggio a costo di molto denaro e di molti fastidi io ho risolto il problema in casa mia ma come vi sarà facile vedere si tratta di un espediente ben lungi dall'essere la soluzione ideale ho collocato delle mine intorno alla porta della camera da letto i neutrali naturalmente sono stati avvertiti così se l'aspirapolvere viene a ronzare a 6 metri dalla mia stanza sarà un bello scherzetto per la nostra domestica l'unico svantaggio è che dopo un colpo centrato bisogna procurarsi un nuovo aspirapolvere è anche una nuova domestica e poi il guazzabuglio sul pavimento è notevole ma l'elenco diventa sempre più lungo come la camicia di Meo tuttavia prima di essere proposto come candidato alla vicepresidenza e prima che la mia lingua irrefrenabile possa essere frenata devo ancora sottoporvi alcuni piccoli saggi profondi dimostrativi del mio sistema la qualcosa mi ricorda che forse il paese ha bisogno soprattutto di pochi saggisti profondi capitolo 2 della parsimonia le persone che parlano dei bei tempi andati hanno di solito superato la cinquantina esse ricordano con nostalgia il cavallo e il calesse il tandem le caramelle a un penny e quel casotto in cortile che somigliava a una cabina telefonica ma che non lo era molte altre care cose sono scomparse ma perché proseguire se anche voi avete superato la cinquantina probabilmente le ricorderete bene quanto me il termine parsimonioso per esempio oggi non ha nessun significato il wall street journal dice che l'intero paese vive sull'orlo di un precipizio finanziario il governo è indebitato fino al collo e altrettanto dicasi per la maggior parte degli abitanti è come una scampagnata con un'auto rubata dicono ma pare che a Washington non se ne preoccupino affatto ai vecchi tempi quando la gente era povera viveva da povera adesso vive da ricca ho discusso questo argomento con molti lavoratori appartenenti alla categoria fra gli 8 e 10 mila dollari annui e nella maggior parte dei casi hanno ammesso che quasi tutto ciò che posseggono in realtà non è il loro le automobili i televisori le case e i mobili sembra che la loro filosofia sia al diavolo potremmo morire domani tuttavia se la loro previsione sballa di alcuni decenni molti di essi passeranno la vecchiaia in miseria la pulizia può venire dopo la devozione ma secondo me la parsimonia dovrebbe venire immediatamente dopo mi considero uno degli ultimi sopravvissuti di un'era al tramonto sono il tipo che spegne le luci quando esce dalla stanza chiudo bene i rubinetti dell'acqua per essere sicuro che non gocciolino anche se ho una cuoca vado personalmente al supermercato per scegliermi i cibi che lei alla fine rovinerà la gente si meraviglia quando mi vede al reparto verdura mentre valuto attentamente i meriti di due teste di cavolo o tasto i pomodori è occasionalmente una ragazza poiché la mia faccia è abbastanza conosciuta ciò mi procura spesso qualche imbarazzo ma non posso farci niente sono convinto che la parsimonia nel mio caso è un impulso innato che ha origine da un'infanzia oppressa dai debiti e che è irreversibile come l'età critica che ho superato alcuni anni fa c'è molta gente che la pensa come me ho diversi amici facoltosi che manifestano la loro frugalità in maniere particolari uno di essi per esempio si mette in tasca ogni giorno un fazzoletto pulito ma quando torna a casa prima di buttarlo nella cesta dei panni sporchi lo usa per un'ultima soffiata stentorea un giorno gli ho domandato perché facesse così e lui mi ha risposto cerco di sfruttare al massimo ogni fazzoletto e quando prendo un raffreddore non sono affatto scontento è allora che penso che vale la pena di spendere i soldi per la lavanderia ho un altro amico non credevate che ne avessi due vero? il quale guadagna circa 200.000 dollari l'anno è capace di portarvi da Romano fin Rolls Royce e poi di parcheggiarla due o tre isolati più lontano per evitare di dare la mancia al guardiano del posteggio ma non lo fa per taccagneria infatti vi spiega se vado in un ristorante caro dove spendo 50 o 60 dollari per la cena voglio che la direzione mi faccia parcheggiare la macchina gratis conosco un altro tipo che è completamente calvo e che però quando va al ristorante perfino d'inverno lascia il cappello in macchina per conseguenza si prende spesso dei terribili raffreddori e un paio di volte all'anno anche la polmonite ma dice che non gliene importa niente mi rifiuto di dare una mancia di 50 centesimi a una guardarobiera solo perché mi appenda il cappello a un gancio non ci farei caso se fosse lei a tenersi soldi ma a lei non va nemmeno un centesimo una parte del malloppo finisce nella cassa del ristorante e il resto va a uno di quei loschi sindacati di Chicago che controllano queste concessioni passo a mia moglie un cospicuo assegno ma quando ceniamo fuori vedo rosso nel momento in cui lei improvvisamente scopre di non avere sigarette mi tocca scucire un dollaro perché una pupa in minigonna mi dia un pacchetto di sigarette che avrei potuto comprare quasi dappertutto a 25 centesimi 75 centesimi buttati via a momenti il prezzo di un martini del quale ho disperatamente bisogno dopo aver sborsato un dollaro per un pacchetto di sigarette jack benny jack benny nella vita reale è una persona estremamente generosa ma in teatro il suo personaggio è quello dello spilorcio che rischierebbe la vita per un dollaro la sua avarizia suscita la sfrenata del pubblico che giudica molto divertente quella sua mania di considerare il denaro come una cosa che non si deve sprecare riderà bene chi riderà ultimo Fred Allen un gran duomo ragazzi ce l'avessimo oggi un'estate affittò un cottage nel Maine a 300 dollari per tutta la stagione poiché era un attore e poiché il padrone della casa era un tipo del Maine Allen dovette pagare tutta la pigione in anticipo ai primi di giugno una catena di giornali gli offrì 2000 dollari la settimana perché scrivesse una breve rubrica giorni alterni ciò accadeva molto tempo fa quando 2000 dollari per settimana erano ancora una bella sommetta ma Fred rifiutò l'offerta gliene chiese il motivo e lui rispose ho sborsato 300 dollari per quel cottage nel Maine e se accettassi questo lavoro dovrei restare a New York così ci rimetterei 300 dollari quelli della catena di giornali alzarono l'offerta a 3000 dollari e Fred rifiutò allora l'offerta fu portata a 4000 dollari e lui la rispinse ancora una volta perché non dimentichi quei 300 dollari gli chiesi con quello che ti danno in una settimana potresti addirittura comprartelo il cottage Allen aveva uno strano concetto del denaro era un uomo generosissimo ma non sopportava gli sprechi ed era anche estremamente cocciuto ho pagato 300 dollari per abitare in quel cottage questa estate e il padrone di casa non si beccherà i miei soldi per niente una volta recitai per una stagione nell'Orfeum Circuit con un comico molto divertente che si chiamava Doc Rockwell anche lui era parsimonioso a modo suo durante la prima settimana a Chicago Doc comprò 6 completi doppio petto di saia blu per 150 dollari e se avete un certo bernoccolo per la matematica capirete che ciò significa 25 dollari per completo avrebbe indossato ciascun abito per circa un mese e poi quando si fosse macchiato o sdrucito in qualche punto lo avrebbe buttato aveva calcolato tutto in questo modo spiegò non devo sostenere spese di lavatura e stiratura e per di più avrò sempre addosso un vestito nuovo fiammante anni fa quando lavoravo nel varietà la maggior parte degli attori erano soliti cenari all'automat i cibi erano eccellenti e sono convinto che lo siano ancora ma disgraziatamente non posso più andare a mangiare la a causa dei cacciatori di autografi per anni non ho fatto altro che elogiare come a figlia Melinda la funzionalità di questi ristoranti le raccontavo che non c'era da fare altro che munirsi la cassa di un mucchietto di nichelini e infilarli in varie fessure in 4 e 4 8 veniva fuori un pranzo da re ammesso che ce ne siano ancora in circolazione di re voglio dire l'ultima volta che andai a New York portai con me Melinda avevamo progettato di pranzare in un ristorante molto costoso ma lei mi chiese di andare invece all'automat io le dissi no non ti piacerebbe è terribilmente affollato e il mangiare non è buono ma papà disse Melinda solo poche settimane fa mi ha detto che ci si mangia come in qualsiasi ristorante di New York e beh l'ebbe vinta lei la pressione che un figlio può esercitare su un genitore è inimmaginabile a meno che non siate genitori così prima ancora di rendermene conto mi trovavo davanti alla cassa dello Horn & Hard Arts Automat dove ricevevo un numero di nichelini sufficienti per due pasti Melinda molto più eccitata che se si fosse trovata al 21 o al pavillon correva di qua e di là a infilare nichelini nelle fessure come se quello fosse il suo ultimo pasto io scelsi un sandwich al roast beef e inserì con cura dieci nichelini nella fessura relativa ma per una ragione che io ignoro lo sportellino di vetro non si aprì allora ci picchiai su delicatamente con una moneta ma lo sportello non si mosse provai a picchiare col pugno e all'improvviso da dietro la facciata di sportelli di vetro uscì di corsa un donnone che mi disse è lei quel tipo che bussava sono io risposi beh non sa che deve mettere dentro dieci nichelini per avere un sandwich a roast beef da 50 centesimi che succede è stupido cosa non è stato a scuola nel frattempo alcuni avventori attirati dalla discussione si erano raccolti intorno a noi e con mio sgomento mi riconobbero cercai di ignorarli e chiesi di nuovo il mio sandwich il pugile in gonnella disse vuole che le dica una cosa qui da noi capitano ogni giorno tipi come lei crede forse solo perché questo è un ristorante automatico di poterla fare franca a questo punto eravamo circondati da una folla notevole un fattorino di autobus si intromise per appostrofarmi ehi ma lei non è un divo della tv perché si mette a discutere con questa povera signora per uno schifosissimo nichelino prima di tutto perché viene a mangiare in un buco come questo se avessi i suoi quattrini non mi ci vedrebbe davvero a mangiare in un posto così con notevole dignità dissi sono venuto qui perché mia figlia voleva mangiare all'automat ah davvero e dov'è adesso sua figlia qui da qualche parte non sapevo che Melinda per non essere coinvolta quando era cominciata la buriana era sgusciata via e mi stava aspettando fuori era convinta di vedermi uscire da lì a poco a testa avanti la discussione con il fattorino di autobus e la lottatrice continuò e a quel punto tanto per rendere la situazione ancora più comica la gente cominciò a chiedermi l'autografo una donna robusta che mi stava alle spalle per chiamare la mia attenzione si mise a tirarmi le falde del cappotto per fortuna non mi afferrò ai pantaloni altrimenti dopo due strattoni sarei rimasto in mutande l'ispettore di sala o chiunque fosse magari era addirittura il direttore si fece strada tra la folla e mi disse mister marx io sono un suo ammiratore ma perché fa tutta questa scena per un nichelino dovrebbe vergognarsi e perché perché voglio il mio sandwich a roast beef lei sa che le nostre macchine non mentono se lei avesse messo dieci nichelini nella fessura dei sandwich a roast beef adesso si gusterebbe un ottimo sandwich come se ne possono trovare dovunque a New York la donna degli sportelli intervenne ne ha messi solo nove e lui sa che ce ne vogliono dieci per un sandwich a roast beef perché non ne mette dentro un altro e non si piglia il suo schifoso sandwich il direttore si rivolse alla donna con tono accusatore ho sentito male o lei ha chiamato schifosi i nostri sandwich oh no signore non volevo dire che i nostri sandwich sono schifosi si affrettò a spiegare il donnone volevo dire che lui è uno schifoso miserabile perché non tira fuori un altro schifosissimo nichelino tra il battibecco gli autografi che era stato costretto a scribacchiare e la preoccupazione che Melinda fosse ormai stata prelevata da qualche mercante di schiave bianche e caricata su una nave diretta in Brasile non vedevo l'ora di battere in ritirata non è per il nichelino ma per il principio restituitemi i miei dieci nichelini e me ne andrò a mangiare in qualche bettola dove sarò trattato con tutto il rispetto dovuto a un grande artista la donna la donna versò nove scellini nella mia mano rotondetta io li buttai in aria e dissi ecco e questo vi dimostri che per me il denaro non conta nulla uscì a gran passi presi Melinda e andammo al Colony dove facemmo una bella cenetta per 27 dollari e 60 e voglio annunciare a tutto il mondo che non metterò mai più piedi in un'automat fino a quando quei signori non avranno avuto la buona creanza di mandarmi il nichelino che ancora mi devono capitolo 3 della fortuna nessuno può avere successo senza fortuna potete avere il cervello di Einstein la stuzza di Barney Baruch e la saggezza di Toro ma se non avete dalla vostra la dea fortuna potete pure chiudervi in camera e aprire il rubinetto del gas non è un'affermazione gratuita fu Schopenhauer a dirlo un giorno che andava a caccia di cinghiali nella foresta nera per quanto ne so io non c'è una parola di vero in ciò che ho appena scritto su Schopenhauer intendo dire ma mi sento abbastanza con le spalle al sicuro fino a che quel pazzo in Russia continuerà a inquinare l'aria con ogni sorta di deliziosi residui atomici nessuno avrà il tempo di controllare la veridicità di una qualsiasi affermazione fatta da chi che sia su che 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 sia e ora che abbiamo sgombrato il campo da questa sconnessa introduzione parliamo della fortuna e della parte che essa ha nel successo se oltre alla fortuna vi capita di avere anche del talento allora amici miei siete a cavallo tutti faranno salti mortali per riuscire a comprare la vostra trappola per topi o qualsiasi altra cosa abbiate deciso di vendere è un concetto espresso concisamente alcuni anni fa da William Shakespeare quando scrisse c'è una marea nella vita degli uomini che colta al momento giusto trascina verso la fortuna Giulio Cesare atto quarto scena tre tutto si riduce a questo dovete essere al posto giusto nel momento giusto ma quando il momento giusto arriva farete bene a stare allerta durante i primi prosperi anni di Hollywood quando i cinque studi più importanti producevano la quasi totalità dei film che si vendevano in tutto il mondo coloro che guadagnavano quattrini a palate erano soliti sperperarli a piene mani come se avessero una zecca personale tutti grandi uomini e mezze tacche giocavano a polo tranne poche eccezioni non giocavano bene ma si divertivano a cadere da cavallo e se uno dei giocatori si rompeva una gamba lo finivano con un colpo di pistola il capo di uno di questi studi era un giocatore talmente accanito che raramente andava in giro senza una mazza da polo sotto il braccio spesso durante una riunione in cui si discuteva l'intreccio di un film ordinavano sceneggiatore di secondo piano di mettersi a quattro zampe perché lui potesse cavalcare per l'ufficio e mantenersi in esercizio il povero scribacchino non era entusiasta di fare la controfigura del cavallo ma non aveva molta scelta aveva bisogno di lavorare era uno sceneggiatore da strapazzo e per di più doveva passare gli alimenti a tre ex mogli poi fu inasprita la tassa sul reddito via via che aumentavano le aliquote i cavalli diminuivano molti cominciarono a vendere i finimenti dei cavalli da polo e di datori sudamericani i pochi puledri che erano rimasti venivano mangiati al barbecue a proposito fino a che non avete mangiato una coscia di cavallo da polo al barbecue non saprete che cosa sia vivere il polo smise di essere un barometro sociale e i divi cercarono sistemi più economici per far colpo poi qualcuno scoperse il tennis era uno sport che quasi tutti potevano esercitare e permettersi tutto quello che serve è una visiera per assorbire il sudore un po' di sudore un paio di scarpette con la suola di gomma calzoni di franella bianchi qualche racchetta e eh sì un campo da tennis alcuni diventarono piuttosto bravi un tipo che conoscevo che si chiamava Theodor Flonk desideroso di diventare il giocatore numero uno della città fece stirpare tutte le piante di arancio e di limone e perfino di fortunella per allestire un campo da tennis in piena regola nel giardino dietro casa Flonk era scapolo e viveva solo in una villetta molto graziosa sorvegliata e tenuta in ordine da un servitore giapponese Mr. Flonk prese l'abitudine di fare un set o due al mattino prima di andare allo studio nutriva fiducia che diventando un provetto giocatore avrebbe potuto aspirare alla direzione di uno studio però non gli era sempre facile trovare un avversario e senza un avversario non aveva nessuno che gli servisse la palla e peggio ancora che gliela rimandasse dopo che lui l'aveva battuta disperato chiese al servitore se voleva incaricarsi lui di rimandargli la palla il ragazzo fece un largo sorriso pieno di denti si inchinò profondamente e disse che sarebbe stato sommamente onorato di aiutare il suo molto onorevole padrone a perfezionare il suo gioco cosa sorprendente il ragazzo giocava piuttosto bene non tanto da battere il padrone ma abbastanza da rendere interessante la partita il suo datore di lavoro vinceva di solito per 6 a 2 o 6 a 1 ogni tanto quando aveva passato una nottata un po' difficile con qualche ragazza recalcitrante vinceva per 6 a 3 o 6 a 4 un pomeriggio mister flunk tornò a casa inaspettatamente giusto in tempo per vedere il servitore che ficcava tre bottiglie di whisky invecchiato in una valigia di fibra quel modo indegno di tradire la sua fiducia lo mandò in bestia aveva dato al ragazzo un salario generoso gli aveva assegnato un comodo alloggio gli aveva permesso di mangiare tutto quello che c'era in casa ovviamente non c'era motivo di restare scapolo se il servitore gli sgraffignava i liquori se doveva farsi derubare tanto valeva che si sposasse così con parole fredde e misurate informò il suo sleale servitore asiatico che poteva ritenersi licenziato da lì a due settimane gli fece osservare che non era in collera ma solo molto addolorato disse inoltre a quell'illegittimo figlio del sollevante che il furto di tre bottiglie del suo whisky migliore aveva scosso la fiducia che aveva riposto in lui perciò riteneva fosse meglio per il giovanotto impacchettare il kimono e le scarpe da tennis e sparire tuttavia gli serviva ancora per giocare a tennis e così la mattina dopo andarono sul campo come al solito in circa 12 minuti il ragazzo liquidò mister flunk per 6-0 6-0 se siete tifosi di tennis saprete che questo è il peggior punteggio con cui si possa perdere il primo giorno mister flunk attribui la sua ignominiosa ignominiosa sconfitta a pura e semplice fortuna il secondo giorno punito con un altro 6-0 6-0 diede la colpa alla stellina con la quale era uscito la sera prima il terzo giorno dopo aver perso perso con lo stesso punteggio dei due giorni precedenti cominciò a sospettare che quella faccenda non fosse solo opera della dea fortuna beh non vale la pena di continuare giocarono tutti i giorni per due settimane in quei 14 giorni il padrone non vinse un solo game prima che il servitore se ne andasse il suo ex datore di lavoro lo appostrofò come mai prima ti battevo tutti i giorni mentre nelle ultime due settimane non sono riuscito a vincere un set anzi nemmeno un game vede il signore disse il ragazzo con un sorriso mettendo in mostra due file di denti perfetti finché sono stato al suo servizio ho fatto quanto era in me per farla vincere si usa così in oriente sapevo che se avessi perso lei sarebbe stato felice così perdevo non è stato sempre facile poi signore dopo che lei mi ha licenziato non avevo più alcun motivo di farla vincere può essere vero ammise mister flunk umiliato ma ritengo di essere un tennista piuttosto in gamba come hai potuto battermi con tanta facilità ebbene signore disse il ragazzo inchinandosi profondamente non sono sempre stato un servitore non molto tempo fa sono arrivato qui dal Giappone e ho giocato a tennis ogni giorno in tutta l'America vede signore allora ero capitano di nazionale giapponese di tennis capitolo 4 del talento alcuni anni fa andò in scena a Boston una rivista di Ziegfeld fu una prima storica ma d'altra parte tutte le prime di Ziegfeld erano grandi avvenimenti quando hai detto Ziegfeld hai detto tutto aveva le ragazze più belle le scene più sfarzose e i comici più divertenti non vi dirò il nome della stella ma in una rivista in cui perfino i macchinisti venivano scelti per la loro bellezza questa creatura affascinante era addirittura uno schianto non valeva molto come attrice ma cantava discretamente e ballava quasi con la stessa grazia delle ragazze del balletto il che non era una gran cosa disgraziatamente non la conoscevo molto bene ma se anche l'avessi conosciuta non mi sarebbe servito molto dato che a lei piaceva bere e a me no inoltre da lì a poco un certo brasiliano proprietario di piantagioni se la prese e se la portò via non era alcolizzata ma si faceva tre o quattro robusti cicchetti prima e durante lo spettacolo nel primo atto il sipario si alzava su una scena campestre c'erano rose dappertutto e la vostra stella era seduta su un'altalena ornata con tanti fiori che sarebbero bastati a seppellire tutta la prima fila di poltrone quando seduce questo seducente esemplare di femminilità si dondolava sulla testa del pubblico cinguettando una canzone così idiota che sono convinto fosse opera sua diceva portami su portami giù portami oltre il muro del giardino ma nessuno si interessava la canzone non l'ascoltavano nemmeno erano tutt'occhi non c'era un marito che non fosse ipnotizzato da quella bellezza e non c'era una moglie che non fulminasse con lo sguardo il marito a filadelfia la giovane stella aveva cantato per due settimane strofe ritornello di quella canzone con scarso successo ma la sera della prima a boston sembrò che uno strano incantesimo avesse soggiogato il teatro e l'applauso fu assordante ci furono innumerevoli chiamate per otto volte la diva cantò il ritornello agitando le sue stupende gambe sulle teste degli spettatori la compagnia fra le quinte assisteva stupefatta a questa insolita ovazione i macchinisti erano perplessi Ziegfeld era tonito credo che nessun teatro sia mai stato testimone di un entusiasmo così sfrenato che cosa aveva aggiunto la ragazza la canzoncina da indurre il pubblico quella specie di delirio la verità è che non aveva aggiunto proprio niente aveva semplicemente tolto qualcosa quella sera memorabile aveva bevuto un numero di cicchette superiore al consueto e intontita dall'alcol aveva dimenticato di mettersi le mutandine la morale di questa storiella è triplice il talento se ce l'hai prima o poi viene a galla non serve a niente nascondere la fiaccola sotto il moggio infine se non ottieni il risultato giusto con una semplice addizione cambia sistema prova la sottrazione capitolo 5 della poligamia e del modo di praticarla sotto molti aspetti i governi assomigliano alle persone anche loro commettono errori alcuni dei quali madornali una delle più grosse smaronate dell'ultimo secolo la fece il governo degli stati uniti quando notificò ai mormoni che la poligamia doveva cessare altrimenti se avete studiato a fondo le faccende della vecchia America cosa che dubito altrimenti non sprechereste il tempo a leggere queste sciamenze saprete che in origine c'era una ragione pratica per cui i mormoni praticavano la poligamia la superiorità numerica delle donne era notevole e al fine di procurarsi una sufficiente produzione di marmocchi ai mariti veniva non solo permesso ma addirittura ordinato di prendersi un numero indefinito di mogli per mia disgrazia non ho avuto la fortuna di vivere in quel tempo perciò ho scarse nozioni in materia ma non mi è mai capitato di leggere che le donne mormoni fossero insoddisfatte mi duele dire che l'usanza della pluralità delle mogli sta scomparendo in altri paesi in certi posti c'erano gli harem in altri le concubine in alcuni paesi gli uomini lasciati da parte tutti gli eufemismi si scambiavano le puttane sperando a ogni scambio di combinare un affare la conclusione a cui vi sto portando è che il maschio in molti paesi pratica ancora una forma modificata di poligamia solo che il nome è cambiato in Francia per esempio non è insolito che un uomo abbia una moglie e un amante tuttavia se in aggiunta a queste due si permette uno svago con una pupa fuori via sia la moglie che l'amante si ritengono oltraggiate e l'amante marito tradittore rischia di trovarsi con un palmo di coltello fra le costole in alcuni paesi latini dove domina la chiesa è virtualmente impossibile ottenere il divorzio non so come il maschio agiri questo ostacolo ma le pressioni contro cui deve lottare non sembrano in alcun modo diminuire le sue attività extraconiugali nessuna imposizione può scoraggiare un normale maschio a sangue caldo dal guardare vogliosamente un bel pezzo di figliola che gli sculetta intorno mi rendo conto che questa non è un'osservazione originale sconvolgente ma è una cosa che tutti gli uomini capiscono e che la maggior parte delle donne sono restie a credere o ad accettare non ho intenzione di dire che tutti i mariti americani sono infedeli o con tre credo che la maggior parte dei mariti siano fedeli a modo loro Orazio dice ti sono stato fedele Zinara a modo mio è un'affermazione abbastanza cruda e Orazio dovrebbe vergognarsi di se stesso ho citato Orazio solo per farvi sapere che anche se sono un umile attore comico che ha sprecato i suoi anni migliori girando per i paesi più desolati d'America anch'io indottovi dalla disperazione e dalla noia ho sfogliato i classici e tu caro ascoltatore puoi scoprire che anche un poveraccio che ha adorato magari di contragenio la cultura può avere qualcosa da offrirti oltre alle profane disquisizioni sul sesso e sulle sue varianti e ti prego di scusarmi se chiamo il sesso profano profano come no che parola per descrivere questa sublime esperienza che madre natura ha inventato per tenerci ritti e qualche volta coricati tuttavia mosso dalla paura dall'ostracismo sociale dalla minaccia degli alimenti da passare o dal desiderio di mantenere la famiglia sotto lo stesso letto l'uomo medio reprime energicamente i suoi desideri normali e fondamentali ai miei tempi ho letto senza esagerare fiumi di parole sulle brame insaziabili dell'uomo medio per una donna diversa dalla moglie fatto strano mi è capitato raramente di leggere che una femmina bramasse qualcun altro che non fosse il marito di rado l'uomo coniugato medio che è sostanzialmente un babbeo tendente alle calvizie con lenti bifocali e pancetta incipiente si rende conto che forse la sua mogliettina dio buono può anche fremere magari per procura quando vede Rock Hudson o Tony Curtis che appioppa un bacio lungo tenero leva rossetto sulla bocca della creatura deliziosa che alla fine sedurrà non è concepibile che mentre se ne sta seduta nella poltrona di un cinema a sgranocchiare pop corn e a cercare di grattare via con il piede destro la gomma che si è appiccicata sotto la suola della scarpa sinistra desideri anche lei di trovarsi fra le braccia di Rock o di Tony al posto di quella smunta ingenue che lui sta tentando pubblicamente di sedurre immaginate una casa media in un grigio scialbo mattino quando il marito esce per andare a lavorare prima di andarsene dà alla moglie un bacio con la mira sbagliata che invariabilmente approda sull'orecchio sinistro e che difficilmente può essere considerato un sostituto del bacio appassionato che era solito darle quando la corteggiava sul sedile posteriore della vecchia Buick il fatto è vedete che il maritino è un po' inguaiato sta correndo in ufficio per cercare di persuadere la ninfomane che batte a macchina le sue lettere e che è ufficialmente conosciuta come la sua segretaria a ingoiare le pillole che lui si è fatto dare di nascosto dal farmacista altrimenti saranno licenziati tutti e due dall'organizzazione e dall'azienda e forse dovranno passare insieme il resto dei loro giorni con la misera lemosina che il governo elargisce ai disoccupati nel frattempo giù a casa non può darsi che anche la mogliettina specie dopo aver visto per tre ore rock ottoni che inchiodano sulla schiena delle ipotetiche vergini sente al desiderio di qualcuno che sia più giovane e fresco del marito di qualcuno con la pancia piatta e con un po' più di capelli sul cranio naturalmente non sulla pancia al marito mentre si trastulla in ufficio non viene mai in mente che sua moglie specie se i ragazzini sono a scuola o in un collegio abbia anche lei le sue brave tentazioni anche lei ha dei globuli rossi che le scorrono per le vene anche lei può avere il desiderio di essere stretta fra un paio di braccia muscolose e pelose anche lei non si eccita più per il bacetto dell'arrivederci al mattino e per il ritorno serale del suo lumacone dopo una giornata faticosissima in ufficio ci sono il macellaio il fornaio il portalettere il lattaio e il tecnico della televisione quest'ultimo personaggio a giudicare da quello che succede a casa mia passa forse più tempo nel salotto di mia moglie che nel suo alcuni di questi uomini sono giovani belli e disponibili può darsi che il loro abbigliamento non sia l'ultima moda come quello di rock o di tony che i loro riccioli non siano inanellati con altrettanta cura che il loro frasario non sia così romantico ma sotto quell'apparenza comune sono gli uomini anche sono uomini anche loro con le stesse passioni e gli stessi desideri che provano i più pagati eroi della celluloide disgraziatamente l'innamorato come il cacciatore trova il piacere maggiore nella caccia così che la donna più affascinante perde metà del suo fascino come il fiore perde il suo profumo quando un'avida mano può coglierla troppo facilmente deve esserci l'incertezza devono esserci difficoltà e pericolo diceva Sir Walter Scott grazie Sir Walter è una definizione classica in cui mi sono imbattuto molto spesso e sono felice che le opere di Sir Walter siano di pubblico dominio così non sono costretto a subire le ruberie di un editore per essermi appropriato di questa osservazione lei Sir Walter ha detto in sei righe quello che io ho cercato maldestramente di dire in sei pagine è evidente che il maschio normale non è molto cambiato dal tempo in cui Sir Walter scrisse queste immortali parole continua a essere un poco di buono ha ancora i costumi del più incrociato dei bastardi spero abbiate capito che quanto scritto sulle mogli è prevalentemente ipotetico e che perciò non deve essere preso troppo alla lettera secondo me la moglie è abbastanza contenta del suo piccolo mondo delle tonsile del bambino della pagela scolastica di un film ogni tanto di un brigio di un ramino del marito di quello zotticone che mentre scrivo queste parole se ne sta sdraiato sul divano e russa tanto forte da fare impallidire perfino una segheria e che dire di quell'essere sdraiato sul divano con la bocca da brutto spalancata e le braccia ciondoloni di quando in quando emette un sonoro grugnito che è il suo modo di partecipare alla vita familiare se amate gli animali saprete sicuramente che un cane quando dorme spesso guaisce in modo straziante e ha dei brividi convulsi ciò significa che sogna con nostalgia i bei vecchi tempi in cui era un lupo sempre a caccia e questo amici miei è esattamente ciò che sta sognando il cosiddetto capo di casa l'uomo non imparerà mai potrà conoscere la fanciulla dei suoi sogni una domenica mattina in chiesa o a un incontro di tennis o nel ristorante dove consuma quotidianamente la sua colazione di uomo d'affari con dessert venticinque centesimi in più come si è detto le ragazze sono dappertutto così presso a poco dappertutto il maschio può essere colpito dal dardo di cupido cosa lo ha attirato verso di lei gli occhi le gambe una misteriose dote femminile che nessun'altra donna sembra possedere è giovane graziosa romantica parla in modo abbastanza intelligente una volta che la loro conoscenza si è diventata più intima in senso buono naturalmente scoprono entrambi di essere estremamente felici quando sono vicini e infelici quando sono lontani e poi oh fausto giorno se lei è abbastanza furba da non fargli piombare addosso alla madre troppo all'improvviso si sposano per quanti coniugi felici o infelici conoscano essi ritengono assolutamente inconcepibile che qualcosa possa guastare la gioia che provano a stare insieme sono sicuro che se avessero avuto qualche dubbio o qualche sinistro presagio sulla loro felicità futura né un'appariglia di cavalli selvaggi né il padre di lei avrebbero potuto trascinarli all'altare è risaputo che un amore di fresca data è una forma di pazzia momentanea che solo un matrimonio immediato può guarire quello che questi patetici innocenti non sanno è che le tensioni e la stanchezza del matrimonio appaiono solo quando si è provata quella che in gergo marinaro viene definita una traversata difficile quando si considerano le trappole e i tranelli che li aspettano mi pare perfino incredibile che tante coppie restino unite ci sono un'infinità di ostacoli da superare l'arrivo dei figli nel momento sbagliato l'arrivo dei figli in qualsiasi momento l'esaurimento delle scorte di piatti i soldi non sottovalutate mai l'importanza dei soldi si dice spesso che il denaro non fa la felicità ed è senz'altro vero ma a parità di condizioni è una bella cosa poterne disporre dopo alcuni anni di matrimonio il sesso viene ridimensionato pensate di no? beh diciamo che non è più così importante come lo era in quei tre giorni meravigliosi passati alle cascate del Niagara o in quel weekend al Motel San Antonio a parer mio in una casa media cinque anni dopo la celebrazione del matrimonio i litigi più aspri riguardano i quattrini più che qualsiasi altro argomento un noto medico uno dei miei amici più cinici mi disse una volta che uno dei suoi amici più cinici noto sottaniere mitteleuropeo proclamava a gran voce che il suo matrimonio era molto felice e questo esclusivamente perché lui aveva sempre praticato l'adulterio con il suo curioso patois viennese l'amico del medico spiegava sebbene sebbene ami mia moglie per me il matrimonio è una transazione commerciale quando le sono infedele naturalmente mi sento colpevole quando mi sento colpevole metto a tacere la mia coscienza facendole un regalo molto costoso un gioiello la prima rata di un'auto straniera ogni tanto una pelliccia nuova se non mi sento troppo colpevole la mia coscienza mi permette a volte di sistemare la faccenda con cinque libre di pregiatissimo caviale sono convinto che lei ignora le mie scapatelle ma se anche le scoprisse non si trova forse in una situazione privilegiata rispetto alla media delle donne in cui i mariti sono fedeli ma non fanno mai regali forse questo è un caso isolato il marito medio non può mitigare la sua colpa con la corruzione perché in sostanza si tratta di questo è un espediente al quale solo i mariti più facoltosi possono ricorrere concluderò citando Lord Chesterfield il quale da anni fabbrica uno dei migliori tipi di sigarette americane e che sebbene ne abbia avuto la tentazione molte volte non si è mai piegato a produrre sigarette col filtro ha detto Lord Chesterfield e io cito nel matrimonio ci sono due cose l'amore e il denaro se vi sposate per amore avrete sicuramente alcuni giorni felici se lo fate per denaro non avrete giorni felici ma forse non avrete giorni difficili ai miei tempi ho letto dichiarazioni più chiare ma bisogna ricordare che Lord Chesterfield lavorava nel ramo delle sigarette e che i suoi organi del pensiero sono sicuramente intorpiditi dal fumo capitolo 6 del corpo umano ogni anno leggo articoli ottimistici ed entusiastici sulle nuove automobili che usciranno nel corso della stagione si preannuncia che avranno motori posteriori sedili di formalmedeide carrozzerie di molibdeno e volanti di marzapane nel caso vi venisse fame durante un lungo viaggio come quei ragazzi di Detroit riescono a tirar fuori una macchina ogni anno non ci potrebbe essere qualcuno che fabbrichi un uomo nuovo se c'è un congegno che ha bisogno di essere continuamente migliorato è proprio il corpo umano se il modello attuale è il capolavoro della vecchia madre natura evidentemente la tempata signora è un po' indietro coi tempi e le occorrerebbe qualche anno di scuola di perfezionamento cominciamo dal fondo e risaliamo ecco qua i piedi i piedi non sono affatto belli c'è forse uno solo dei miei ascoltatori che se ne andrebbe in giro con una ragazza che somigliasse ai suoi piedi sicuramente no i piedi sono di solito nodosi e malfatti perché sbattono sempre contro i mobili e i bordi dei marciapiedi e hanno un bisogno costante di scarpe nuove di calzini di supporti di cerotti e di forbici per le unghie ora venite un momento con me nel mondo della fantasia supponiamo che i vostri piedi assumano la forma di ruote non sarebbe la conquista scientifica del secolo potreste rotolare e trovare gli amici rotolare al supermercato e alla sera quando tornate a casa dal lavoro vostra moglie potrebbe legarvi un sacco aspirante intorno al collo e usarvi come aspirapolvere quando non vi usa come zerbino ora amici miei risaliamo per una cinquantina di centimetri cosa incontriamo una coscia flaccida poi scendiamo per alcuni centimetri e che vediamo giusto il ginocchio nessuno è mai riuscito a spiegare a che serva il ginocchio il ginocchio è una cosa di cui non vale la pena parlare dal punto di vista funzionale è un disastro ha un'articolazione che è sempre rugginita e bisogna dedicargli quasi le stesse cure che sono necessarie per far funzionare una falciatrice meccanica di seconda mano è vero che nei tempi andati il ginocchio aveva un ruolo importante nelle vicende amorose l'innamorato si lasciava scivolare dal divano del salotto e piombava su in ginocchio per dichiarare i suoi sentimenti alla fanciulla dei suoi sogni l'invenzione del motore a benzina però ha gradualmente modificato questo stato di cose il sedile posteriore di un'automobile parcheggiata nel locale cinema drive-in si è rivelato molto più pratico e dopo pochi anni il divano del salotto è diventato un vecchiume inutile e roso dalle tarme e la fanciulla dei suoi sogni nel frattempo ha avuto quattro figli era un film lunghissimo la pancia o trippa è una parte molto importante del corpo umano soprattutto se tra canni birra in quantità ma sono sicuro che un buon progettista avrebbe potuto combinarla molto meglio la pancia ha due funzioni serve a contenere il mangiare e quel che più conta è il mezzo riconosciuto indispensabile per tenere su i calzoni per disgrazia dobbiamo respirare il che significa che quando inspiriamo i pantaloni scendono dai 5 ai 10 centimetri lasciando le mutande a mezz'asta questo si sarebbe potuto facilmente evitare stendendo l'osso iliaco di 15 centimetri per parte allora i calzoni sarebbero stati su naturalmente senza bisogno di cinture o di bretelle e il di dietro dei pantaloni maschili non si abbasserebbe come se ci fossero dentro tre o quattro padelle delle braccia meno si parla meglio è spuntano fuori dal niente ciondolano avanti e indietro senza scopo e danno a loro proprietà un aspetto grottesco e incompleto perfino il brutto babbuino che si ritiene sia a parecchi gradini più in basso dell'uomo nella scala sociale è meglio equipaggiato le braccia del babbuino adulto sono abbastanza lunghe perché l'animale possa toccare il suolo senza bisogno di chinarsi la qualcosa gli consente di cogliere le banane quando va a zonzo per strada nonché di raccogliere le cicche dei sigari e le monettine nei rigagnoli senza compromettere la sua dignità il collo è un tubo di scarico che esce dalle spalle e scompare nella base della testa di solito è completato da un pomo d'adamo e da un colletto sporco il pomo d'adamo è una specie di polpetta di media grandezza che continua ad andare su e giù nella parte anteriore del collo cercando disperatamente la sua compagna è una sciagurata mostruosità che la natura scontenta dell'opera sua ci ha piantato lì e noi non possiamo farci proprio niente molte persone cercano di coprirlo nodandosi intorno a una cravatta ma nella maggior parte dei casi le cravate sono ancora più brutte dei pomi il collo sarebbe molto più utile se fosse fornito di cuscinetti a sfere ciò permetterebbe alla testa di ruotare completamente sul suo asse verticale e se necessario di tornare alla fine nella posizione originaria fornito di una testa girevole l'uomo potrebbe incontrando per strada una fata che va nella direzione opposta girare rapidamente la testa per guardarla e considerare l'opportunità di passare con lei il pomeriggio ruotando la testa di quando in quando nell'altra direzione ridurrebbe anche il pericolo di andare a sbattere contro un pedone e forse contro la moglie esattamente così e questo ci porta i denti le sentinelle della bocca l'uomo medio spende il 50% di quello che guadagna per la famiglia il 25% per le pupe e il 25% per le zanne guardiamo nella bocca di un uomo che ha appena festeggiato il 50esimo compleanno che cosa vediamo oltre a un pezzetto di torta al residuo del festino noteremo una raccolta eterogenea di intarsi di otturazioni in cemento di capsula in porcellana e la lingua sporca in effetti c'è praticamente tutto fuorché i denti ma si può darne la colpa ai denti certo che no i denti sono spettatori innocenti loro non hanno chiesto affatto di far parte della bocca se fossimo stati costruiti in modo scientifico non ci sarebbe nemmeno una bocca naturalmente mi chiederete e come faremmo a mangiare per essere sincero non lo so ma ci penserò durante il prossimo weekend e adesso veniamo alla gloria suprema dell'uomo i capelli il cranio è senza dubbio l'unico posto dove i capelli non possono allineare in quantità abbastanza soddisfacente nella maggior parte dei casi tutto ciò che lo scalpo riesce a mettere insieme è una superficie liscia e sdrucciolevole squallida come la valle della morte forse l'agricoltura scientifica potrà risolvere questo problema molto tempo fa a Washington i contadini quando non erano troppo occupati a chiedere sempre maggiori sussidi per le granaglie o il succo tash che è un termine di derivazione indiana con il quale si designa una pietanza di fagioli e chicchi di gran turco scoprirono che i loro terreni si sarebbero impoveriti se non avessero provveduto alla rotazione delle culture per esempio se un anno seminavano frumento l'anno dopo dovevano seminare gran turco cavoli o nei casi disperati anche melanzane ora non sarebbe ragionevole pensare che anche lo scalpo potrebbe rispondere a un trattamento analogo d'inverno potremmo farci crescere i capelli sulla testa e a primavera quando i capelli cominciano a farsi radi e a cadere nella minestra potremmo orare lo scalpo e piantarci i fagiolini raccomando i fagiolini in particolare perché sono verdi e ricci raggiungono una bella lunghezza e richiedono poche cure verso ottobre si potrebbe coglierli e farci una bella insalata l'anno dopo si potrebbe fare la stessa cosa con i cavoli uno potrebbe avere una testa di capelli d'inverno e una testa di cavolo d'estate potrei andare avanti all'infinito facendovi rivelare gli errori spaventosi commessi della natura ma non ho tempo e se i miei ascoltatori vorranno esaminarsi reciprocamente con attenzione e onestà ammetteranno senz'altro che tutto ciò che ho detto sul corpo umano è stato a dir poco e eufemistico epilogo dalla sedia a dondolo nell'incerta penombra un ometto sottile e grinzoso oscilla incessantemente avanti e indietro su una vecchia poltrona a dondolo è il nostro ex irresistibile libertino fuma con calma da una scura pipa di schiuma la luce che viene dal cammino diventa sempre più fioca il focherello è circondato da braci il cui debole splendore rivaleggia con le passioni che un tempo divamparono nel cuore del nostro adone un pallido sorriso gli increspa le labbra mentre ripensa le sue molte conquiste alle bellezze internazionali che sono capitolate davanti ai suoi occhi fiammeggianti e al suo gaio sembiante le fortunate che non gli poterano dire di no passano danzando allegramente nei suoi ricordi le poche infelici che lo rispinsero avanzano tristemente e si allontanano maledicendo lo stolto fato e le aprivate dei brividi che avrebbero potuto provare se fossero state abbastanza audaci ad accettare la sua sfida e tuffarsi nel mare delle passioni con un sorriso ancora più ampio rievoca le volte in cui è sfuggito per miracolo ai mariti adirati e agli amanti infoiati il nostro eroe non ha rimpianti per tutta la vita si è dissetato con avidità alla fonte dell'amore e accolto imparzialmente e a piene mani frutti succulenti riservati a coloro che non hanno paura della vita e che vivono solo di lussuria sprezzanti dei pericoli che si celano fra le braccia di una donna se lo avesse desiderato avrebbe potuto essere un principe dei contabili in un ufficio amministrativo un comandante nell'esercito un amleto in teatro ma fin dalla più tenera età era stato segnato da un destino erotico sapeva che lo scopo principale della sua vita sarebbe stato quello di inseguire instancabilmente la femmina provocante e inafferrabile forse anche lui potrebbe essere definito un cacciatore non di brutali orsi grigi o di giganteschi elefanti e certamente non diruggenti leonesse gelose della loro prole l'immagine del cacciatore che il mondo conosce è quella di un giovane che non è mai cresciuto e che non crescerà mai è un ragazzo che non ha mai raggiunto l'età virile parte per la giungla armato dei soliti attrezzi occorrenti alla bisogna la carabina il macete e la guida indigena è pronto ad abbattere in men che non si dicano animali innocente che per difendersi non ha altro che due file di denti e qualche misero artiglio e questo forse è un cimento per un maschio adulto no signori miei non è un cimento maggiore di quello cui ci esponiamo quando per possedere una donna la facciamo nostra attraverso il sacro vincolo del matrimonio sappiamo tutti che sulla faccia della terra non esiste donna capace di resistere una mano che le viene offerta in matrimonio da noi imbecille disposto a sgobbare come un bue per lei fare l'amore con la propria moglie è come sparare a delle anitre immobili il vero conoscitore del sesso se ne infischia di un amore conquistato in maniera così banale quello che vuole è un rapporto transitorio egli rifugge dall'anello noziale certo desidera il corpo palpitante della femmina ma senza cerchietti di platino senza legami che lo vincolino quando lei si è arresa lui se ne va a razzolare in altri pollai con i doni di cui la natura gli è stata prodiga non ha problemi le donne sono creta nelle sue mani cera che si scioglie sotto il fuoco dei suoi occhi le plasma suo piacere questo è il segno che contraddistingue il vero cacciatore ma perché proseguire è stata una lunga meravigliosa sciarada quello che oggi è solo un ex libertino non ha mai perso la saggezza è perfettamente conscio del decadimento sessuale che l'età distribuisce in ugual misura all'eroe e al codardo è conscio dei suoi limiti si rende conto che il cigolio che sente non viene dalla sedia a dondolo ma dalla sua carcassa vizzita che geme dalla disperazione egli sa che per tutte le sue cosiddette conquiste per le sue vittorie anche se non completamente di pirro ha dovuto pagare uno scotto inevitabile ma ora anche l'ultimo tenue bagliore fra la cenere è scomparso le palpebre si fanno pesanti ed egli piomba in un sonno profondo no caro lettore caro ascoltatore non è morto ma tu e io lo sappiamo è come se lo fosse nota sull'autore di Groucho Marx scrivere un'autobiografia di Groucho Marx sarebbe stupido come leggere un'autobiografia di Groucho Marx non si può metterla in parole sulla carta così come non si può strappare Lorenz d'Arabia in burnus e turbante dalle calde sabbie del Medio Oriente per trasferirlo su squalli di fogli stampati per quanto possa sembrare incredibile questi due uomini ebbero molte cose in comune entrambi ebbero una forte vena di mesticismo Lorenz dall'aria triste e malinconica taciturna e reticente Groucho dallo sguardo penetrante e dall'andatura goffa tuttavia entrambi in men che non si dica tanagliarono l'immaginazione di milioni di seguaci fanatici perfino il ragazzino che alla mattina frigna e si lascia trascinare contro voglia a scuola ha sentito parlare di loro ha letto le loro gesta dubito che il prossimo futuro e perfino i secoli a venire possano vedere la fine della morbosa e generalmente oscena speculazione che fiorì intorno a queste due eroiche storiche figure questa generazione che vive sotto il terrore costante di essere distrutta da una guerra mondiale può tuttavia considerarsi estremamente fortunata per aver potuto respirare la stessa aria sullo stesso globo che dia di asilo a questi due personaggi leggendari così diversi eppure così simili Lorenz d'Arabia che scorrazza sulle enormi distese del deserto misterioso col suo veloce destriero o che si sposta lentamente con tutto comodo sul suo cammello a due gobbe arrivando puntuale all'appuntamento con chissà quale destino e dall'altra parte del globo Groucho l'inevitabile che vive precariamente ai margini del limbo privo di corsiero o di dromedario che si trascina di qua e di là sul cavallo di San Francesco malgrado tutto con spirito indomito che se ne va fischiettando per i boulevards con quel sorriso furbo con quelle occhiate assassine irresistibili Groucho aveva una dote impagabile benché fosse loquace come la vergine più frustrata e affamata di sesso quando era in ballo l'onore di una bella quando era in ballo l'onore di una bella donna era capace di tenerla bocca tanto chiusa che nessun uomo al mondo avrebbe potuto fargliela aprire e questo per una ninfomana e coniugata media significava più di quanto possa dire qualsiasi parola così caro lettore caro ascoltatore sebbene questi due uomini siano vissuti in mondi tanto diversi e sebbene io non sia un veggente e nemmeno un profeta posso predire che un giorno essi si incontreranno forse su un altro pianeta forse sulla cima di una montagna forse a cavallo di un monsone nei cieli dell'oceano indiano questi sono uomini che fanno meditare e finisce così memoria di un irresistibile libertino e grazie a tutti grazie di aver ascoltato fino a qua grazie